Iniziamo i nostri lavori. Buongiorno a tutti, ringrazio Giuseppe Lopresti che poi interverrà, che è il nuovo direttore generale della direzione, si chiama per il risanamento ambientale, quindi nella nuova riorganizzazione del Ministero avrà la responsabilità sul tema delle bonifiche, ringrazio ovviamente i colleghi di Ispra che hanno pensato di organizzare questo convegno, i colleghi delle ARPA, il direttore di ARPA Sardegna, ringrazio ovviamente tutti i colleghi di altri istituti, l'Istituto Superiore di Sanità, tutti coloro che oggi sono qui presenti per discutere di questo tema, che sembra un tema volendo molto specifico, ma la platea l'ho già vista, sono tutti addetti ai lavori, quindi non è che ho bisogno di dire più di tanto, che la questione che è relativa all'analisi del rischio dei siti contaminati, analisi del rischio, la cui applicazione alla distanza di un po' di tempo ne ha mostrato, così almeno come oggi viene applicata rispetto alla 152, tutta una serie di criticità che hanno indotto appunto Ispra e le agenzie all'interno del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, all'interno dei nostri gruppi di lavoro, adesso non vi do una overdose di sinonimi, di acronimi, però all'interno il sistema lavora organizzato attraverso tavoli istruttori, attraverso gruppi di lavoro è uno dei temi sicuramente importanti riguardo appunto il tema di tutto ciò che è collegato al tema delle bonifiche. Abbiamo fatto questa esperienza sulle linee guida legate al cosiddetto soil gas, di cui stiamo ancora discutendo una serie di aspetti con una visione non proprio collimante tra noi e il gruppo di lavoro che ha licenziato questa guida e un pezzo del sistema dell'impresa. Quindi anche nella nostra metodologia di lavoro, per quanto le linee guida come noto tecniche non sono strumenti normativi, non sono strumenti cogenti, ma è anche vero che sempre di più in vari contesti le linee guida tecniche vengono poi prese come punto di riferimento ovviamente anche da altre amministrazioni che non sono le nostre. Allora e poiché sul tema dei siti contaminati c'è un interesse di diverso tipo, sia da parte ovviamente del sistema delle aziende ma anche su tutti gli aspetti procedurali legati anche agli aspetti legali e amministrativi, insomma è evidente che le regole d'ingaggio, diciamo così, dovrebbero essere il più possibile condivise, quindi sia nel sistema pubblico ma anche in un confronto con il sistema privato che poi deve applicare. Dopodiché una volta che le regole d'ingaggio più o meno si condividono ognuno ha il proprio mestiere da fare e si va avanti. Quindi l'aver impostato o iniziare a impostare un ragionamento sul tema dell'analisi di rischio mentre si sta facendo partire questi gruppi di lavoro cercando di avere un confronto attraverso workshop specifici come questi ma poi presumo faremo anche o ci saranno anche incontri magari con il mondo dell'associazionismo imprenditoriale, credo possa essere utile poi per ragionare poi insieme al Ministero che ovviamente deve poi intervenire da un punto di vista regolatorio per cercare di avere un quadro che sia il più chiaro possibile, cosa che oggi non è. Poi non so se lo dirà Giuseppe, siamo in una fase di impostazione del collegato ambientale di questo strumento molto complesso ma anche molto interessante che può consentire di rimettere mano a un pezzo importante della legislazione ambientale soprattutto su quella che magari non ha dato i risultati sperati, può essere anche l'occasione per mettere un po' d'ordine in una parte della 152 che riguarda le bonifiche che oggi è abbastanza frammentata, si trova anche in tante norme perché poi nel corso del tempo la parte del 152 è stata di volta in volta modificata a seconda anche delle problematiche e quindi anche il quadro normativo e regolatorio è abbastanza spezzettato per cui la possibilità di riuscire a mettere un po' d'ordine partendo anche dal fatto che c'è un gruppo di lavoro che stanno partendo del sistema e quindi la parte tecnica e la parte diciamo ministeriale che si sta di fatto partendo con una nuova riorganizzazione credo sia un'occasione buona per partire col piede giusto poi ripeto stiamo affrontando l'analisi dei rischi di risciti che è un pezzo fondamentale di tutta la procedura delle bonifiche non è detto che ci siano altre questioni da poter da dover e da poter affrontare quindi io davvero ringraziare tutti i colleghi che hanno pensato ad organizzare anche in questo modo il convegno direi nell'augurarvi come si suol dire un buon lavoro do la parola poi dalla parola giuseppe lopresti per il suo piccolo saluto ma anche un'introduzione diciamo di merito di contenuto sulle sulle questioni insomma che poi dovremo affrontare insieme grazie grazie io sono direttore della nuova direzione di sanamento ambientale con lo specifico compito di gestire la normativa sulle bonifiche e la prevenzione del danno ambientale da un mese da quando scattavo le riorganizzazioni al primo gennaio prima mi occupavo di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale le autorizzazioni integrate ambientali ovviamente questa materia io ho già affrontato seppure da un altro lato il problema delle bonifiche c'è una particolare attenzione del governo e del ministro nei confronti di questa materia tant'è vero che nel proverire del tempo è acquistito sempre più importanza considerate che la parte delle bonifiche prima era insieme ai rifiuti all'acqua e al dissesto in un'unica direzione poi si si è resi conti a mano a mano della necessità di una disciplina più specifica anche a livello di governo fino a arrivare poi a una direzione dedicata evidente che quest'anno per quanto mi riguarda sarà un anno fondante sia sotto il profilo normativo sia sotto quello delle procedure il ministro nel collegato ambientale c'è l'intenzione del governo di mettere una delega piena per riscrivere il titolo quinto quello delle bonifiche e la parte sesta quella relativa al danno che come sapete non sono di derivazione comunitaria almeno il danno lo è solo in parte non essendo di derivazione comunitaria hanno sempre sofferto una scrittura diciamo meno definita meno analitica di quella che derivava dalla direttiva comunitaria come può risultare tutto il meccanismo delle bonifiche in Italia non è un meccanismo condiviso a livello comunitario molti paesi non lo hanno e devo dire si fa difficoltà anche a Bruxelles a far passare direttive sull'uso del suolo o direttive specifiche sulle bonifiche perché c'è una resistenza fortissima di alcuni paesi specialmente al nord quindi noi sotto questo profilo siamo all'avanguardia dall'altra parte però scontiamo la mancanza dei principi comunitari i principi comunitari comunque spesso sono una coperta che aiuta invece sono tutti i principi nazionali in questa logica nell'emore della definizione di quella che sarà un processo perché il collegato ambientale figura un po' di tempo per approvarlo per ottenere la delega sempre in Parlamento ma non dovrebbero esserci problemi stiamo costituendo un gruppo di lavoro per definire la modifica e l'aggiornamento di tutti gli allegati al titolo quinto che sono una parte fondante della scarna disciplina del titolo quinto in materia di bonifiche e in particolare l'allegato sull'analisi di rischio perché in realtà il titolo quinto non dice che cos'è l'analisi di rischio ci dice che bisogna fare l'analisi di rischio e poi dice andatevi a leggere l'allegato per capire che cos'è quindi è fondamentale rivedere l'allegato e aggiornare un allegato che ormai sono passati quanti? 20 anni dall'originaria formulazione quasi 20 anni deve tener conto delle esperienze maturate, delle difficoltà incontrate e aggiornare un documento che è molto importante rispetto alla logica della bonifica integrale e della rimozione integrale di tutto quello che c'è a volte fino al centro della terra si diceva che abbiamo visto che è una logica economicamente non sostenibile ma anche a livello territoriale non necessariamente la più utile quindi oltre a questa definizione mi dico conto nei prossimi mesi di avere i nuovi testi adesso costitueremo un gruppo con gli SS, lo stiamo facendo, il sistema agenziale e il ministero di avere i nuovi testi degli allegati che come sapete non necessitano di una modifica normativa si modificano con provvedimenti amministrativi, con decreti di concerto, di intesa con la conferenza unificata che a volte sono più lunghi della legge, però cercheremo di abbreviarli di abbreviarli, cercare di sin dall'inizio ottenere dei contenuti condivisi in modo che poi la procedura di approvazione sia la più semplice oltre a questo stiamo cercando di partire con una razionalizzazione delle procedure interne che poi potranno essere anche omogenizzate con le procedure regionali stiamo parlando prima con lui di definire i contorni dell'avvalimento del sistema nazionale del sistema a rete delle agenzie per definire i ruoli di ISPRA e il ruolo delle agenzie nell'ambito della collaborazione, sto parlando ovviamente dei SIN nell'ambito dei SIN di interesse nazionale basta che sia definito con chiarezza chi fa cosa perché adesso ci sono dei margini di ambiguità quindi dobbiamo anche definire ruoli e competenze del sistema agenziale in quest'ambito è evidente che un'altra cosa importante che dovrebbe essere realizzata a breve stiamo facendo una linea guida ministeriale per la valutazione delle interferenze nell'ambito dell'autorizzazione degli interventi nei siti di interesse nazionale perché una delle cose, una delle cose di bottiglia che c'è stato negli ultimi anni nei SIN è che alla fine qualsiasi trasformazione urbanistica qualunque comune che voleva fare nei SIN chiedeva l'avviso del ministero per verificare le interferenze e questo era dal pollaio della signora al grosso capannone industriale è evidente che è un sistema che non si tiene perché non è neanche normato peraltro perché non c'è nessuna specifica norma in questo senso stiamo cercando di mutuare dicendo che il ministero farà delle valutazioni caso per caso nei casi più importanti appunto il grosso capannone industriale, il grosso impianto per quanto attieni il resto stabiliremo delle linee guida come fare le indagini preliminari e poi sostanzialmente ci sarà il tecnico abilitato ti dico che devi fare se poi risulta contaminato vediamo di fare qualcosa altrimenti vai avanti e altra cosa importante come linea programmatica e speriamo di farlo entro l'anno è di fare un sito delle bonifiche un portale delle bonifiche che adesso manca e manca anche la fase della partecipazione del pubblico perché proprio perché non è di derivazione comunitaria non è stato recepito quello che comunque è un principio della convenzione di Arus che il pubblico deve essere messo a conoscenza non soltanto degli esiti della valutazione delle amministrazioni ma anche del concreto formarsi della volontà di conseguenza almeno sin da subito tutti i procedimenti almeno di mia responsabilità è stata introdotta una fase di consultazione per cui si raccoglieranno osservazioni del pubblico su tutti i progetti di decisione che possono essere sia il progetto di bonifica sia la caratterizzazione tutti gli altri provvedimenti che attraverso conferenze di servizio esincrone e asincrone porteranno a provvedimenti del ministero la fase di consultazione è fondamentale perché tra l'altro ha anche un vantaggio in termini procedimentali perché se si consulta il pubblico prima e si trovano una serie di soluzioni rispetto alle osservazioni si evita poi in alcuni casi di andare a scontri con il territorio che tra l'altro spesso sono motivati da incomprensioni o anche solo dal fatto che il territorio non è stato coinvolto se non a livello di enti ma non a livello di associazioni nel formarsi della decisione il principio comunitario che tutti i progetti di decisione in materia ambientale debbano essere messi a disposizione del pubblico che possa fare le osservazioni secondo me è un principio che comunque si applica anche a questa normativa questo era nel darvi un saluto e un auguro di buon lavoro su questa questione e ripeto la questione di analisi di rischi è molto importante perché io conto molto sugli esiti anche di questo lavoro per ridefinire l'allegato quindi ci sarà un effetto diretto di quello che si deciderà oggi e si vedrà oggi rispetto alle attività future non posso che dire che spero che quest'anno o questi mesi io conto che quest'anno sarà piuttosto fondante sarà un anno di creazione e ridefinizione di tutto il ministro ha rappresentato la volontà molto ferma in comunicati ma anche creando una direzione di andare in questo senso di conseguenza mi auguro che ci rivedremo a fine anno con un consultivo di buon lavoro fatto intanto buon lavoro per oggi grazie a Giuseppe Loprest che ha messo giù quelle che possono essere delle linee guida anche interessanti per poter insomma provare a far sì che questo meccanismo sia un pochino più proficuo di quello che è stato fino fino ad oggi bene anche l'idea del portale noi abbiamo già detto che siamo ovviamente disponibili a collaborare su tutto così come anche il sistema è a disposizione insomma le questioni sono diverse sul territorio alcune molto complicate lo sappiamo però c'è la volontà per provare a risolvere l'accento bene ora adesso io darei la parola a Antonella Vecchio che diciamo introduce un po' l'argomento di oggi prego lei viene qua noi ti lasciamo grazie a tutti buongiorno a tutti ringrazio moltissimo il direttore Lopressi per essere intervenuto insomma aver partecipato ai lavori di questo convegno e sostanzialmente il mio intervento sarà un intervento introduttivo diciamo poi sulla sessione più squisitamente tecnico-scientifica allora vi parlerò brevemente delle attività del sistema sull'analisi di rischio che non riguardano diciamo gli ultimi anni ma come dire vengono da molto lontano e in particolare introduco diciamo il gruppo di lavoro che per il sistema si occupa dell'argomento analisi di rischio e l'obiettivo è come dire chiaro è quello di rivedere i documenti tecnici che sono i due manuali criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati e criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio alle discariche che negli anni sono diventati soprattutto il primo quello relativo ai siti contaminati ormai documentazione di riferimento per la redazione di tutti i documenti tecnici relativi all'analisi di rischio il coordinamento è di Ispra la partecipazione è numerosa delle agenzie perché abbiamo 15 agenzie regionali che partecipano al gruppo e abbiamo soprattutto in continuità col gruppo di lavoro che ha elaborato il manuale coinvolto chiaramente gli istituti istituti superi sanità e INAIL per le tematiche di specifica competenza perché parliamo di analisi di rischio sanitario ambientale quindi gli aspetti sanitari e di tutela dei lavoratori sono come dire molto importanti ci siamo insediati a fine 2018 e come dire abbiamo per essere come dire trascorso praticamente un anno dall'inizio delle attività devo dire che le attività sono state frenetiche abbiamo lavorato già tanto nella definizione degli obiettivi nell'individuazione delle criticità e poi lo vedrete alla fine della presentazione abbiamo emanato anche un primo documento tecnico per cui come dire non ci siamo risparmiati queste sono le agenzie che partecipano chiaramente con il contributo importante e determinante degli istituti nazionali diciamo che il primo il primo la prima come dire il primo compito che ci siamo dati è stato quello di identificare le criticità e come hanno già evidenziato sia il direttore Bratti che il direttore Lopresti l'analisi di rischio è uno strumento importantissimo nella valutazione e gestione dei siti contaminati ma rappresenta anche il momento di maggiore conflittualità tra gli enti di controllo e i proponenti perché la norma prevede che il risultato dell'analisi di rischio sia un numero chiamato concettazione soglia di rischio e che è determinato da un complesso sistema di modellizzazione di calcolo che ha una lunga lista di parametri chi fa analisi di rischio lo sa che come dire sono oggetto poi lo vedremo dopo in un'analisi che Ispra ha fatto sui propri pareri istruttori che determinano una grande conflittualità perché basta una minima variazione di uno dei parametri perché poi il risultato quindi il numero che si va a definire poi ad approvare come sostituto della concentrazione soglia di contaminazione varia e quindi è chiaro che sia i proponenti sia gli enti di controllo valutano in maniera molto approfondita ciascun parametro e ciascuna modalità di calcolo di questo numero inoltre quando il sistema di modellizzazione viene ritenuto eccessivamente cautelativo si ricorre alle volte a ulteriori misure ulteriori indagini o a interventi mirati ad interrompere alcuni percorsi e queste misure di interventi seppur corretti dal punto di vista tecnico poi è difficile interpretarli alla luce del calcolo di questa benedetta concentrazione soglia di rischio Ispra si è autovalutata sostanzialmente nel 2018 abbiamo fatto l'analisi di tutte le osservazioni dei pareri molti dei quali elaborati congiuntamente con le agenzie regionali competenti territorialmente per capire diciamo dove potevano essere i colli di bottiglia e quello che si vede in questa slide sono stati distinti i pareri specifici sugli elaborati di analisi di rischio differenziandole rispetto agli altri pareri su altri documenti che non contenevano analisi di rischio intanto quello che si vede è che diciamo non siamo così negativi nei confronti dei documenti presentati nel senso che comunque nel 43% dei casi degli 82 pareri formulati nel 2018 vi è stato un sostanziale avallo tecnico per cui sostanzialmente abbiamo ritenuto condivisibile l'analisi di rischio nel 33% le osservazioni sono richieste di integrazioni quindi non diciamo una stroncatura dell'approccio mentre il 24% invece è proprio una richiesta di comunque una necessità di rielaborazione se però confrontiamo gli altri elaborati progettuali quindi caratterizzazioni indagie integrative progetti di bonifica eccetera come vedete bene l'avallo tecnico sale quindi sale al 55% le richieste di integrazione sono più o meno stabili e invece la necessità quindi la virgolette non avallo tecnico del documento è al di sotto del 10% questo cosa vuol dire? vuol dire che nel caso dei SIN sostanzialmente l'analisi di rischio comunque rappresenta un momento di maggiore conflittualità rispetto alla discussione degli altri elaborati progettuali però siamo andati anche più in fondo per cercare di capire quali erano le motivazioni per le quali poi alla fine non c'era l'avallo tecnico e quindi siamo andati proprio nel dettaglio delle singole osservazioni osservazioni che o riguardano specificatamente l'elaborazione dell'analisi di rischio o tutto ciò che è propedeutico all'elaborazione dell'analisi di rischio quello che si vede se guardate le due righe blu è che in realtà il maggior numero di osservazioni riguarda la fase conoscitiva e l'elaborazione del modello concettuale cioè non è tanto sul sistema di calcolo o sui parametri ma diciamo il collo di Bottiglia nasce a monte cioè al fatto che spesso caratterizzazioni e analisi di rischio non si parla i modelli concettuali dalla caratterizzazione all'analisi di rischio cambiano e perché a giudizio nostro questa diciamo criticità è anche dettata dal fatto che a livello tecnico c'è poco confronto sia negli enti di controllo ma sia soprattutto in chi fa il progetto di analisi di rischio tra chi fa la caratterizzazione e chi elabora l'analisi di rischio molto spesso non ci si parla non ci si confronta invece nella diciamo lo specifico dell'elaborazione progettuale chiaramente le osservazioni principali riguardano i parametri quindi i parametri delle sorgenti i parametri sitospecifici e faccio presente che molte osservazioni sui parametri sitospecifici sono anche legati alla difficoltà da parte del sistema di validare tutti i parametri necessari all'analisi di rischio quindi in molti casi diciamo non riusciamo a verificare compiutamente e completamente tutti i parametri quindi non è una questione del valore che si adotta ma proprio della verifica quindi del contraddittorio tra l'ente e la parte proponente in misura non trascurabile ma qui parliamo del 2018 quindi anteriormente all'emanazione delle linee guida molte osservazioni riguardavano poi la verifica di alcune simulazioni modellistiche quindi la verifica mediante monitoraggi ad esempio sul percorso di inalazione ai vapori chiaramente quello che ci si aspetta ora per il 2019 non abbiamo ancora completato la valutazione perché siamo a febbraio quindi ci occorre un minimo di tempo ci aspettiamo che le osservazioni sui monitoraggi dei gas o sui monitoraggi diciamo di verifica dei percorsi di inalazione ai vapori si spera che si riducano visto che sono state emanate proprio le linee guida tecniche non nascondiamo una cosa anche abbastanza singolare che ancora è una percentuale minima abbiamo problemi con l'applicazione della norma quindi con l'inquadramento dell'analisi di rischio nel procedimento di bonifica a 14 anni dall'entrata in vigore del 152 è una percentuale minima ma ancora abbiamo casi di analisi di rischio applicate in maniera impropria o non conforme alla norma quindi quello che diciamo abbiamo evidenziato e come ISPRA e all'interno del gruppo di lavoro è che una delle principali criticità che forse è emersa poco nei dibattiti tecnico-scientifici è che la caratterizzazione dovrebbe essere la finalità almeno così dice la norma di definire il modello concettuale su cui poi si basa l'analisi di rischio nella realtà però la caratterizzazione ha come finalità principale quello di verificare la distribuzione e la contaminazione e ci si ferma lì quindi al massimo un buon piano di caratterizzazione riesce a definire compiutamente dove sono le sorgenti di contaminazione poi in genere che cosa si fa in alcuni casi contestualmente in altri casi successivamente per approfondimenti successivi si effettuano indagini integrative per determinare gli altri parametri che entrano nell'analisi di rischio e poi si fa si elabora l'analisi di rischio ma poi si dice no guardate forse nel caso di definire meglio il modello concettuale quindi facciamo ulteriori indagini integrative ed è un circolo vizioso nel quale questo benedetto modello concettuale viene definito per step successivi forse sarebbe il caso di concentrarsi soprattutto in fase di caratterizzazione e di indagine su un modello concettuale robusto e poi pensare all'applicazione dell'analisi di rischio in questo modo l'analisi di rischio viene utilizzata anche come strumento per definire meglio il modello concettuale e non è lo scopo dell'analisi di rischio però a cosa dovrebbe servire l'analisi di rischio altra domanda che ci siamo posti allora è uno strumento utilizzato nella stragrande maggioranza sicuramente dei paesi europei ma anche al di fuori dell'Europa quindi è uno strumento consolidato a livello di valutazione e gestione della contaminazione soprattutto dei terreni dovrebbe servire a fare cosa stabilire dove sono le criticità ambientali tali da necessitare interventi in base al rischio sanitario e al rischio ambientale e già il rischio ambientale nella norma a parte le acque sotterranee non c'è altra valutazione di tipo ambientale e sono sanitaria gestire le criticità e quindi gestire il rischio perché il rischio può essere gestito e non solo con la bonifica anche con altri strumenti di gestione valutare le soluzioni e quindi come mitigare il rischio e quindi le soluzioni in termini anche di sostenibilità ambientale perché non è detto che se io riduco il rischio sanitario non ho lasciato un impatto nella matrice ambientale ma questo purtroppo nella norma non c'è quindi l'utopia sarebbe il risk assessment è quello che facciamo noi e ci fermiamo qui noi facciamo la valutazione del rischio anzi magari nemmeno la valutazione del rischio la valutazione della CSR però chiamiamo la valutazione del rischio ci dovrebbe essere la fase successiva che è la gestione del rischio ovvero il risk management quindi in base alla valutazione si valutano le alternative si sceglie la soluzione ed eventualmente si definiscono anche i valori obiettivo qui dovrebbero entrare le CSR non come obiettivo della valutazione il tutto poi quindi gli obiettivi poi dovrebbero essere rivalutati nell'ottica appunto della valutazione del rischio il tutto poi dovrebbe essere gestito nell'ottica più ampia di sostenibilità ambientale queste sono slide che penso se andate su internet le trovate io le ho tradotte in italiano ma le trovate in inglese pari pari ed è quella diciamo questo è il principio del risk based land management ma noi non facciamo risk based land management noi facciamo al massimo valutazione di rischio facciamo al massimo il risk assessment e non in maniera come dire coerente con le procedure di risk assessment riconosciute a livello internazionale che facciamo noi? noi abbiamo una tabella da normativa con dei valori tabellari per ogni sostanza prima cosa andiamo a verificare se si superano o meno tali valori poi che si fa? l'analisi di rischio modello concettuale parametri indagini valutazioni elaborazioni eccetera il tutto in un frullatore che tira fuori un'altra tabella è così quindi passiamo da una tabella generica a una tabella sito specifica con la condizione importante che ogni elemento di sito specificità o di vincolo a determinate condizioni determina un vincolo all'utilizzo del sito e anche allo sviluppo del sito infatti ci sono varie come dire molto spesso ci capita di discutere su scenario attuale scenario futuro scenario potenziale perché? perché ad ogni scenario corrisponde una CSR qualche esempio e questo non è un esempio come dire pellegrino perché personalmente mi è capitato nell'ultimo parere che ho redatto per un SIN quindi lo dico a ragion veduta sorgente bersaglio uomo bersaglio falda l'unico bersaglio ambientale che noi abbiamo non ho contatti diretti perché abbiamo una sorgente di contaminazione con metallo e sostanze organiche non volate pensiamo ad esempio alle diossine per fare un esempio in suolo profondo quindi non ci sono contatti diretti non c'è volatilizzazione perché queste sostanze non sono volatili la falda è come dire tutelata da uno spesso strato di argilla benissimo non c'è rischio CSR per un chilo e adesso chiedo da ente di controllo ma anche a chi ha un minimo di sensibilità ambientale è accettabile avere un sito con questi tenori di inquinanti certamente da parte di SNPA la risposta è no più che altro perché fisicamente autorizzeremo una miniera di qualcosa un filone di una qualche sostanza altro esempio per esempio ho un caso in cui ho un rischio di inhalazione indoor non accettabile e posso avere due opzioni intervento sulla sorgente ovvero bonifica quindi faccio un solvapor extraction per eliminare la componente volatile oppure gestisco il rischio quindi metto uno strato barriera depressurizzo l'edificio ci sono varie tecniche per mitigare il rischio indoor bene come scelgo tra le due opzioni a criteri metodologici vigenti come leggo la scelta dell'opzione al calcolo della CSR come verifico l'efficacia degli interventi visto che tra l'altro se intervengo intervengo sui gas e non sui terreni o sulle acque a queste domande negli anni qualche risposta è stata data proprio con le linee guida sul monitoraggio dei vapori nei siti contaminati quindi alcune non tutte le risposte ma alcune risposte ce le siamo date e anche queste linee guida sono state pensate proprio nell'ottica di gestione del rischio piuttosto che di valutazione del rischio chiaramente era tutto più facile qui perché parlavamo dei gas intestiziali che non sono una matrice ambientale regolamentata dalla norma e quindi avevamo tra virgolette più libertà di azione è difficile pensare a qualcosa di analogo su terreni e acque in assenza speriamo adesso il direttore Lopes ha detto che sono in ballo delle modifiche normative di revisione di alcuni aspetti della norma veniamo invece nel merito del manuale Isbra chiaramente il manuale è stato un riferimento tecnico molto importante perché prima veramente c'era il far west ognuno utilizzava quello che voleva i parametri che voleva anche sui parametri chimico fisici e tossicologici c'era come dire veramente una libertà interpretativa quindi c'era una solubilità di una sostanza che variava a seconda di un progetto all'altro però chiaramente all'epoca forse diciamo per una mancanza in primis del sistema di conoscenza dello strumento perché comunque la 152 è uscita da poco tempo si decise di sostanzialmente riprendere quei modelli che sono utilizzati nel 99,9% dei casi per elaborare le tabelle cioè i modelli che noi utilizziamo per l'analisi di rischio sito specifica vengono generalmente proposti per elaborare i valori di screening cioè le CSC quindi il livello 1 quindi è chiaro che se poi andiamo a calare quella interpretazione ai casi reali abbiamo delle rigidità e delle assunzioni conservative ma a parte conservative non realistiche in molti casi che rendono poco congruenti i risultati dell'applicazione del modello con quello che poi si verifica nella realtà sovrastima ma anche non ce lo leggiamo per alcuni percorsi anche forse sottostima dei rischi quindi l'obiettivo del gruppo di lavoro SNPA è proprio quello di rendere lo strumento più semplice più flessibile e soprattutto utile allo scopo lo scopo analisi rischio deve essere supportare la decisione finale in merito a un procedimento di bonifica non essere l'ostacolo all'avanzamento del procedimento chiaramente work in progress quello che il gruppo di lavoro sta discutendo queste opzioni dare un ruolo più importante all'analisi di rischio in modalità diretta perché ha meno vincoli rispetto a quella inversa l'analisi diretta è rischio accettabile rischio non accettabile l'inversa è CSR 1 o 1,1 o 1,2 o 1,3 capite bene che tra un risultato si no e un risultato numerico diciamo la sensitività di tutto l'approccio è diversa semplificare perché se riduciamo visti le analisi dei pareri ISPRA e in molti casi congiunti con ARPA sui SIN se si semplifica e si riduce ove possibile il numero di parametri necessari all'elaborazione è chiaro che si riduce anche i momenti di conflitto o di stop della procedura e quindi si cerca di accelerare diciamo l'iter del procedimento questa è un'opzione in discussione quindi introdurre un livello 3 che non sia basato tanto su modelli complessi perché i modelli complessi necessitano se i modelli semplici necessitano di un numero elevato di parametri potete immaginare di quanti parametri possono necessitare modelli complessi di quante indagini occorrono alla verifica dei modelli complessi se abbiamo difficoltà a verificare e validare un modello di trasporto in falda scusate un modello di flusso di falda per la progettazione a barriera etraulica e abbiamo delle difficoltà spesso sia dei progettisti sia di chi verifica di verificarne l'attendibilità potete immaginare cosa vuol dire provare a verificare un modello complesso di trasporto di contaminazione che ha delle variabili aggiuntive rispetto a quello del trasporto fisico della matrice che sia l'acqua che sia l'aria quindi introdurre considerazioni di coambientale l'ho detto prima perché la tutela sanitaria non coincide spesso con la tutela ambientale e viceversa ciò che è tutelato a livello ambientale può causare problemi sanitari e viceversa ciò che è tutelato a livello sanitario non è detto che non possa causare problemi a livello ambientale sono parenti ma non sono gemelli questo è un punto anche importante nell'ambito del protocollo di intesa tra SNPA e l'Istituto Superi Sanità cercheremo di capire anche se c'è necessità di aggiornare i criteri di valutazione del rischio e del cumulo delle sostanze perché questo è un argomento molto caldo in questo periodo per altre questioni che non riguardano specificatamente i siti contaminati quindi proviamo a capire se possiamo avere dei criteri abbastanza uniformi di valutazione l'analisi dei software è stata già effettuata e conclusa sarà pubblicato a breve un documento e poi sulla gestione delle discariche quindi l'analisi di rischio applicata alla gestione delle discariche stiamo raccogliendo le varie esperienze proprio per cercare di capire se il manuale se e come rivedere il manuale anche perché negli anni sono intervenute anche importanti modifiche normative questo è quello che stiamo facendo quindi in parole povere e diciamo in nero sono cerchiate le cose come dire più o meno che sono in come dire in parte più avanzata il documento di valutazione dei software sarà rilasciato è stato approvato dal consiglio quindi sarà breve pubblicato il manuale di scarica è stato ritirato proprio perché non è coerente in molti aspetti con le nuove norme quindi dobbiamo verificarne in maniera più concreta le necessità di aggiornamento inoltre stiamo lavorando anche sulla validazione dei parametri sitospecifici e sulla sperimentazione di nuove indagini per valutare l'effettiva bioaccessibilità e mobilità della contaminazione questo è il documento di valutazione dei software in uso per l'analisi di rischio è un documento di indirizzo del sistema quindi non è vincolante per i proponenti lo ho sottolineato lo risottolineo e nasce dal fatto che vi era una disomogeneità molto importante sull'utilizzo dei software disponibili da parte delle agenzie quindi c'erano agenzie che raccomandavano un software e agenzie che proibivano l'utilizzo del medesimo software quindi dovevamo fare un punto di chiarezza per essere più o meno omogenei tutti vi ringrazio e vi sottolineo la frase finale noi abbiamo chi fa lo studio e chi valuta lo studio di analisi di rischio ha un grande potere perché ha il potere di decidere se un sito è contaminato o meno e decidere se come fare gli interventi e quindi ha una grande responsabilità io personalmente da valutatore me la sento tutta addosso quando valuto un documento di analisi di rischio e spero che anche chi propone i documenti di analisi di rischio si senta investito della stessa responsabilità grazie ora introduco velocissimamente la sessione tecnica e chiamo con me i colleghi di Arpa Lombardia la dottoressa Torretta e di Arpa Emilia Romagna il dottor Villani che collaborano con noi diciamo nel gruppo di lavoro grazie Allora introduco velocemente la sessione tecnica perché chi non lo sa si chiede come ma c'è questa sessione tecnica, come mai ci sono questi relatori, perché come gruppo di lavoro la prima cosa che abbiamo fatto è che dobbiamo aggiornare il manuale, dobbiamo fare tante belle cose, ma siccome questa è un'attività che non è rutinaria per noi, l'attività rutinare è l'attività di controllo, è chiaro che abbiamo cercato di dare un ordine di priorità e dire cosa facciamo per primo, non c'è come vedete dal questionario che è stata fatta non c'è un argomento che prevale sugli altri e allora dobbiamo fare tutto e subito e quindi cerchiamo di aprirci al mondo per capire se oltre alle criticità che avete visto prima e che ci siamo dati noi, se invece il mondo esterno a noi ha delle proposte da farci che noi banalmente possiamo sfruttare per rivedere il manuale, proprio nell'ottica dell'essere il più aperti possibile. Quindi è stata lanciata una open call sulle tematiche che vedete qui, che sono le tematiche che il gruppo di lavoro ha ritenuto più importanti. Queste sono i risultati, cioè quindi le proposte arrivate riguardano per la grande maggioranza dei casi la modellistica e invece le altre tematiche hanno più o meno le stesse percentuali ad eccezione dei testi di scelte azione sui quali non abbiamo ricevuto molte, cioè non abbiamo ricevuto proposte. I partecipanti sono metà e metà università e società private e quindi la sessione tecnica odierna include alcune proposte pervenute con la open call, le quali proposte sono ancora in fase di valutazione quindi il gruppo di lavoro ancora non si è espresso e infatti questo momento di confronto vuole proprio essere un confronto pubblico per ascoltare e per discutere tutti insieme. Chiaramente poi sotto il gruppo di lavoro farà le proprie valutazioni nelle proprie responsabilità però diciamo abbiamo volutamente cercato di rendere quanto più possibile pubblica la discussione. Pertanto lascio la parola ai colleghi che introducono la sessione. Ok, allora buongiorno a tutti, le presentazioni sono già fatte a Tonella e direi di iniziare con la sessione tecnica, con il primo intervento e questa proposta di colla è arrivata dall'Università di Tor Vergata parlerà il professor Baciocchi, contributo è anche dell'ingegnere Virginielli non so se parlerà anche di ASO, sì no? No, vale, facciamo il professor Baciocchi e direi che la proposta può essere un po' una sintesi sia dell'attività ormai di tanti anni di progettazione che anche attività di ricerca svolta dal dipartimento, dal professore in materia. Prego. Grazie Igor, grazie a tutti gli organizzatori innanzitutto per averci invitato e averci dato pure la possibilità di parlare per primi in realtà speriamo di non deludere le aspettative. Allora, vabbè, partiamo semplici nel senso che molte cose sono state già dette in realtà già nelle presentazioni precedenti anche da Antonella quindi noi partiamo da un approccio normativo che è un approccio a due livelli dove sostanzialmente abbiamo un primo livello di screening che non è risk based in realtà per quanto ce la vogliamo raccontare ma sono ovviamente delle CSC che sono state fissate con un criterio misto probabilmente in parte risk based ma poi ovviamente anche tenendo conto probabilmente di altre considerazioni. E questo poi sappiamo bene che è un tema che per qualche periodo ci ha dato qualche difficoltà nell'applicazione però del step 2 che è quello invece dell'analisi di rischio che in effetti è un'analisi di rischio inversa in effetti è un'altra tabella in qualche modo la conclusione di Antonella questa la devo assolutamente condividere. L'approccio tabellare e il passaggio dall'approccio tabellare diciamo di livello 1 a quello di livello 2 cioè le CSR comunque ha dei vantaggi abbastanza ovvi e questo è un caso veramente semplice ma diciamo abbastanza di scuola quindi come potete vedere due situazioni residenziali dove però abbiamo delle caratteristiche di esposizione completamente diverse e ovviamente se noi ragionassimo a livello 1 tabellare di CSC in realtà avremmo sostanzialmente la stessa identica situazione e la stessa necessità di gestione. Per fortuna abbiamo comunque un'analisi di rischio che invece ci consente di differenziare i due scenari sono tutti e due residenziali verde pubblico ma uno ovviamente ha dei tempi di esposizione molto più bassi rispetto all'altro e questo ci consente chiaramente di poter prioritizzare gli interventi ma soprattutto destinare le risorse maggiori dove è giusto che siano riservate e di meno dove invece magari è meno necessario riservarle. Abbiamo dei vincoli, si è parlato prima di modifiche degli allegati quindi è chiaro che questa slide vive nella situazione attuale dove abbiamo un 152 che anche se effettivamente l'allegato 1 ci dice poco ma quel poco che ci dice ce lo dice abbastanza chiaramente. Ci dice sostanzialmente che l'analisi di rischio va condotta utilizzando con l'obiettivo di calcolare le CSR utilizzando metodologie di comprovata validità in termini di base scientifiche e di riproducibilità dei risultati e sarà un caso ma fa il riferimento ad esempio alla STM PS 104. E in qualche modo quindi diciamo la STM 2081 però diciamo che è la famiglia di questi standard STM sono stati in effetti presi a modello quando nel 2008 ma addirittura per fare un po' di storia ormai sono diventando vecchio mi sono fatto pure crescere la barba bianca per farlo notare di più in realtà noi l'analisi di rischio nasce nel 2006 nasce prima addirittura del 152 grazie devo dire al grande contributo dell'ISS qui all'onore seduta non vedo seduta oggi non c'è Laura d'aprire ma a quei tempi Laura era in Ispra e devo dire Simona Berardi anche Nina l'ha dato un grosso contributo a quel primo documento del 2006 che poi fu revisionato proprio per tenere conto dei contenuti dal 152 dando vita alle linee guida 2008 mi sono chiesto prima di entrare nel merito delle nostre proposte ma perché oggi dovremmo modificare i criteri metodologici questa ovviamente è la nostra opinione mia e di Iason beh diciamo un'idea potrebbe essere ok voglio adottare un'altra metodologia cioè ritengo che la metodologia STM come oggi e come è stata poi trasferita nel documento IAPAT e ora ISPRA possa essere diciamo non vada bene benissimo questa è un'ipotesi ragionevole nel senso che noi abbiamo in Europa altri standard olandesi, belgi, francesi o di altre nazioni che non seguono necessariamente la STM è chiaro che dobbiamo però stare attenti secondo me a mio modesto parere a non inventarci cose quindi a cercare di mantenerci sempre nell'ambito di quello che ci dice la normativa oggi basi scientifiche, comprovata validità riproducibilità dei risultati quindi fare riferimento a un qualche cosa di già proven cerchiamo di non trovare la via italiana all'analisi di rischio poi altre ipotesi ci sono state modifiche negli standard effettivamente la STM potrebbe aver modificato qualche standard per tempo se così fosse questo potrebbe essere un buon motivo per aggiornare anche il nostro standard oppure terza ipotesi se ci fossero stati degli avanzamenti delle conoscenze scientifiche stiamo nel 2020 il documento è 2008 sono passati 12 anni in questi 12 anni sicuramente ci sono dei risultati ottenuti delle evidenze acquisite a livello nazionale o internazionale che ci possono consentire di migliorare la capacità dei modelli di trasporto di descrivere la realtà dei fenomeni che è il tema di essere usare degli approcci più realistici possibile in questo Antonella lo sposo perfettamente la domanda ci siamo chiesti ma come eventualmente modificarli cioè se decidessimo che veramente ci sono le condizioni le necessità per farlo come farlo a nostro modo di vedere le modifiche dovrebbero essere abbiamo coniato questo termine chirurgiche nel senso che noi riteniamo alla fine che l'architettura generale della procedura non sia da buttare via ma sia da salvaguardare ovviamente con delle modifiche se si ritengono necessarie che tipo di modifiche? innanzitutto modifiche che dovrebbero secondo noi garantire un principio sacro che è quello della sitospecificità la forza dell'analisi di rischio è quella di calare la valutazione sul sito e questo deve essere garantito o eventualmente rafforzato ma non indebolito l'altro aspetto è quello di essere più realistici siamo concordi che i modelli che stiamo utilizzando e poi ne parleremo tra poco sono dei modelli tra virgolette semplificati con una serie di assunzioni tali per cui quasi sempre direi tendono a sovrastimare i rischi e quindi dovremmo invece usare dei modelli più realistici e poi come al solito torniamo al punto di prima dobbiamo sempre stare attenti alle modifiche che apportiamo quindi mantenere sempre i criteri di validità vasi scientifiche riproducibilità su quel punto non possiamo prendere un modello così e applicarlo dobbiamo ovviamente valutarlo con attenzione per questa serie di motivi noi più che modifiche nel seguito della presentazione parleremo di affinamento dei criteri metodologici quindi di prospettive di affinamento come dicevo prima e come è stato anche già detto da Antonella i modelli attualmente utilizzati sono modelli analitici tipicamente semplificati e tipicamente conservativi potremmo sicuramente immaginare di, come si può dire rilassare alcune delle assunzioni alla base di questi modelli ma cercando però nello contempo di mantenere secondo me una forza di questi modelli che è la semplicità adesso la semplicità viene vista sempre come un lato negativo ma in realtà è anche un lato positivo perché consente anche degli utenti non necessariamente esperti di poter applicare questi strumenti con una relativa facilità insomma non dobbiamo pensare a dei modelli super raffinati perché purtroppo il contesto in cui vengono applicati non è super raffinato anzi spesso è un contesto dove abbiamo una necessità di fare le cose semplici veniamo adesso alle proposte diciamo che sostanzialmente ci sono tre ambiti che abbiamo individuato primo tema è legato ai parametri di input cioè le criticità parametri di input utilizzati cioè quali sono le criticità che oggi incontriamo quando proponiamo un'analisi di rischio e che spesso diventano poi fonte di discussione anche con gli enti primo tema per l'indor lo sappiamo è il grado di fratturazione dell'edificio lì abbiamo un default che è diciamo abbastanza irrealistico però è chiaro che poi ogni volta per riuscire a dimostrare che quel valore è irrealistico la situazione si complica spessore della zona di miscelazione questo è un tema su cui torneremo tra poco e poi c'è un tema che è un punto interrogativo grosso ma che in realtà è un parametro molto rilevante specialmente per i fenomeni di volatilizzazione di vapor intrusion che è l'umidità nel suolo noi la prendiamo sempre da dei metodi indiretti sappiamo che poi l'umidità nel suolo cambia ovviamente nel tempo quindi però è un punto diciamo nevralgico un po' dell'analisi di rischio poi una serie di assunzioni del modello la gestione della saturazione sapete che noi abbiamo delle linee guida del ministero che sulla CISAT ci danno delle indicazioni molto forti sulle quali noi tecnicamente non siamo molto d'accordo e questo è un tema che secondo me meriterebbe di essere affrontato stato stazionario questo è anche un tema i modelli attualmente utilizzati sono tutti steady state ma sappiamo bene che magari un contaminante il modello steady state dice che arriva ma magari arriva tra mille anni tra dieci mila anni questo è un tema che andrebbe in qualche modo introdotto il tema della eterogenità del suolo che invece nei modelli non viene considerata il tema della speciazione dei metalli perché oggi sappiamo che purtroppo almeno in banca dati abbiamo sempre il riferimento al sale più solubile e poi un altro tema che è stato citato da Antonella prima mi fa piacere che è il tema della bioaccessibilità per i percorsi di esposizione diretta e poi abbiamo una serie di semplificazioni e processi non considerati nel modello per esempio l'attenazione naturale più degradazione dei vapori sia durante il percorso ma sia nella sorgente addirittura e come si collega sotto l'esaurimento della sorgente per esempio anche in falda la sorgente tenderà naturalmente ad esaurirsi e questo fenomeno dovrebbe essere in qualche modo considerato nei modelli che invece attualmente considerano una sorgente diciamo cosiddetta infinita sia nello spazio che nel tempo potremmo dire due parole perché penso che il mio tempo sia esaurito quasi per parlare di le proposte il primo tema che ho accennato questa è una selezione diciamo delle proposte che abbiamo fatto Antonella è quello dell'altezza della zona di al gruppo no Antonella perché l'ho mandata a te hai ragione a tutti hai ragione scusa l'altezza come coordinatore però mi permette l'altezza della zona di miscelazione noi sappiamo che nel nostro modello volatilizzazione outdoor noi utilizziamo il box model come previsto dallo standard STM che prevede un'altezza della zona di miscelazione il delta air che qui vedete tipicamente di due metri questa ipotesi è ragionevole per sorgenti di dimensioni piccole ma sostanzialmente specialmente quando la sorgente comincia a diventare molto grande quindi questo W che vedete questa W si allunga questo diventa sempre via via meno realistico perché in realtà gli inquinanti si disperdono con un approccio che come dire già volendola fare semplice comunque potrebbe essere meglio descritto con un modello gaussiano per questo motivo noi proponiamo un approccio che abbiamo sviluppato qualche anno fa tra l'altro con anche il professor Nocentini che come potete vedere a sinistra sostanzialmente consente di stimare la concentrazione attesa al punto di esposizione in funzione della lunghezza della sorgente e come potete vedere il confronto dal grafico in alto che è sostanzialmente quello che prevederebbe la STM quindi la concentrazione stimata con l'attuale box model e invece il modello che prevede delle concentrazioni molto più bassi i cerchietti che vedete sono sostanzialmente i risultati ottenuti con un modello numerico quindi il nostro modello semplificato consente comunque di stimare diciamo molto bene le concentrazioni modellate con modelli più elaborati per diverse classi di stabilità abbiamo quindi nello stesso articolo proposto un'equazione semplificata che consente di calcolarsi una sorta di altezza della zona di miscelazione equivalente che quindi consente di stimare questa altezza in funzione della dimensione della sorgente vedete che come potete vedere per le diverse classi di stabilità da AB fino a EF i valori sono comunque molto più alti rispetto a quelli che trovate in basso che sono i classici due metri canonici della nostra analisi di rischio questo ovviamente ha un impatto specialmente per siti di grandi sorgenti grandi quindi 100, 200, 300 metri questa è una proposta la seconda è un pochino più diciamo canonica per noi e che abbiamo presentato anche altre volte ed è quella legata al tema sempre della volatilizzazione e che mette in evidenza come spesso e volentieri i flussi che noi stimiamo di inquinanti specialmente idrocarburi come i Bitex in questo caso che trovate in ordinata sono molto più alti sono molti di quelli quelli modellati sono molto più alti di quelli misurati che trovate in ascissa e questo è un caso non inventato ma sono dei dati presi proprio da un sito contaminato appunto da Bitex e sostanzialmente a destra vedete che la sovrastima per i Bitex del modello rispetto al campo può essere anche di molti ordini di grandezza da un minimo di 100 volte quindi due ordini di grandezza fino anche a 10.000 volte perché diciamo in qualche modo lo sappiamo lo sappiamo perché questo è un tema di biodegradazione degli idrocarburi tant'è che anche Epane lo riconosce diciamo in una sua linea guida relativa appunto al tema della vapor intrusion propone di utilizzare in questi casi dei modelli di trasporto degli inquinanti che tengano conto della biodegradazione tra l'altro devo dire qui in questo caso con poca modestia citano pure il lavoro essenzialmente fatto dagli Ason Verginelli che è il primo autore pubblicato su ST nel 2014 ovviamente a citare il più canonico modello di Abreu Ettinger e McCallery però quindi vuol dire che addirittura in altre linee guida questa opzione modellistica viene tenuta in considerazione che impatto avrebbe un impatto notevole questo è un caso di confronto tra modello analitico e modello numerico quindi di Abreu applicando il modello di Johnson & Ettinger e quindi vedete a sinistra che la concentrazione attesa indoor in un sito è molto più alta ordine di grandezza più alta rispetto al valore previsto dal modello numerico vedete che invece applicando il nostro modello analitico che tiene conto della biodegradazione riusciamo a simulare e a stimare la concentrazione indoor esattamente uguale a quella del modello 3D quindi questo ci dà un'indicazione molto interessante che questo modello che è veramente un modello molto semplice potrebbe essere utilizzato anche nell'ambito della nostra procedura terza ipotesi terza proposta il tema dell'attionazione laterale questo è un tema che noi sappiamo viene attualmente gestito immaginando che si deve attivare il percorso di volatilizzazione indoor se la sorgente sta a 10-30 metri a seconda del tipo di contaminanti dall'edificio automaticamente questo significa ipotizzare che la sorgente sta sotto l'edificio e quindi la vapor intrusion viene attivata immaginando proprio un contatto diretto tra sorgente ed edificio in realtà ci sono dei lavori in questo caso non nostri che dimostrano come esista un fattore di attenuazione laterale molto rilevante che può essere anche che è funzione ovviamente della distanza dell'edificio dalla sorgente ma anche della profondità della sorgente dal basement dell'edificio e come potete vedere nel grafico che abbiamo riportato si hanno attenuazioni che possono andare nell'ordine di 10 alla meno 2 10 alla meno 3 10 alla meno 5 addirittura anche se la profondità della sorgente dall'edificio è molto bassa queste attenuazioni sono di notevole entità e quindi diciamo che questo è un tema che secondo noi meriterebbe anche di essere approfondito 30 secondi per concludere e non l'ho provata la procedura dell'analisi rischio diciamo che risulta un approccio consolidato a livello internazionale e anche lo standard STM che noi utilizziamo sicuramente è uno dei più utilizzati nonostante ce ne siano altri come ho detto l'esperienza maturata dimostra che sicuramente ci sono diversi aspetti che potrebbero essere affinati per rendere la procedura più efficace un tema abbiamo accennato è quello dei dati di input sicuramente che è uno dei punti di discussione dove ci si accoltella nelle conferenze dei servizi e questo quindi sarebbe un tema da approfondire per trovare dei criteri maggiormente condivisi per la scelta di questi parametri e poi come ho avuto modo di dire abbiamo questi e altri esempi di miglioramenti modellistici che potrebbero sicuramente rendere questi modelli più realistici e io non voglio dire che dobbiamo rinunciare alle misure quindi ho la conclusione che diceva prima Antonella del fatto di fare il livello 3 non lo voglio lo considero uno step utile probabilmente l'applicazione di questi modelli potrebbe contribuire ad evitare di andarci sempre a finire di creare un'ulteriore maglia e quindi di andarci soltanto in un caso più ridotto di situazioni anche con un minore impatto economico e anche di tempi sulla evoluzione della procedura grazie ringraziamo ringraziamo il professor Baciocchi chiedo ai successivi relatori di stare nei tempi proprio per non perdere tempo nella discussione finale avere maggior tempo adesso chiamo il dottor Porto e il dottor Casabianca della società Copernico che ci illustreranno un approccio interessante di approfondimento delle dinamiche dell'atmosfera e di come questa condizione i flussi emissivi dei vapore grazie buongiorno a tutti adesso cerchiamo la la nostra presentazione trovo la tua non ho gli occhiali partiamo bene allora in realtà io farò solo una breve premessa poi il dottor Casabianca che è un fisico vi illustrerà questa presentazione che in realtà noi abbiamo già presentato negli ultimi 5-6 anni in diverse sessioni ci sarebbero diverse cose da dire dopo gli interventi precedenti magari le rimandiamo alla tavola rotonda la cosa importante che vorrei introdurre che vorremmo introdurre nella nostra argomentazione è che abbiamo avuto modo pur essendo una piccola società e non un ente di ricerca di applicare in realtà dei modelli evoluti alla risoluzione del problema della migrazione dei vapori richiamando non nuove competenze scientifiche ma in realtà mutuando delle competenze che erano nella fisica dell'aria e che in tutte le agenzie regionali esistono ma stanno in un altro ufficio non quello che si occupa delle bonifiche noi abbiamo avuto la fortuna di lavorare con la società servizi territorio che ha dei modellisti e un'esperienza grande in questo campo e abbiamo potuto affrontare il problema avendo a disposizione un'arma nuova e che in qualche modo contraddice quello che ho sentito poc'anzi e cioè non è detto che la modellistica evoluta sia così inaccessibile non è detto che strumenti tecnologici e tecnici sofisticati non ci possano venire in aiuto anche per affrontare almeno a un livello intermedio i problemi che dobbiamo affrontare per esempio da un po' di anni esistono dei misuratori per esempio delle sostanze organiche volatili o del mercurio che hanno una frequenza di campionamento molto elevata e che ci consentono di non più fotografare le situazioni con dei fotogrammi diciamo presi estemporaneamente ma di verificare l'andamento dinamico delle concentrazioni questo ci ha dato la possibilità di affrontare alcuni problemi in maniera a mio parere scientificamente più corretta e quindi ci dà la possibilità di fare quelle considerazioni di semplificazione in maniera più ponderata la seconda questione e poi lascio la parola è questa l'approccio che noi proponiamo e che abbiamo proposto avendo partecipato al tavolo 9 bis e ad una pubblicazione congiunta per poi purtroppo non vedere i nostri risultati riportati nelle linee guida ma noi speriamo sempre e ringrazio moltissimo per questa opportunità di oggi è che diciamo i costi relativi a un campionamento in continuo ad esempio dei vapori non sono così elevati anzi in alcuni casi soprattutto per i siti di grandi dimensioni sono assolutamente confrontabili o inferiori a quello che viene speso normalmente per fare innumerevoli campionamenti con le flux chamber piuttosto che con altri sistemi quindi un approccio diciamo forse diverso un modo di vedere la questione in modo diverso ma che può essere utile per tutti lascio la parola a Davide buongiorno a tutti dunque oggi ci concentriamo sul percorso di inalazione quindi come tutti noi sappiamo c'è fondamentalmente abbiamo una sorgente di contaminazione che rilascia un contaminante che è volatile e all'interno diciamo dei criteri metodologici vigenti abbiamo un approccio di questo genere dove la concentrazione al bersaglio al target è la concentrazione alla sorgente moltiplicata fondamentalmente per un fattore di attenuazione che tiene conto via via di come i vari step diciamo di migrazione dell'inquinante diminuiscono questa concentrazione la freccina la freccina gialla non a caso c'è anche la freccina all'interno del nostro schema il desiderata diciamo di questi fattori di trasmissione sono una solida base scientifica la riconducibilità a quantità misurabili descrivere in modo fedele il sistema e che siano validabili questo è l'iperuraneo dei fattori magari magari quindi fondamentalmente noi abbiamo dei fattori di trasporto che sono figli di più modelli di ipotesi semplificate dal punto di vista fisico e che sono riproducibili da misure standard poi però se entriamo nel dettaglio sì l'utilizzo di più modelli che però ogni tanto sui diciamo il confine tra un modello e l'altro i risultati non sono perfettamente d'accordo le ipotesi semplificate va benissimo semplificare però tante volte sono molto stringenti queste ipotesi e quanto descrivono effettivamente il mio sistema in alcuni casi bene benissimo va bene in altri forse non così bene e riproducibili da misure standard sì misure standard però spesso bisogna introdurre dei valori tabellari decidere ma più o meno questa qui è una ghiaia standard o è una ghiaia che ha dentro ma insomma i valori standard ci sono e vanno utilizzati allora quelli che noi identifichiamo come dei problemi all'approccio attuale sono la valutazione dell'effettiva rappresentatività del risultato che noi otteniamo da questo tipo di modelli e la valutazione del rapporto tra investimento e cautela investimento insensolato sia da un punto di vista economico che da un punto di vista di risorse e da un punto di vista di tempo investito all'interno del nostro del nostro se si ecco il tempo di qualcuno e effettivamente questo grafico in cui la cautela scende all'aumentare del grado di approfondimento non sempre viene rispettato in questo tipo di approccio allora noi presentiamo qui un setup sperimentale che è molto complesso che è quello con cui abbiamo condotto una sperimentazione poi nel corso della presentazione vi facciamo vedere che cosa conta di più e che cosa conta di meno all'interno di questo setup sperimentale che è stato applicato su diversi campi prova con diversi inquinanti e in diverse situazioni abbiamo fondamentalmente un anemometro ultrasonico triassiale vabbè è un anemometro molto raffinato che consente di stimare non solamente la velocità orizzontale del vento come tutti gli anemometri ma dà anche una stima della velocità verticale quindi dello stato di moto turbolento o meno dell'atmosfera le classi di stabilità di cui si parlava prima con questo vengono misurate in maniera precisa termoigrometri barometri pluviometri conosciamo tutto misuratore di pressione differenziale sono degli strumentini che non costano granché e che danno una misura di una differenza di pressione con una grande precisione 0,5 pascal e si può utilizzare per capire se intanto che noi stiamo facendo la misura la differenza di pressione tra il sottosuolo e l'aria ambiente consente o no la migrazione verso l'esterno perché è chiaro che se io ho il suolo che è in depressione rispetto all'aria ambiente sarà ben difficile che il mio contaminante in quel momento fuoriesca dal terreno d'altra parte posso avere un'intrusione che non è l'intrusione del ho fatto male la mia sonda piezzometrica è un'intrusione dovuta al respiro naturale del suolo e dopodiché appunto dei misuratori rapidi di vapori in questo momento esistono ci sono dei misuratori che è vero il PID non è lo strumento meraviglioso più bello di tutti però avere una misura con una frequenza del secondo consente di fare delle valutazioni che altrimenti la misura spot non ci consente di fare quindi andando a guardare effettivamente quali sono gli strumenti più importanti di questo setup sono quelli evidenziati insomma quelli di cui io ho parlato i risultati ottenuti in diverse campagne ci dicono che intanto c'è una dinamica giornaliera che un po' ce l'aspettavamo però l'abbiamo misurata che è una cosa interessante e che questa dinamica prescinde dal tipo di inquinante che noi abbiamo preso perché il caso in alto sono VOC sono composti volatili e il caso in basso invece si tratta di mercurio la frazione volatile del mercurio la frequenza con cui ci sono queste variazioni è non dico identica ma comparabile e la cosa interessante è che se guardate in tutti e due i casi abbiamo segnato sia la variazione di concentrazione nel soil gas che quella in atmosfera libera vuol dire che forse i due processi non sono così scorrelati come ci siamo sempre un po' non immaginati ma abbiamo sempre posto questa questione in secondo ordine i risultati che abbiamo ottenuto parlano anche delle forzanti di sistema ovvero se noi dovessimo descrivere sulla base di altre quantità fisiche la variazione delle concentrazioni abbiamo delle indicazioni abbastanza forti del fatto che la pressione differenziale che è quella che vi sto facendo vedere in questo momento è anticorrelata oh mio dio che cosa innovativa con le concentrazioni non è una cosa eccezionale però è interessante sapere questa cosa perché ripeto è una misura semplice da fare in campo intanto che si lavora e ti dà un riscontro di quello che tu stai misurando in quel momento ok l'altra cosa che mi sembra abbastanza carino far vedere è questa questo ZI in fisica dell'atmosfera viene comunemente definito come l'altezza dello strato rimescolato che è quella fascia di atmosfera direttamente a contatto con il mondo antropico ed è uno strato che non ha uno spessore fisso durante l'arco di tutta la giornata o dell'anno ma dipende dal fatto che a un certo punto c'è il sole che irraggia e quindi questo strato cresce da un punto di vista termodinamico cioè fisicamente proprio si alza oppure si abbassa nel momento in cui non c'è irraggiamento c'è la nebbia le classi di stabilità dell'atmosfera fondamentalmente queste altre correlazioni sono interessanti ma andiamo in una velocità tra i risultati ottenuti da un approccio di questo genere ci sono dei modelli diciamo evoluti sono modelli data driven ovvero basati sui dati che vengono misurati nel momento in cui si ha un campo di moto completo quindi con tutte e tre le direzioni quello che è possibile fare è andare a valutare questa concentrazione che io ho misurato adesso ma da dove è partita allora questa è una simulazione fatta nel caso del mercurio diciamo che qui abbiamo da 0 a 50 che sarebbe bello farlo in percentuale ma in quel momento avevamo il tempo solo per fare questa cosa qui chiaramente la concentrazione diciamo che abbiamo una possibilità maggiore che quello che io ho misurato arrivasse da questa zona rispetto a questa qui perché il campo di moto dell'atmosfera non consentiva un trasporto dell'inquinante così lungo ora capite che questo oggetto ha una duplice funzionalità da un lato un modello del genere mi consente di dire per esempio scusate vi faccio avanti un secondo in un caso come questo in cui ho un sito di bonifica contaminato da VOC attaccato a una strada provinciale queste sono delle bellissime bottle vac che ha fatto Arpa Veneto se avete in mente la prima pagina dei criteri metodologici nuovi che sono stampati questa è la bottle vac che vedete in prima pagina e allora è stata fatta una misura a distanza di una settimana alla stessa ora del giorno nelle stesse identiche condizioni meteo questo è un risultato questo è l'altro cos'è successo? è successo che andando a fare una verifica con un modello data driven in un caso le concentrazioni arrivavano praticamente dalla strada e nell'altro caso arrivavano praticamente dal campo c'erano probabilità molto alte che arrivasse da una parte piuttosto che dall'altra e questo appunto è per dire che è uno strumento che da un lato mi può dire dove sta andando la contaminazione ma da quell'altro mi potrebbe dire anche da dove arriva quindi nell'ottica anche della presentazione precedente esistono dei nuovi strumenti rispetto alle linee guida precedenti rispetto ai criteri metodologici precedenti perfetto da un lato abbiamo una modellistica avanzata nel senso che da un punto di vista proprio scientifico sono stati fatti dei grossi progressi questi progressi sono figli sia di strumenti rapidi ad alta precisione sia di maggiori capacità di calcolo e questa cosa è innegabile che porta a doversi confrontare con delle nuove tecnologie che ti consentono di fare dei nuovi passi dopodiché esistono nuove modalità di campionamento che sono state implementate negli anni pensiamo alle flex chamber non credo proprio che nel 2008 qualcuno pensasse di andare a fare le misure con la flex chamber attuale come viene fatta con quelle veloci quelle aperte quelle dinamiche cioè c'è una proliferazione direi quasi darwiniana delle metodologie di misura allora tra le varie tra le varie proposte che diciamo ricadono da questo tipo di approccio è chiaro che contestualizzare una misura precisa non la misura del PID che si fa così speditivamente ma la bottle vac la flex chamber o quello che volete all'interno di una dinamica consente di dare un peso diverso alla misura che si fa perché è chiaro che se io prendo una misura ma poi non so all'interno del mio sistema dove si posiziona questa misura non ha la stessa affidabilità che invece dire ok ma quando ho misurato era il massimo di quella giornata era una condizione effettivamente peggiorativa allora una volta che si ha a disposizione uno strumento che diciamo incasella la misura all'interno di un sistema di più ampio è possibile fare delle valutazioni differenti questa è una presentazione molto vecchia a questo punto il rapporto tra cautela e risorse secondo noi può essere in parte ristabilito perché avendo la certezza che quello che io ho misurato ha un senso in un'ottica maggiore in un quadro più ampio beh ma allora io mi fido un pochino di più sia della misura che del modello che me la tira fuori perché se i modelli attuali mi dicessero esattamente in questa situazione misuro questo e poi lo vado a misurare sarei molto più felice la discriminazione delle sorgenti ne abbiamo già parlato concludendo ci siamo esistono modelli di trasporto magari non neanche di ultima generazione semplicemente ereditati da altri comparti scientifici che tengono conto di questi ultimi progressi i modelli di trasporto raffinati consentono secondo noi di ripristinare il grado di approfondimento e gli investimenti fatti e la comprensione delle forzanti di un processo fisico è la base scientifica per tornare alla presentazione di prima che secondo me era molto interessante da questo punto di vista che ti consente di validare capire effettivamente se quello che è stato fatto funziona ho concluso grazie grazie a questo punto chiamo l'ingegner Di Sante dell'Università for Tecnica delle Marche che ci presenterà un punto di vista un po' diverso diciamo rispetto alla modellistica e che diciamo riguarda soprattutto chi si occupa di geotecnica e quindi anche di proprietà meccaniche dei terreni perfetto ringrazio l'organizzazione per avermi dato per averci dato l'opportunità oggi di parlare delle analisi di rischio appunto da un punto di vista della disciplina geotecnica preciso che siamo un gruppo di ricerca nella geotecnica ambientale faccio parte faccio parte io il professor Mazzieri la professoressa Fratalocchi il professor Pasqualini dell'Università e ci occupiamo da molti anni ormai di caratterizzazione e analisi di rischio per siti contaminati ho inserito una parte di lavori seguiti nell'ultimo decennio perché siamo abituati a seguire l'attività di ricerca laddove le esigenze riscontrate nella pratica ci dicono che ce ne ha bisogno quindi parleremo dell'importanza della definizione del modello di sottosuolo dell'effetto dei parametri sitospecifici di tipo geotecnico sui fattori di trasporto confronterò come hanno fatto già i colleghi precedentemente e chiaramente i modelli in condizioni stazionarie e transitorie per la lisciviazione in falda confronteremo insieme i modelli tra misure dirette e modelli nel caso di volatilizzazione la geotecnica brevemente è la scienza che tratta le terre nella loro sede naturale ovviamente le terre sono oggetto dell'intervento umano e quindi sono oggetto a volte anche di attività inquinanti questi effetti antropici sui terreni a parere di eminenti voci del campo possono essere oggetto della disciplina geotecnica ambientale e quindi l'analisi di rischio è inclusa in questo ramo di ricerca non sto qui a spiegare cos'è un modello concettuale del sito perché tutti i presenti conoscono bene nella materia analisi di rischio sicuramente nella definizione dei componenti sorgenti trasporto bersaglio e dei calcoli per l'implementazione è importantissimo costruirlo bene ed è importantissimo quindi eseguire una campagna di indagine preliminare nella fase di caratterizzazione che ci dia tutte le informazioni necessarie rilievo topografico sondaggi piezometri campionamento di matrici terreno e acque per la qualità ambientale ma campionamento per i parametri che servono per l'analisi di rischio troppe volte ci siamo trovati a eseguire analisi di rischio su caratterizzazioni seguite da altri consulenti che mancavano di dati molto utili e indispensabili per l'applicazione delle analisi di rischio cosa dire la disciplina geotecnica e le competenze geotecniche sono necessariamente coinvolte specialmente nella definizione del modello di sottosuolo e nei parametri sitospecifici non voglio dire con questo che sono le uniche necessarie assolutamente no noi lavoriamo sempre accanto a geologi e a chimici ambientali che danno un contributo fondamentale all'impostazione del modello le linee guida i criteri metodologici si semplificano la vita sempre per fortuna in alcuni casi dividendo la porzione in satura sempre tra suolo superficiale 0 un metro e suolo profondo fino alla superficie di falda il saturo è caratterizzato dalle acque questi comparti sono caratterizzati al loro interno da omogenità fisiche meccaniche idrauliche questa è la configurazione ideale quella reale non è mai questa c'è sempre una lente di spessore significativo a granulometria diversa livelli acquiferi separati acquiferi multifalda complessità di tipo geomorfologico il punto qual è passare dalla configurazione reale a quella ideale senza perdere di rappresentatività per farlo sicuramente è indispensabile ricostruire a livello stratigrafico idrogeologico in dettaglio il sito e conoscere soprattutto le opzioni di modellazione della migrazione che offrono i software opzioni di modellazione io non sono parte di quel gruppo che vuole un software che risolve tutti i problemi con un unico modello la molteplicità dei modelli è una risorsa e va sfruttata da utenti competenti il primo caso di studio che vi voglio mostrare in riferimento al modello di sottosuolo riguarda un sito dislocato vedete evidenziato in colori diverso tre aree del sito se effettuiamo una sezione geologica si vedeva chiaramente che il sito era dislocato su tre quote topografiche diverse il primo il primo livello era sede di un acquifero effimero l'ultimo livello c'era un fiume in adiacenza era sede di una falda di subalveo quindi il modello concettuale non poteva essere quello standard qui abbiamo suddiviso l'area in tre subare non solo per l'analisi di rischio non abbiamo eseguito noi il progetto di bonifica ma chi lo ha fatto ha mantenuto questa suddivisione differenziando l'attività di bonifica per aree e la riconversione del sito è stata calibrata su questa suddivisione quindi un buon modello costruito in fase di analisi di rischio serve per tutta l'opzione e la gestione del sito il secondo case history che voglio mostrarvi è un sito che ricade all'interno di un SIN era stata eseguita una datazione dei depositi concesi 137 e la ricostruzione accurata di profili di sottosuolo aveva evidenziato due importanti aspetti il primo nel riporto non era presente materiale al tropico il secondo dopo molte sezioni geologiche e l'aiuto dei geologi si era rilevata la presenza di uno strato continuo su tutto il sito di argilla impermeabile questa presenza è stata conservata nel modello concettuale semplificato che cosa ha consentito tutto ciò di dire che serviva un modello concettuale dedicato l'esclusione della percolazione tra differenti livelli idrici che era prevista per l'area vasta per questo SIN in questo caso specifico e abbiamo potuto escluderla abbiamo scelto un software che era il RISC4 ma come lui tanti altri che poteva modellare la presenza di lenti a granulometria differente tra i 68 parametri sito specifici che entrano all'interno dell'analisi di rischio la stessa ISPRA al tempo ci diceva che ci servono tre determinazioni granulometriche almeno per tutti gli strati di terreno questo perché dei 68 parametri un quinto è legato alla granulometria dei suoli ai terreni e seguendo infatti analisi di sensibilità con strumenti di calcolo un foglio di calcolo uno spreadsheet messo a punto presso l'università ma anche con software commerciali o freeware si vede chiaramente che la granulometria influenza marcatamente il valore dei fattori di trasporto e quindi un campionamento eseguito correttamente con idone tecniche che conserva la rappresentatività di tutte le frazioni indispensabile andando un po' più a complicarci la vita e parlando di modelli di lisciviazione quello proposto nei criteri di metodologici un modello stazionario in cui c'è una partizione solo acqua all'equilibrio un'attenuazione generica nel percorso e una diluizione con le acque sotterranee noi abbiamo provato a mettere a punto un foglio di calcolo matgad con un modello transitorio utilizzando gli stessi parametri sito specifici ma considerando il decadimento della sorgente nel tempo per effetto di diffusione e lisciviazione contemporanea flusso convettivo e dispersivo nell'insaturo diluizione in transitorio perché abbiamo fatto questo? perché in un caso specifico risultava contaminato potenzialmente il terreno insaturo assenza di contaminazione in falda e questa è la dimostrazione che il contaminante impiega un tempo a raggiungere la falda e non si può trascurarlo perlomeno non è sempre congruente con la realtà infatti con riferimento a una geometria semplice qui vediamo ma con dati sempre sito specifici quindi sia di concentrazione che dei parametri vediamo che il modello stazionario ci offre una partenza da una certa concentrazione nell'acqua insorgente un modello di attenuazione legato solo alla geometria che spesso ci viene detto addirittura di trascurare e una successiva attenuazione per diluizione con l'acqua di falda 6 volte arriviamo a stimare una concentrazione in acqua 6 volte più alta della concentrazione soglia di contaminazione per questo contaminante indipendente dal tempo quindi un rischio per la falda di 6 con il modello transitorio innanzitutto il contaminante arriva insorgente dopo un tempo T la concentrazione aumenta nel tempo fino ad arrivare a un massimo e poi decresce questo tempo T è un tempo che conoscere è utile perché ci consente di calibrare la tempistica degli interventi nell'insaturo per proteggere la falda si può dire beh chi me lo dice che il tuo modello funziona bene lo stiamo tarando non è ancora è ancora in fase di taratura qui vi presento un caso reale le misure reali sono quelle che vedete con i rombi grigi questo è il modello transitorio proposto questo è il modello stazionario le misure dirette ai modelli di volatilizzazione è l'ultimo argomento importantissimo ipotesi comuni come abbiamo già sentito dire dai colleghi sono terreno omogeneo concentrazione uniforme nel tempo e nello spazio nessuna attenuazione o degradazione nel percorso velocità del vento e stabilità atmosferica costanti i fattori di volatilizzazione e i proposti nei criteri più diffusi anche nella SDM sono questi sono i fattori di jury e il modello di farmer per il suolo superficiale e profondo entrambi prevedono una prima fase di partizione solo acqua fase 1 insorgente la diffusione di vapori verso il piano campagna con una legge di FIC la miscelazione con l'aria ambiente secondo un box model la perfetta miscelazione alto 2 metri consiglio di guanche tutto questo vi fa capire che c'è sicuramente il rischio di sovrastima della concentrazione al punto di esposizione cosa era successo perché come ho detto prima sempre ci basiamo su casi reali per un sito contaminato da metalli in presenza di mercurio si rilevava valori di CSR irragionevolmente bassi più bassi del detection limit con quei modelli che avete visto prima quindi ci siamo a posteriori come diceva Antonella ci siamo posti il problema di andare a vedere se è il modello con la realtà con l'IMA abbiamo eseguito misure nel 2014 15 quindi ben prima dell'emanazione purtroppo delle linee guida secondo una doppia linea di evidenza con camere di flusso aperte dinamiche e misure in aria ambiente con 4 campagne per considerare la variabilità stagionale e 22 punti di misura sul sito quello che vi mostro qui è un confronto con riferimento a un unico punto di misura in cui avevamo elevate concentrazioni di mercurio in prossimità del piano campagna e quindi era il punto in cui ci attendevamo un'emissione di vapore maggiore cosa abbiamo fatto? abbiamo eseguito l'analisi di rischio in modalità diretta con il RISC4 e con lo spreadsheet di cui vi parlavo prima abbiamo confrontato la concentrazione al punto di esposizione nelle 4 campagne che vedete qui raggruppate e abbiamo confrontato le misure della concentrazione in aria ambiente le misure stimate a seguito di miscelazione in atmosfera del flusso misurato delle camere di flusso i modelli di farmer e giuri implementati con lo spreadsheet utilizzando un KD del database per il mercurio che è sempre aggiornato al tempo aveva questo valore abbiamo implementato l'analisi con un software commerciale qualsiasi e abbiamo inoltre ripetuto i modelli di farmer e di giuri accoppiando però la determinazione di KD con test di cessione del mercurio quindi sito specifica le misure le stime della concentrazione e le misure in aria ambiente si riflettono sul valore di rischio in questo caso particolare abbiamo che i risultati ottenuti dalle misure dirette che sono quelli nere e grigi sono significativamente inferiori a quelli bordeaux sulle sfumature del rosso che sono quelle dei modelli inferiori di ordini di grandezza lavorando con una KD sito specifica sicuramente abbiamo valori più bassi dei modelli ma sempre più alti delle misure dirette ovviamente non siamo i proprietari del sito che ci direbbero bene perfetto lavoriamo con le misure dirette abbiamo risolto il problema ci dobbiamo porre sempre il dubbio a chiedere perché viene più bassa sicuramente per le ipotesi cautelative del modello che ci siamo dette prima ma un'altra importante causa di questa differenza è sicuramente il tipo di contaminante perché il mercurio è volatile in un'unica forma mentre le concentrazioni che abitualmente i laboratori ci restituiscono sono concentrazioni di mercurio totale sulla matrice solida e quindi si fa implicitamente l'assunzione che tutto il mercurio è fazione volatile mentre magari nella realtà quella frazione è il 10% il 50% il 90% non lo possiamo sapere a priori se non eseguendo una speciazione con ulteriori uno spunto di discussione prima di passare le conclusioni nella nostra esperienza tra rischio assessore enti di controllo nella maggior parte di casi non in tutti c'è antagonismo e poca collaborazione so di essere in un ambiente non amico però sicuramente la collaborazione è auspicabile e porterebbe vantaggi nella qualità della caratterizzazione del risk assessment nello snellimento delle procedure formali perché spesso ci sentiamo dire una volta che andiamo lì informalmente a chiedere indicazioni voi siete i proponenti noi approviamo quindi fate carta noi scriviamo con i nostri tempi la risposta voi rifate di nuovamente documenti di aggiornamento e i tempi si allungano sicuramente collaborando l'ente sarebbe più predisposto verso l'opzione di gestione del rischio che proponeva Antonella come una frontiera da dover raggiungere e la società che come ci ha detto il direttore vorranno coinvolgere prossimamente nelle valutazioni avrebbe una percezione del rischio più realistica in conclusione le competenze geotecniche hanno sicuramente un ruolo ben definito nell'analisi di rischio nella caratterizzazione dei siti sono indispensabili per costruire un adeguato modello concettuale del sito e di sottosuolo che non condiziona solo l'analisi ma può condizionare tutto il processo di gestione gran parte dei parametri sito specifici deriva dalle caratteristiche granulometriche che quindi devono essere ben rappresentate dalle indagini di caratterizzazione così come gli altri parametri necessari all'analisi la modellazione della migrazione in condizioni transitorie può fornire risultati più aderenti e consente di conoscere margini temporali per programmare gli interventi e le misure dirette mostrano che in alcuni casi i modelli analitici sovrastimano la concentrazione alla luce di questo confronto tra misure dirette e modelli analitici sicuramente è necessario mettere a punto nuovi strumenti opzioni di calcolo o incentivare e incanalare dare delle indicazioni per l'utilizzo corretto delle misure dirette vi ringrazio per l'attenzione ringrazio l'ingegner Di Sante la conforto che non è come dire in un ambiente ostile di certo no allora adesso c'è il coffee break che era programmato di 30 minuti vi chiederei cortesemente di ridurlo a 20 minuti c'è la saletta qui fuori in quel predisposto in maniera da essere poi più puntuali nei tempi per chiudere la sessione grazie a tutti c'è proprio una saletta di risposto che fuori vediamo se riusciamo ecco gli ultimi prego allora abbiamo adesso concluduto l'intervento di Arcadis Francesco Ioppolo vedo che in inglese ma immagino parlerei in italiano sì assolutamente meno male ci siamo prego prego ok allora lascio la parola a Ioppolo di Arcadis e intervento su biodisponibilità su biodisponibilità ok corretto innanzitutto mi accodo anche io ai ringraziamenti per l'invito quindi mi accodo anche io ringraziamenti per l'invito da parte di rischio a presenziare a questo tavolo di confronto il nostro intervento guarda già diciamo al futuro perché se si parla di innovazione di nuove prospettive di nuove opportunità nel campo dell'analisi di rischio si deve per forza parlare di biodisponibilità questo infatti è un'esperienza che viene dagli Stati Uniti riguarda l'applicazione di test di biodisponibilità per gli idrocarburi policiclici aromatici che come un po' tutti gli addetti ai lavori sanno nel momento in cui si va ad attivare un percorso di ingestione e anche di contatto termico quindi percorsi diretti sono quelli che danno delle problematiche molto grandi anche perché parliamo di contaminanti con effetti anche cancerogeni vediamo in maniera diciamo molto celere questo caso studio valutando innanzitutto il perché si è deciso di andare in questa direzione che tipi di test sono stati fatti e quali sono le risultanze innanzitutto parliamo di siti che sono di proprietà del dipartimento della difesa americano che ha l'obbligo di andare a bonificare proprio perché spesso venivano effettuate attività di tipo militare come ad esempio venivano utilizzati per poligoni di tiro e in questi in questi siti si sono accumulate delle concentrazioni estremamente elevate di ipano e suolo superficiale che derivavano come poi vedremo proprio dai frammenti dei piatteri del tiro avversario concentrazioni di ipare elevate parliamo di ordine di grandezza anche di centinaia di milligrammi chilo e per capire il contesto in cui ci troviamo il ministero della difesa ha circa 3.000 siti di proprietà da dover diciamo bonificare quindi gli ipare erano distribuiti all'interno in particolare di due siti che sono oggetto di questo studio e tramite diciamo sia una valutazione di setacciatura del terreno che è evidenziato come al diminuire della dimensione delle particelle diminuivano le concentrazioni degli ipare anche della soltanza organica e tramite l'analisi proprio della dei materiali con cui erano costituiti questi bersagli fatti infatti dal 33% di pece di catrame di carbone si era capito come questi fermenti erano la solgente primaria che aveva generato questa contaminazione e soprattutto gli analiti di interesse erano rappresentati dagli drogarburi policiclici aromatici ad alto peso molecolare step successivo visto che i rischi prodotti dall'analisi rischio svolta in modalità diciamo classica erano estremamente elevati si pagava di circa 5 ordini di grandezza superiori ai limiti permessi dalla normativa si decise di ragionare proprio sulla biodisponibilità che come anche oggi qui in Italia è considerata a paga 100% cioè tutto quello che viene ingerito risulta biodisponibile ma sappiamo bene che così non è perché solo una parte verrà diciamo assorbita e un'altra parte verrà espulsa ma sappiamo anche bene che questa biodisponibilità dipende dalle caratteristiche chimico-fisiche degli contaminanti nonché dalle caratteristiche anche del terreno in termini anche di contenuti di sostanza organica per questo motivo si decise di andare oltre di fare un approfondimento valutando quindi in maniera più aderente realtà più sito specifica l'effettiva biodisponibilità di questi ridurbuli policiclici aromatici cosa si è fatto innanzitutto primo step ha riguardato la selezione di terreni ideali per poter effettuare lo studio e quindi le valutazioni successive quindi si è proceduto a prelevare 5 tampioni in aree spasse del sito compie una serie di setacciature di omogeneazioni tali per cui si potesse avere un campione effettivamente rappresentativo con una variabilità di dati che fosse la minore possibile e dopo di che si è concentrati in laboratorio con la selezione diciamo delle cavie da utilizzare nello studio che è ricaduta in esemplari di topo di sesso femminile sono stati distinti due gruppi da 4 topi per un gruppo quindi 8 topi in totale diciamo che questo è lo studio finale che è stato preceduto da una fase molto intensa di studio pilota dopodiché si è valutata la dieta ideale da somministrare a queste cavie scegliendo due strade diverse una aggiungere al 95% diciamo di cibo per i topi il 5% di suolo proveniente naturalmente dal sito è selezionato l'altra strada è quella invece di utilizzare la sostanza estratta con sorbente e aggiungerla praticamente al cibo parliamo di concentrazioni che vanno da 0,01 fino a 1,6 miligrammi chilogrammo dopodiché questo cibo si è dato in pasto per 14 giorni ai due gruppi di cavie valutando in questo rasso temporale il cibo che loro consumavano tenendo sotto controllo gli incrementi di peso e i tassi di escursione delle urine andando poi a misurare i metaboliti del ripa contenuti all'interno delle urine questo è un po' una sintesi delle due strade che sono state eseguite diciamo la strada dell'estrazione con sorbente era quella più cautelativa che più si avvicinava a tutti gli studi bibliografici che erano stati fatti in passato approccio cautelativo proprio perché si partiva dall'utilizzare del benzopirene puro cristallino disciolto con solvente dopodiché in un semplice diagramma XY non si è andato diciamo a grottare il rate di metaboliti di ipa escursi dall'oline con la frazione di dose ingerita e così si è andato a determinare la frazione di dose eliminata nell'oline tramite una semplice regressione lineare che vedremo poi nella slide successiva si è calcolato come rapporto fra i due fattori e due frazioni di dose eliminate questo coefficiente di biodisponibilità creativo che è nient'altro una percentuale utilizzando poi una elaborazione statistica considerando il 95% intervallo di confidenza della media e questo è quello che è stato fatto naturalmente distinguendo i due diversi gruppi le due differenti strade relativamente alla dieta utilizzata e il valore che poi si è ottenuto è circa dell'11% che se confrontato col 100% di default vuol dire avere dei rischi effettivamente più bassi che vedremo nella slide successiva che ci può dare una maggiore contezza di quello che questo studio ha potuto produrre in termini di sito specificità e di approccio all'aliente realtà sostenibile vedete come nei due casi dei due siti uno con una destinazione futura commerciale industriale l'altro una destinazione residenziale si paga di CSR ricalcolate per il percorso di ingestione di circa un'ordine di grandezza più alta rispetto a quelle calcolate con un approccio diciamo classico che considerava il 100% di biodisponibilità siccome questo approccio era un approccio abbastanza innovativo anche negli Stati Uniti tutti gli step dello studio sono stati fatti insieme alle pubbliche autorità che hanno anche nominato un esperto proprio sull'argomento che ha riguardato tutte le fasi di analisi fino poi ad arrivare ad un'approvazione del metodo che ha voluto anche dire per il Ministero della Difesa avere un caso studio da cui partire per tutti gli altri siti questo si è tradotto sicuramente in un grosso risparmio a livello economico e quindi in un approccio effettivamente di una grande sostenibilità per tutti gli attori coinvolti e da quale secondo me si potrebbe partire anche qui in Italia con questo ho concluso grazie per l'attenzione bene grazie adesso chiamiamo il gruppo di ricerca del Politecnico di Torino che ci propone un approccio di analisi di rischio per i nanomateriali evidenziando come le loro dimensioni influiscono sia sul trasporto che sulla tossicità grazie mille grazie mille grazie mille per l'introduzione come detto lavoro a Politecnico di Torino nel groundwater engineering group ci occupiamo da anni di trasporto di sostanze disciolte ma anche particelle e sospensioni colloidali nel sottosuolo in particolare l'approccio che vi proponiamo è principalmente rivolto al sollevare l'attenzione su i nanomateriali in particolare sul loro potenziale impatto che possono avere appunto dal punto di vista sanitario e ambientale le nanoparticelle sappiamo che ormai ci circondano sono un po' dovunque possono avere diverse origini sia origine di tipo naturale come il caso delle ceneri vulcaniche piuttosto che i batteri o le argille ma ultimamente stiamo emettendo e producendo una quantità di nanomateriali sempre più elevata si parla in particolare di particolato emesso ad esempio da automobili piuttosto che emissioni da combustione piuttosto va molto in voga l'argomento delle microplastiche ultimamente ma in realtà le nanoparticelle i nano e i micromateriali sono presenti nella maggior parte dei prodotti che oggi utilizziamo prodotti tecnologici informatici e tessuti da un punto di vista dell'impatto sul sanitario ambientale queste particelle possono essere totalmente innocue come nel caso di materiali naturali come l'argillo materiali appositamente ingegnerizzati per essere utilizzati in applicazioni ambientali possono essere invece dei contaminanti loro stesse come è appunto detto il caso delle micro e nanoplastiche o il caso di eventuali contaminazioni da virus e batteri perché virus e batteri in acqua si comportano si trasportano dal punto di vista della mobilità del sottosuolo esattamente come delle nanoparticelle delle particelle colloidali oppure d'altra parte le particelle possono rappresentare una veicolazione facilitata di altri contaminanti contaminanti che si assorbono molto facilmente su materiali ad esempio argillosi possono essere trasportati all'interno del sistema acquifero per cui risulta essere molto importante porre l'attenzione anche su questo tipo di contaminanti che possiamo dire possiamo chiamare contaminanti emergenti dal punto di vista delle sorgenti di questi contaminanti di questi nanomateriali possiamo avere sia sorgenti di tipo diffuso come ad esempio le emissioni di micro e nanomateriali in atmosfera che poi ricadendo al suolo possono infiltrarsi e rappresentare una sorgente di contaminazione ad esempio delle falde acquifere ma possiamo avere anche ultimamente delle sorgenti di tipo puntuale il caso ad esempio di stoccaggi di sospensioni colloidali utilizzate per impieghi industriali piuttosto che di scariche in questo caso si tratta di contaminazioni più alla scala locale con concentrazioni relativamente elevate in particolare il nostro studio il nostro approccio si concentra su questo tipo i sorgenti anche perché per le sorgenti diffuse al momento ci si aspetta che le concentrazioni emesse in ambiente siano relativamente basse seppur ubiquitarie quindi concentrandosi soltanto sull'aspetto delle sorgenti puntuali di micro e nanomateriali potremmo vedere l'approccio potremmo pensare di utilizzare l'approccio tipicamente impiegato per i composti chimici cioè seguire un approccio basato sulla procedura ASTM però abbiamo già parlato ampiamente questa mattina riguardo questo questo approccio sicuramente risulta non banale l'applicazione di questa di questa metodologia alla valutazione del rischio apportato da micro e nanomateriali perché appunto non è stato sviluppato per dei composti chimici e non delle sostanze particellari adesso vedremo anche meglio il perché i risultati tipici di questa procedura sono quindi degli indici di rischio che ci dicono se esiste o meno un rischio potenziale per l'ambiente un rischio sanitario o ambientale non sto a discutere nel dettaglio l'approccio che è diviso su tre livelli e tre step come abbiamo visto che ci porta dall'identificazione della sorgente dei percorsi di migrazione fino poi all'identificazione delle concentrazioni al punto di esposizione e la valutazione del rischio su potenziali recettori esposti vi ho riassunto brevemente quelli che sono i due step principali della procedura STM la prima fase appunto è quella la fase del trasporto che permette la definizione di questo natural attenuation factor quel parametro che ci permette di correlare la concentrazione del contaminante alla sorgente con la concentrazione al punto di esposizione che è funzione di parametri appunto sito specifici e poi lo step del calcolo del rischio cioè col NAF col parametro di trasporto riusciamo a determinare le concentrazioni al punto di esposizione queste concentrazioni passando attraverso gli indici di rischio reference dose slope factor per il caso rispettivamente tossico e cancerogeno ci permettono di calcolare poi gli indici di rischio qual è la problematica quando si ha a che fare con le nanoparticelle che non si parla più di una singola sostanza disciolta ma abbiamo a che fare con un sistema piuttosto complesso è un sistema che non è più è composto da una distribuzione eterogenea di particelle che possiamo in questo caso approssimare con una gaussiana monovariata o polivariata nel caso in cui ci sia una popolazione polidispersa di particelle dobbiamo andando ad analizzare poi il comportamento delle particelle andiamo a vedere che la mobilità il trasporto di queste particelle nel sottosuolo purtroppo è funzione della loro dimensione quindi non possiamo approssimare il comportamento medio di una popolazione di particelle con il comportamento appunto delle particelle con la dimensione media in quanto la mobilità delle particelle può variare anche sostanzialmente in funzione della dimensione quindi lo step di trasporto risulta essere fortemente influenzato dalla dimensione stessa delle particelle inoltre bisogna ricordare che i meccanismi di migrazione delle particelle nel sottosuolo sono anche diversi da quelli dei soluti per i soluti teniamo conto tipicamente di fenomeni quali l'assorbimento e il decadimento in questo caso entrano in gioco anche dei meccanismi di tipo fisico ad esempio la filtrazione delle particelle piuttosto che interazioni superficiali tra la superficie del mezzo poroso e la superficie delle particelle inoltre un altro aspetto da tenere in considerazione è che proprio poiché il trasporto delle particelle è funzione della loro dimensione la distribuzione granulometrica delle particelle rilasciata alla sorgente sarà ben diversa dalla distribuzione granulometrica osservata al punto di osservazione e quindi al punto di esposizione perché? perché ovviamente le particelle trasportandosi in maniera diversa genereranno una deposizione quindi una filtrazione differente delle particelle in funzione della loro dimensione dal punto di vista della tossicità anche in questo caso bisogna tener conto dell'effetto dimensione anche la tossicità delle particelle è funzione della loro dimensione quindi un'ulteriore complicazione quando si ha a che fare con sistemi di nanoparticelle non bisogna più tener conto soltanto della composizione chimica della particella quindi del materiale di cui è composta ma anche della sua dimensione e quindi la tossicità può variare anche sostanzialmente in funzione di questo parametro qual è l'approccio che proponiamo? quindi non possiamo più applicare una procedura ASTM standard approssimando il comportamento medio della sospensione delle particelle con quello ad esempio della dimensione media ma l'idea che proponiamo è quello di trattare le particelle come se fossero costituite da tante tipologie di contaminanti diversi per fare questo andiamo a discretizzare la distribuzione granulometrica continua delle particelle soddividendola in classi granulometriche andiamo a trattare ogni classe quasi come fosse un contaminante diverso inoltre sarebbe più opportuno non far più riferimento alle concentrazioni di particelle in massa ma concentrazioni in numero perché? perché ovviamente a parità di concentrazione in massa di particelle a 20 dimensioni diversa avremo un numero di particelle estremamente diverso a cui conseguirà un rischio potenzialmente diverso dobbiamo ricordare che la massa delle particelle scala col cubo del diametro quindi andando a raddoppiare la dimensione della particella avremo una massa che è 8 volte maggiore e quindi dobbiamo tener conto per ogni classe granulometrica dei parametri di trasporto e tossicità che sono funzioni della dimensione delle particelle quindi come approcciamo il problema globale il rischio totale indotto da un eventuale rilascio di particelle nel sottosuolo può essere calcolato attraverso una sommatoria del rischio indotto dalla singola classe e in questo modo qui potete vedere come possiamo calcolare i parametri di trasporto iesimi per la iesima classe dimensionale e poi ottenere la quantificazione del rischio tossico e cancerogeno come sommatoria del rischio indotto dalle singole classi quali sono gli strumenti che ad oggi abbiamo a disposizione diciamo che sul fronte del trasporto di particelle in mezzi porosi c'è un'ampia letteratura che descrive quali sono i meccanismi che influenzano la mobilità delle particelle in mezzi porosi e anche in funzione dei meccanismi fisici e fisico-chimici che ne determinano la deposizione o l'eventuale rilascio dalla matrice solida del sistema acquifero queste equazioni possono essere risolte sotto alcune ipotesi semplificative anche con delle soluzioni analitiche per situazioni più complesse sono stati sviluppati negli anni dei modelli numerici ad esempio il nostro gruppo di ricerca ha sviluppato il software M&M's che permette di risolvere queste equazioni di trasporto anche in condizioni più complesse questi software sia i software che le soluzioni analitiche possono essere in qualche modo adattate per tener conto di distribuzioni granulometriche complesse quindi tener conto di parametri che siano size dependent e tener conto appunto poi del trasporto individuale delle singole classi granulometriche delle particelle dal punto di vista della tossicità invece la situazione attualmente è un pochettino più critica cioè la tossicità delle particelle è un fattore non banalissimo da stimare dipendente da diversi fattori sia biologici quindi interazione tra la particella e i sistemi biologici ma anche fisici in quanto come detto la dimensione ma anche la forma può influenzare quella che poi è l'effetto di tossicità della particella ad oggi non sono disponibili dei parametri ufficiali normati per descrivere gli effetti tossicologici dipendenti dalla dimensione per le particelle ma sicuramente questo aspetto richiede degli ulteriori approfondimenti dal punto di vista della ricerca per definire questi parametri qui vi ho riportato brevemente un esempio di applicazione in cui abbiamo tre scenari un primo scenario è lo scenario A in cui ipotizziamo di approssimare tutta la distribuzione di particelle come fosse tutta costituita da particelle della stessa dimensione cioè particelle di dimensioni diverse ma ugualmente distribuita ma che si trasportano tutte come con il comportamento medio delle particelle quindi vedete la distribuzione di particelle alla sorgente al punto di disposizione viene diminuita ma in ugual modo per tutte le dimensioni anche per il rischio consideriamo un fattore una reference dose costante per tutte le dimensioni arriviamo al calcolo dell'HQ in questo caso è stato stimato pari a 1.8 già solo inserendo lo step del trasporto in funzione della dimensione quindi avendo una distribuzione granometrica alla sorgente che si trasporta in maniera diversa in funzione della dimensione ma comunque mantenendo una reference dose costante per tutte le particelle vediamo che abbiamo una stima differente del rischio in questo caso c'è un leggero aumento del rischio questo perché appunto abbiamo particelle che si trasportano in maniera differente se poi introduciamo l'ulteriore variabile che è data dalla reference dose variabile in funzione della dimensione vediamo che l'errore che possiamo commettere sul calcolo globale del rischio può essere anche sostanziale in questo caso circa 5 volte maggiore quindi è fondamentale tener conto anche di questi aspetti abbiamo ripetuto lo stesso un test sperimentale per stimare il rischio associato al rilascio di nanoparticelle di argento di due dimensioni diverse e basandoci anche su dei dati sperimentali effettivamente abbiamo ottenuto che si possono commettere degli errori anche relativamente importanti se consideriamo il comportamento di soltanto una delle due tipologie di particelle quindi in conclusione diciamo che per tener conto dei rilasci di particelle in ambiente è necessario adattare i modelli esistenti per il calcolo del rischio in sistemi acquiferi e gli aspetti chiave su cui bisogna lavorare sono sicuramente quello dello sviluppo di modelli di trasporto che tengono conto di questi effetti size dependent che come vi dicevo in realtà esistono già bisogna soltanto renderli disponibili e coerenti con l'analisi di rischio ma soprattutto determinare dei parametri di tossicità funzione della dimensione su questo c'è ancora tanto lavoro da svolgere vi ringrazio grazie ultimo intervento della mattinata la dottoressa Sibbia Gipellini dell'università di Brescia ci presenta invece una proposta sul diciamo alcune esperienze del team di ricerca di Brescia sull'applicazione e l'analisi di rischio e le discariche che come dire è un altro argomento su cui dovremo lavorare come gruppo di lavoro SMBA ok buongiorno a tutti sono appunto Gipellini Sibbia sono assegnista di ricerca presso l'università di Brescia e sono supervisionata dal professor Vaccari che oggi purtroppo non è presente per un problema fisico quindi si scusa e appunto sono qui come ha detto la vecchio insomma per presentarvi la nostra esperienza in merito all'applicazione dell'analisi di rischio alle discariche allora a beneficio di tutti ricordo che nella procedura di autorizzazione italiana per la costruzione di una discarica l'analisi di rischio è obbligatoria nel caso di richiesta di deroga alla normativa vigente e in particolare la valutazione del rischio deve dimostrare che non esistono dei pericoli per l'ambiente condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione alle sottocategorie di discariche per i rifiuti non pericolosi quindi articolo 7 del DM 27 settembre 2010 e alle deroghe ai valori limite per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica quindi articolo 10 e questo è il nostro focus specifico che riguarda una fase di autorizzazione e quindi di non successiva a un evento di contaminazione come quello che abbiamo visto questa mattina in regione Lombardia le autorità competenti per il rilascio di questo tipo di autorizzazione sono le province e la provincia di Brescia è una di queste e al fine di ottemperare questa competenza la provincia ha sviluppato una propria procedura metodologica e da diversi anni la provincia di Brescia ha una collaborazione con il nostro dipartimento di Cata o dell'Università di Brescia per avere un supporto tecnico scientifico nella valutazione dei documenti di analisi di rischio che appunto ricevono allora per quanto riguarda la procedura metodologica ci concentriamo innanzitutto sull'analisi di rischio per le acque sotterranee a partire dalle concentrazioni richieste in deroga o autorizzabili per la sottocategoria attraverso un fattore di risciviazione calcolato a partire dalle linee guida ex-apat per le discariche e da circolari ISPRA si calcola la concentrazione al punto di conformità POC che viene confrontata con le concentrazioni ammissibili in falda quindi valori più restrittivi presenti nella normativa nazionale dopodiché attraverso il fattore di attenuazione laterale in falda si calcolano le concentrazioni al punto di esposizione che in provincia di Brescia vengono confrontate con i limiti di riroabilità strumentale forniti dal laboratorio ARPA di Brescia allora qui un attimo giusto due parole sulle formule come dicevo prima citavo un circolare ISPRA del 2011 che ha chiarito corretto diciamo un errore sulla definizione dell'LDF e ha chiarito dove prendere la formula del delta GV e altra cosa che voglio sottolineare è come l'altezza di percolato il livello di percolato sul fondo della discarica entra in gioco nel calcolo dell'LF quindi della portata di percolato e del delta GV stesso per quanto riguarda i fattori di attenuazione laterale in falda il riferimento sono le linee guida relative ai siti contaminati perché le linee guida relative alle discariche riportano un errore sul reciproco insomma riportano il reciproco nella definizione del DAF e ovviamente poi viene scelta l'equazione corretta in base alla configurazione spaziale della contaminazione allora vediamo qui un esempio numerico da una recente valutazione in cui a partire da per questo sono valori per il cromo totale a partire da una concentrazione in deroga di 0,15 mg litro si è verificato nelle condizioni specifiche un rischio accettabile per l'acqua sotterranea e un rispetto dei limiti di rilevabilità al punto di esposizione identificato che era un pozzo a 1520 metri dalla discarica qui vediamo un'applicazione anche in modalità inversa che ha come obiettivo il calcolo delle concentrazioni massime ammessibili di contaminanti nel percolato e quindi a partire da un limite di arrivabilità sempre per il cromo totale di 0,002 mg litro si arriva a una concentrazione nel percolato massimo ammessibile di 21 mg litro allora giusto per riassumere i punti chiave nella procedura per le acque sotterranee quindi per questa prima parte abbiamo detto che la circolare ISPRA ha chiarito questo errore sull'LDF e quindi sull'LF ha definito la posizione del punto di conformità e ha chiarito la possibilità di limitare l'analisi di rischio a valutazioni su matrici ambientali e dicendo che il rischio sulla salute umana può essere effettuato solo se i rischi non sono accettabili in una delle componenti ambientali la provincia di Brescia sostanzialmente ha recepito questa circolare e ha fatto anche ulteriori scelte in mancanza di altri riferimenti in particolare come dicevo come accennato prima l'adozione di limiti di rilevabilità forniti dal laboratorio di Arpa Brescia per il confronto delle concentrazioni al POE un'altezza di battenti di percolato di progetto pari a un metro questo è stato fatto per necessità di codificazione di questo parametro in sede di contenzi amministrativi quindi per avere una base uguale per tutti è stata inoltre fatta una scelta di accettare in linea generale delle ipotesi cautelative in mancanza di dati inoltre è esplicitato la validità dell'analisi di rischio finché non variano degli elementi altrimenti l'analisi di rischio va riprenditata una possibilità che è in discussione al tavolo regionale permanente in materia di ricordinamento in materia di rifiuti c'è la proposta di eseguire l'analisi di rischio relativa alle acque sotterranee solo al punto di conformità nel caso delle discariche l'analisi di rischio dovrebbe valutare quando rilevanti anche le emissioni gassone che sono le emissioni legate al biogas ai vapori derivanti da volatilizzazione da falda e dal particolato i punti di esposizione da considerare sono sia outdoor che indoor e nei nostri casi l'esposizione indoor è stata valutata nelle palazzine uffici perché sostanzialmente per le configurazioni diciamo spaziali non vi erano nelle immediate vicinanze degli insediamenti residenziali allora ci concentriamo sul biogas componente su cui abbiamo effettuato maggiori approfondimenti per quanto riguarda l'esposizione outdoor abbiamo utilizziamo le formule della linea guida ex a parte delle discariche e quindi in questo caso diciamo non abbiamo trovato delle criticità per quanto riguarda l'esposizione indoor quindi quella che vedete qui indicata come C2 andiamo a calcolare la concentrazione all'interno nei nostri casi della palazzina uffici a partire dalle concentrazioni outdoor caricate dal punto precedente e dalle concentrazioni nel suolo che vengono calcolate a partire dalla C-Lat con il staff appunto formula che è contenuta all'interno delle linee guida ci sono però delle incongruenze che abbiamo riscontrato ad esempio nella formulazione del parametro beta che abbiamo visto entra in gioco nel calcolo di C2 le linee guida appalt riportano al denominatore un errore dimensionale nel senso vedete sono sommati dei termini in metri cubi ora con termini in metri ora siamo andati allora a prendere in considerazione il manuale Gassim che è la fonte citata il quale riporta un errore dimensionale diverso abbiamo due termini in metri ora che vengono sommati a un termine in metro quadro siamo allora andati a prendere la fonte originaria che è questo ferro gussone tal in cui c'è finalmente la formulazione corretta abbiamo anche riscontrato un'incongruenza nella formulazione del parametro di 1-2 nella struttura della formula perché questa non rispecchia la struttura della formula riportata dalle fonti bibliografiche quindi c'è una questione di somma di reciproci inoltre lo spessore dello strato iesimo non viene esplicitato e non è chiarito dove riperire i valori dei coefficienti di diffusione del gas che invece appunto dalle fonti si capisce che sono legate alla diffusività del contaminante e allo spessore dello strato iesimo quindi alla luce di questo in provincia di Brescia la prassi è quella di far riferimento per lo scenario indoor della componente biogas a Ferguson quindi alla fonte originaria il quale peraltro fornisce anche dei valori di riferimento per alcuni parametri necessari per il calcolo per i singoli strati ad esempio di un singolo pacchetto di costruzione di pavimentazione mura e copertura e inoltre per quanto riguarda la concentrazione del contaminante nel soil gas in assenza di dati sito specifici si assume per ciascun contaminante il valore pari alla concentrazione riscontrata nel biogas allora queste concentrazioni andrebbero poi confrontate con il valore di riferimento massi ammissibili e qualora i superati andrebbe calcolato il rischio sanitario qual è il primo problema? quali inquinanti considerare in questa analisi? perché mentre nel caso del percolato abbiamo una correlazione diretta con la richiesta di deroga o sottocategoria nel caso del biogas questa correlazione viene meno quindi la proposta che è in discussione al tavolo regione Lombardia è un insieme di parametri essenziali quindi i principali costituenti del biogas da discarica per emissioni da corpo discarica e per emissioni da motori e torce una selezione di parametri indicati dalle prescrizioni tipiche di monitoraggio il problema 2 è che non sono definiti dei chiari limiti normativi per le concentrazioni ammissibili di inquinanti in atmosfera per gli inquinanti caratteristici del biogas per esposizione indoor e outdoor quindi la proposta di soluzione elaborata anche in collaborazione con ISS nella persona di Gaetano VII e in discussione anche al tavolo della regione Lombardia è la seguente allora per quanto riguarda lo scenario outdoor la proposta è quella di considerare il decreto legislativo 81 del 2008 quindi il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro perché appunto l'esposizione outdoor riguarda i lavoratori sulla discarica che quindi sono soggetti ad un rischio chimico specifico quando questi valori non siano presenti si può fare riferimento in ordine alle TLV oppure ai valori indicati dal decreto legislativo 155 del 2010 o infine ai valori delle linee guida dell'OMS per quanto riguarda lo scenario indoor il decreto legislativo 81 del 2008 non è non si è considerato applicabile perché sostanzialmente i lavoratori che sono all'interno della palazzina ufficio nel nostro caso non sono dei lavoratori che hanno un rischio chimico perché sono dei lavoratori amministrativi diciamo e quindi non hanno formazione specifica su questo e non hanno dei dispositivi di protezione su questo quindi si è deciso di fare riferimento alle linee guida dell'OMS per la qualità dell'aria indoor se questi valori non sono presenti si fa riferimento a cascata al 155 del 2010 alle linee guida outdoor e solo infine alle TLV terzo problema è che non è possibile altresì calcolare il rischio sanitario per la maggior parte delle sostanze inquinanti caratteristiche del biogas infatti non sono definiti né SF né RFD per le sostanze caratteristiche del biogas e in realtà per alcune sostanze sono disponibili dell'RFC da cui si potrebbero calcolare le RFD ma la proposta di soluzione è adottare un approccio di confronto tra le concentrazioni descritti nel punto precedente e se i valori di riferimento non sono rispettati procedere con delle prescrizioni qui ci sono degli esempi numerici ottenuti per il caso del metano qui voglio semplicemente focalizzarmi sulla scusi se è possibile si avvia la conclusione se no non facciamo il tempo nemmeno a fare un minimo di discussione ok niente per cui volevo semplicemente sottolineare quello che dicevamo prima cioè il fatto che la TLV è stata superata nel caso del metano e quindi la prescrizione era stata quella della realizzazione di una barriera impermeabile ai gas quindi tutto quello che abbiamo detto è diciamo in discussione al tavolo della regione Lombardia il tavolo permanente è tutto appunto in discussione niente ancora è ufficiale e appunto la grossa necessità che è emersa è quella di adottare uno strumento di semplificazione normativa per standardizzare tutti i criteri per l'analisi di rischio applicata alle discariche in tutta la regione quindi le proposte sono sull'ADR per le acque sotterranee fermarsi appunto di conformità e per quanto riguarda la componente biogas applicarla solo in caso di richiesta di sottocategoria con richiesta di definizione per i parametri organici che quindi sono correlati al biogas considerare almeno una serie di parametri essenziali come abbiamo detto utilizzare le formule corrette confrontare le concentrazioni al POE e considerare per sagli on site ovvero il personale delle discariche sia per l'esposizione outdoor che per l'esposizione indoor anche se esistono delle perplessità sull'esposizione indoor perché gli operatori hanno un'adeguata formazione a rischio chimico e specifici dispositivi di protezione individuale vi ringrazio grazie la notizia credo che sia che in provincia di Brescia si fanno ancora le discariche allora era prevista mezz'ora per le domande e per la discussione diciamo che visto che siamo già fuori con i tempi per il momento lasciamo spazio a tre domande per i relatori e poi proseguiremo per una ventina di minuti la discussione della sessione tecnica e le conclusioni nel pomeriggio prima della quindi togliamo 20 minuti chiedo scusa ai colleghi che coordinano la tavola rotonda sottriamo 20 minuti della tavola rotonda quindi abbiamo tre domande per i relatori della sessione tecnica non ci sono domande siete rimasti scioccati avete fame la carenza di zuccheri mi sa bene io a questo punto se non ci sono domande come dire procediamo alla conclusione quindi faccio come dire due commenti al volo ai miei colleghi e poi come dire chiudo diciamo con una mia chiosa personale quindi lascio commento a Madela e a Igor io ringrazio tutti i relatori della mattinata perché ci hanno dato non va ecco dicevo ringrazio tutti i relatori della mattinata perché ci hanno dato tutta una serie di feedback che sicuramente di cui terremo in seria considerazione quando andremo a fare le nostre valutazioni sono obiettivamente arrivate tutta una serie di informazioni interessanti alcune già note altre meno che ci aiuteranno sicuramente nel nostro percorso per cui veramente ringrazio tutti di cuore e poi insomma speriamo che questa collaborazione che oggi è avvenuta in maniera pubblica in maniera molto trasparente possa continuare con tutti i soggetti che oggi sono qui presenti indipendentemente dalla parte del tavolo in cui essi sono perché credo che attraverso il confronto e l'esperienza che ognuno di noi in questi anni ha acquisito possiamo realizzare un buon prodotto grazie ancora scusate è emersa una domanda come dire dal pubblico l'ha detto adesso è il microfono chi? microfono grazie Sabrina meglio parliamo meglio da dire mai una domanda è emersa meno male una domanda velocissima la domanda Francesca Mozza di Alcom poiché prima si parlava di rendere disponibile al pubblico tutti i procedimenti anche di bonifica per quanto riguarda questa nuova revisione dei criteri metodologici pensate di mettere a disposizione un draft mi viene in mente come l'EPA per peer review raccogliere commenti e poi mettere una pensione definitiva o in altri modi insomma grazie allora intanto comunico che non esiste nemmeno una bozza della revisione dei criteri quindi cioè non esiste nessun documento in circolazione ve lo posso testimoniare i colleghi che lavorano con il gruppo di lavoro diciamo che la modalità vuole essere la più condivisa possibile ora dal punto di vista però formale della diciamo confronto tra le SNPA e i soggetti esterni questo non è come dire dobbiamo condividere queste modalità all'interno del Consiglio SNPA cioè sicuramente non è Ispra che decide e non è il gruppo di lavoro che decide questo gruppo di lavoro lo testimonia questo convegno ha cercato di avere la massima apertura possibile e speriamo che ora qui dipenderà dai esiti del Consiglio SNPA su come deciderà di muoversi questo non ve lo posso ancora dire quindi cercheremo faremo di tutto per essere il più trasparenti possibile però se magari non ci riusciremmo sappiate che non dipende dalla volontà del gruppo di lavoro ma sono decisioni che vengono prese a livelli più alti di noi sì anch'io la taglio corta nel senso che ci aspetta e stiamo facendo abbiamo iniziato un certo tipo di lavoro stamattina il direttore lo presti ha detto che aspettare i risultati nel gruppo per fare le modifiche delegati vediamo chi fa prima chi fa dopo le modifiche noi il lavoro è consistente quindi ci vorrà un po' siamo tutti esperti del settore quindi sapete come vuol dire riscrivere i criteri mitologici quindi sarà una cosa elaborata e necessariamente accurata perché altrimenti per modificare senza efficacia si può anche fare quindi questo è quello che abbiamo intrapreso nella condivisione penso che ci sarà un'altra occasione Antonella non so probabilmente sì ma vediamo allora brevissimamente chiaramente ringrazio tutti coloro che hanno partecipato all'open call per le proposte tecniche chiaramente la ricerca va avanti e va avanti su molte tematiche innovative quello che possiamo dire è che non è detto che tutte le innovazioni possano essere già recepite all'interno dei criteri perché tenete presente che noi ragioniamo con procedimenti concreti quindi non come dire recepiamo l'indicazione della ricerca ma la ricerca fa la ricerca anche noi siamo in studio di ricerca noi poi dobbiamo affrontare i problemi reali per cui stiamo valutando e ci siamo presi molto tempo per valutare tutte le proposte proprio per come dire centellinare e acquisire un giudizio più possibile tranquillo su tutte le proposte ricevute ci saranno sicuramente degli ulteriori momenti di confronto con chi ha fatto le proposte con il gruppo di lavoro questi non saranno aperti ovviamente saranno come dire momenti di riunioni tecniche del gruppo di lavoro e ringrazio tutti per la partecipazione molto nutrita a questo convegno e come il lavoro che ci aspetta è molto arduo e quello l'obiettivo finale è quello di cercare di rendere lo strumento più utile possibile questo l'ho detto in premessa e questa mi sembra la conclusione più auspicabile grazie a tutti ci vediamo per il pranzo per la tavola rotonda a questo punto alle 14 e 30 14, 14 e 15 perché insomma abbiamo sottratto un po' di tempo alla pausa pranzo se ce la fate a venire prima bene grazie a tutti e ci vediamo dopo pranzo poi c'è Donata Giacopetti di Unione Petrolifera che immagino voi conosciate poi insomma si presenteranno singolarmente e poi c'è Dona Beccaloni anche conoscete di studio di sanità coinvolta in tutti i documenti di Anasi di Rischio e nei pareri che noi facciamo confesso subito che mi sento un po' poco a mio agio in mezzo a tutte queste cinture nere dell'Aasi di Rischio perché io sono un povero un povero utilizzatore e non uno sviluppatore come voi né un ricercatore diciamo noi ci dovremmo dovremmo ragionare e passo la parola alle mie due colleghe dovremmo cercare di trovare risposta a queste tre domande che ricapitolano un po' abbiamo pensato con Antonella soprattutto Antonella le cose che ci bloccano un po' di più quindi la prima sostanzialmente è una domanda di ordine comportamentale cioè come potremmo favorire diciamo anche di educazione come possiamo favorire lo sviluppo dei rapporti tra diciamo tra gli enti tra tutti gli enti coinvolti e i portatori di interessi diversi diciamo per non dire opposti ma quello dipende e poi vabbè invece la seconda è di tipo un po' più scientifico quindi come rendere più realistiche votazioni e mi sembra che la terza è un po' la sintesi di tutto quello che è stato detto durante la mattinata io da povero ignorante su analisistico lo confesso diciamo ho dico subito le mie impressioni che ho avuto durante la mattinata nel senso che adesso mi perdonerete se magari arrunzo un po' i concetti però diciamo visto che poi noi sostanzialmente ci rivediamo circa 200 300 documenti l'anno se i quali cerchiamo di ragionare da essere propositivi diciamo quello che mi colpiva di più è questa sottolineatura del fatto che i modelli sovrastimano sempre poi le cose che poi ci vedono con le misure questo sicuramente è vero non ho ovviamente motivi di pensare il contrario però fatto sta che spesso noi troviamo dei siti insomma che ci riconosciamo senza diciamo il nome e il cognome in cui comunque l'analisi rischio ci dice che non c'è il rischio e poi magari facendo le misure del suo gas troviamo delle concentrazioni di idrocarburi che sono intorno al grammo a metri cubo allora probabilmente c'è qualche cosa che noi dobbiamo ripensare sia a noi proprio come come ente come enti e sia probabilmente quelli che propongono diciamo i documenti che poi ci arrivano sulla scrivania passerei la parola alle mie colleghe in modo che si possano presentare e fare se me lo vogliono una breve introduzione fanno i complimenti anche per questione di peso è sempre eccezionale riesce sempre ad alleggerire tematiche anche in una certa valenza allora io appunto sono il donore a peccadoni dell'istituto superiore di sanità per quanto riguarda le politiche ormai sono più di vent'anni che affrontiamo cerchiamo di affrontare questo problema già da quando uscì il 471 quindi la prima norma che ci dava delle diciamo negli orientamenti allora il problema forse se vogliamo affrontare il primo che è quello di come è possibile far interagire no? nienti di controllo con i propri argomenti allora quello che vi posso dire è che adesso come adesso sta cambiando molto l'approccio a queste problematiche noi come istituto abbiamo elaborato la MIS che è una relazione di impatto sanitario che andrà adesso accoppiata la relazione di impatto ambientale e uno degli argomenti che abbiamo messo proprio nelle premesse e quali sono quindi le procedure più donne è proprio quello dell'interazione e della diciamo nel continuo confronto con gli enti territoriali del proponente con gli enti territoriali perché siamo abbastanza convinti e fiduciosi del fatto che se si lavora insieme forse si trova una soluzione altrimenti c'è un rimpallo continuo di cose che non vengono chiarite di posizioni che non sono che molto spesso fanno parte della propria estrazione e che quindi non trovano una diciamo una linea comune e alle volte forse si creano quelle incomprensioni dove comunque ci si mette uno contro l'altro armato per cui non si arriva nulla per cui per quanto è stata la nostra esperienza io parlo di quello che noi rappresentiamo siamo molto favorevoli all'incontro è vero che molto spesso ci sono i tavoli tecnici vengono proposti dei tavoli tecnici e vi chiedo perdono ma l'istituto molto spesso non è presente ma tenete conto che in questo periodo o a di parte di quello che è la riorganizzazione di tutta la struttura che c'è stata eccetera ma abbiamo avuto dei forti pensionamenti un certo numero di pensionamenti per cui siamo rimasti praticamente su questa tematica in due per cui noi operiamo sia a livello nazionale che a livello regionale abbiamo il supporto alle ASL uno dei problemi grossi che noi abbiamo che voi avete e che si è anche ed è emerso in modo importante nel per quanto riguarda anche la VIS lo sviluppo della VIS è la carenza da parte degli enti sanitari locali a partecipare a queste problematiche questo è un per quanto ci riguarda è una cosa che sappiamo benissimo ci stiamo organizzando per fare corsi di formazione in modo tale che siano più presenti sul territorio le strutture sanitarie e che inizia cerchiamo di far capire che è importante che ci sia questa collaborazione nelle procedure tra gli enti di controllo e i proponenti perché? perché poi adesso c'è una forte sensibilità della popolazione rispetto ai siti contaminati rispetto ai fiori fiuti per cui molto spesso se non si riesce a trovare una linea comune poi alla fine diventa difficile affrontare il problema e quindi risolverlo questo è per quanto riguarda diciamo il primo aspetto quello che è di competenza sanitaria a me a me grazie e buonasera sono Donatella Giacopetti lavoro in Unione Petrolifera e mi occupo di salute e sicurezza ambiente consentitemi di ringraziare ISPRESS e NPA per avermi invitato anche qui a moderare questo tavola rotonda perché per noi è un segnale molto importante riteniamo che in temi complessi come è la gestione delle bonifiche un approccio di confronto e dialogo sia sicuramente una chiave di volta per tutti perché ovviamente l'abbiamo anche già un po' sentito stamattina nel senso che ognuno ha il proprio punto di vista perché è abituato a vedere una tematica con un'angolazione e l'incontro di oggi ha secondo me l'obiettivo è proprio quello di aprire a angolature diverse semplicemente una battuta io mi occupo di un po' di comunicazione e un po' di security la parte security dice ah no non devi dire nulla non devi parlare di nomi devi essere anonimo perché comunque mettere videocamere eccetera chi fa comunicazione come vede passare un pezzo di carta fa aspetta che lo pubblico io ho detto aspettate ogni cosa ovviamente ha una finalità e un modo di essere utilizzato per quella finalità la difficoltà è quello di contemperare ovviamente interessi diversi nel rispetto dei ruoli con un obiettivo comune l'obiettivo comune è chiaro quindi siccome secondo me oggi pomeriggio deve essere utile e fruttuoso e lasciatemi dire anche condivido molto questo modello aperto perché al di là della comunicazione e delle domande qui è proprio diciamo un momento di scambio per cui inviterei tutti quelli che sono in fondo a venire avanti perché vorrei veramente che fosse un pomeriggio interattivo considerate che visto come il bilanciamento aereo vi siete messi tutti vicino alla porta nessuno è costretto a stare qua dentro se c'è un aereo se c'è un treno eccetera quindi se venite avanti non significa che non vi facciamo uscire quindi coraggio avvicinatevi che così diciamo poi lavoriamo forza non siate timidi perché se no non comincio e non vi faccio uscire quindi se non venite avanti venite venite chi mi conosce sa che è meglio si si non vi preoccupate lasciate borse i cappotti che vogliamo fare no no seduto con ordine seduto con ordine venite venite avanti forza coraggio anche perché vorremmo dividere le tre domande con il tempo che abbiamo e quindi consentire veramente un dibattito veloce vi chiediamo di venire qua di rispondere partiamo con la prima domanda vi presentate così diciamo capiamo ci abbiamo già anche un po' un indizio di quello che è il vostro punto di vista vi ripeto siete liberi di uscire in qualsiasi momento però diciamo penso che fate un regalo a tutti nel partecipare perché penso sia proprio l'obiettivo del pomeriggio di oggi al di là del fatto che siamo registrati quindi tutti vedranno quello che noi diremo in realtà questo è un momento veramente di diciamo libero contributo perché nel momento in cui io leggo la prima domanda ridurre gli elementi del conflitto è ovvio che attiene a quello che si dice il carattere soggettivo e chi si occupa di rifiuti sa che c'è una condizione oggettiva e una condizione soggettiva quindi qui vi potete proprio esprimere senza diciamo nel limiti insomma ovviamente dell'educazione perché ovviamente immagino che i colleghi che facciano attività di controllo avranno una sensibilità ovviamente orientata al fatto che loro per lavoro devono fare quello e che quindi è quello alla loro angolazione una collega che fa ingegneria ambientale che quindi è un professionista su questi temi avrà un'ottica nella costruzione di quello che è la base l'esperienza e la qualificazione che ha se è un committente avrà un'angolatura se è diciamo un pubblico cittadino ne avrà un'altra quindi vi chiedo veramente di contribuire in maniera libera al dibattito non perché quello che voi diciate debba essere tradotto sulla pietra ma per consentire un arricchimento della community poi ognuno farà quello che è incaricato a fare sono andata troppo oltre? vado? procedo? vediamo se è stato fruttoso vediamo se diciamo servono ulteriori stimoli ha ci sito tutti perfetto allora il primo questo sito lo vedete lo leggiamo come ridurre gli elementi di conflitto tra proponenti e denti di controllo per agevolare e accelerare l'iter di conclusione dei procedimenti questo diciamo è un punto in cui sinceramente vi chiediamo di portare alla vostra esperienza chi non rompe il ghiaccio tra tre secondi forza via rapidi qui si vede anche lo stato di capacità fitness non ci sono fili quindi non vi potete inciampare Jason Verginelli tutti presenti grazie luce verde guarda sotto aspetta aspetta abbiamo l'aiuto dalla regia grazie mille grazie grazie Jason Verginelli università di Roma tra del Gala io non so questa mattina c'hai la telecamera ti devi girare le telecamere questa mattina mi è sembrato un po' sia dagli interventi della prima mattina che poi dagli interventi successivi della sessione tecnica che di fatto ci sono due esigenze che sembrano essere un pochino in contrasto e quindi questo forse può creare un po' di conflitto perché da un lato mi sembra di capire che ovviamente gli enti hanno difficoltà in alcuni casi ad accettare delle situazioni per cui magari essendo attivi percorsi perché ci possono essere l'esempio che ha fatto prima Antonella è abbastanza chiaro se ci troviamo in una condizione per cui non ci sono percorsi attivi noi non riusciamo a definire l'obiettivo di Bonif e quindi di fatto è come se accettassimo una condizione di un chilo sotto quindi da una parte c'è questa difficoltà da parte appunto dell'entico che anche sia anche ragionevole e dall'altro però c'è un'altra esigenza che penso sia venuta fuori del fatto di avere delle valutazioni anche che vengono fatte in sede di analisi di rischio che siano il più possibile vicine a quello che avviene nella realtà e quindi a voce alta quello che pensavo è questo uno potrebbe per risolvere questo problema si potrebbe ragionare in maniera distinta da un lato fissare magari degli obiettivi di qualità fissarli magari come risorsa suolo o risorsa idrica magari utilizzando anche dei criteri che sono semplificati quindi sono anche facilmente condivisibili anche da parte dell'ente magari per verificare poche cose magari quelle poche cose vengono anche delineate vengono ben spiegate come sceglierle e quindi si fissano degli obiettivi di qualità dopodiché per valutare invece se intervenire o meno a quel punto la valutazione viene fatta sulla base del rischio quindi se io in un determinato sito come l'esempio che faceva prima Antonella io non ho rischi è inutile che lì vada a intervenire magari vada a intervenire in un'altra zona in cui evidentemente ho dei rischi quindi l'intervento che faccio mi porta a un beneficio in termini di impatto senza però diciamo scordarsi del magari la risorsa suolo quindi forse si potrebbe pensare a qualcosa che in questo modo ci sia un compromesso sia sul fatto di non dire non faccio niente e me ne dimentico e quindi posso lasciare un sito con un chilo chilo però neanche per non dimenticarmi di quello neanche utilizzare gli obiettivi di bonifica che poi non riesco a raggiungere quindi mi blocco e quindi si crea il conflitto per cui non lo so va bene ma nessuno giudica perfetto intanto grazie primo intervento sono buttato vai buttato bravo dovete alzarvi tutti su tutte e tre le domande tutte le domande sono interessanti e fanno riferimento a tutta l'esperienza che ciascuno ha accumulato in 25 anni nel mio caso io voglio dare una risposta unica a tutte e tre ci provo la prima cosa che voglio dire è che il grado di conflittualità per la mia esperienza si riduce notevolmente è inversamente proporzionale al grado di competenza al grado di competenza e capacità decisionale cioè non riesci a prendere decisioni con qualcuno che non ha la possibilità di prenderle o che non ha la capacità di prenderle o che non ha la competenza per capire il fenomeno quindi il discorso della formazione è fondamentale non è necessario che in tutta Italia tutti i comuni tutte le province sappiano fare l'analisi di rischio perché le cose importanti non sono tantissime ci vogliono dei gruppi formati che si che si autoalimentano e che siano in grado di affrontare i problemi altrimenti cercare di diffondere la competenza assoluta su tutti i modelli in tutti i posti rende questa vicenda è difficile e questa è la prima risposta la seconda che riguarda la seconda domanda è un tema che mi sta particolarmente a cuore riguarda il mio lavoro il nostro lavoro da sempre ed è quello che cerca e che mette in evidenza le difficoltà nel modello concettuale noi tutti sappiamo da Bertola Antonella che è sul modello concettuale che si generano i conflitti ora considerando che il modello concettuale è sempre una cosa complessa io faccio il geologo e mi vanto di essere quello che cerca di ricostruire il modello concettuale diciamo geologico e idrogeologico considerando che le matrici più complesse sono proprio quelle che si muovono la falda e i vapori ancora di più considerando che per quanto noi ci sforziamo nella caratterizzazione a fare una quantità infinita di analisi difficilmente nei casi complessi riusciamo è quello che abbiamo detto nel nostro intervento riusciamo a capire la dinamica dei fatti se noi continuiamo a fare fotografie chiunque abbia studiato giornalismo io non l'ho fatto però sa che una stessa cosa fotografata in momenti diversi da angolazioni diverse può rendere una persona colpevole di omicidio piuttosto che salvatore della patria perché un semplice fotogramma non mette in evidenza sicuramente i fenomeni fisici noi da sempre nella nostra piccola realtà della nostra società ci adoperiamo per il monitoraggio in continuo ora è difficile fare il monitoraggio in continuo di contaminanti complessi anche se ci stiamo provando sui PFAS ad esempio però per capire fenomeni complessi la semplificazione non serve genera solo confusione allora proviamo a mettere sotto sorveglianza le cose più importanti è la falda la cosa complicata dobbiamo avere un quadro tanto i procedimenti di bonifica durano molto tempo dobbiamo avere un monitoraggio costante e continuo non solo di parametri chimici ma anche magari di altri parametri che ci rendano disponibile non una fotografia ma un film un trend di quello che sta succedendo sulla base di questa visualizzazione che è facile da condividere perché un trend lo capiscono tutti è più facile prendere le decisioni perché se dimostri che ci sono dei trend riconoscibili tutti sono più fiduciosi nel mettere in campo mentre invece su una serie di fotografie magari discordanti tra loro prendere decisioni è sempre difficile quindi non ce l'ho una risposta singola penso che ci si debba rivolgere a questo tipo di anche attività che diventano sempre più facili una volta era difficile misurare in continuo un vapore adesso ci riusciamo era difficile ricostruire un modello di falda adesso riusciamo con più facilità certo non entriamo in questo dettaglio perché potrebbe portarci lontano chiudo dicendo che una cosa di cui io mi lamento da quando lavoravo nell'ente pubblico è l'autonomia decisionale non possiamo lavorare in conferenze dei servizi dove ci si alza con dieci persone che hanno discusso tre ore ma nessuno di quelli è quello che prenderà la decisione questa cosa non può ci fa sprecare un sacco di tempo e rende come dire frustrati sia noi che presentiamo i progetti sia l'ente di controllo che deve redigere un'istruttoria quindi le conferenze dei servizi a mio parere devono essere rese come dire più autonome non è detto che normando fino all'ultima virgola le modalità con cui si deve fare l'analisi di riva risolviamo il problema tante norme rendono le persone insicure e il conflitto generalmente aumenta grazie prego diciamo ha stravolto il metodo proposto però vabbè scherzo va benissimo ha fornito una serie di elementi ecco diciamo per aiutare penso che sia importante che diciamo ciascuno nel proprio ruolo possa riuscire a fornire degli elementi di che cosa non va dal proprio punto di vista perché dire che cosa non va negli altri diciamo è facile quindi ecco un grazie sicuramente l'elemento della formazione è un punto qualificante si fa in tante discipline quello di creare formatori per la formazione quindi diciamo noi diciamo sempre così come c'è la cultura della sicurezza anche la cultura ambientale deve crescere e crescere ovviamente in attività sinergica Maria Luisa a me piace dire riflettevo su cosa ha funzionato nelle situazioni non di conflitto quindi l'analyse del rischio è complessa e mi piace pensare e sperare che questa nuova revisione del approccio metodologico possa andare in una direzione non di semplificazione ma di apertura alla complessità e nello stesso tempo di programmazione e di sfruttamento dell'SNPA per poter creare figure di grande specializzazione con cui interropire perché quello che ha funzionato e che ha portato anche al completamento di procedimenti di bonifica col bene comune e un risultato comune è stato proprio interagire con funzionali che per la propria storia si erano ritrovati a poterla studiare bene questa analisi di rischio perché magari avevano fatto un dottorato perché erano stati messi nelle condizioni quindi mi viene proprio da dire che per ridurre questi elementi di conflitto dobbiamo sfruttare questa grande occasione che è SNPA per dire nel nuovo approccio metodologico non ci sarà la tabellina l'FC è sempre usato in questo modo ma ci sarà un modo per poter dire in SNPA se il processo è complesso l'arca locale può chiamare il suo grande esperto quello che sarà capace di interagire con l'altro grande esperto che viene dall'università che viene dalla consulenza e che risolve un tema di rischio a livello alto perché secondo me non possiamo non rincorrere l'evoluzione scientifica perfetto grazie grazie Maria Luisa per il contributo altri contributi sul conflitto mi piacerebbe sentire anche qualche collega delle ARPA se ci sono in sala se posso così tanto che riscaldate no c'era già un volontario scusa no non ti eri solo alzato per accomodarti io l'avevo preso come un segnale ma che hai parlato no in effetti mi ritrovo molto in quello che diceva il collega di Copernico perché in effetti questo è un problema nel senso che nelle conferenze dei servizi c'è nessuno si prende la responsabilità della decisione o meglio ci cerca di prendere la responsabilità della decisione appoggiandosi sulla normativa che c'è il più possibile cosa che in effetti non è poi praticabile perché le situazioni come tu giustamente ci dicevi sono talmente complesse e talmente varie che è difficile ricondurle tutti a binari e questo secondo me è proprio il nocio della questione quindi a prescindere la competenza sull'analisi del rischio la competenza ci deve essere un po' su tutto secondo me partendo dal modello concettuale ancora prima di quello di analisi del rischio perché prima c'è un modello concettuale del sfido in cui c'è la gerogia l'ideologia in cui c'è la falda la trasmissività per arrivare poi al modello di analisi del rischio che sono ovviamente intimamente legati ma in effetti il problema è proprio quello io insomma frequentiamo le conferenze servizi più i miei colleghi di me però in effetti l'impressione che ho è che poi alla fine se non abbiamo un gancio normativo noi non riusciamo mai a fare un passo avanti perché diciamo ma questo la norma lo prevede ma aspetta un attimo poi arrivo il PM e c'è sempre questo aspetto diciamo c'è sempre bisogno che qualcuno ti incanali verso la decisione in effetti e questo secondo me probabilmente quando si dice che i siti regionali vanno più veloci con i nazionali perché ovviamente perché probabilmente e questo però è una mia è una mia impressione perché purtroppo non sono mai andato a livello regionale probabilmente lì ci sono più c'è più disponibilità a diciamo a mettersi ad aprirsi diciamo a percorrere dei sentieri nuovi perché comunque la cosa la senti più vicino magari conosci più le persone ti senti più tranquillo perché conosci il territorio sai che magari lì non ci sono che ne so pozzi agricoli nascosti che potrebbero uscire una volta che tu prendi le decisioni però in effetti questa è proprio la cosa secondo me è vero però io su questo non so come fa cioè nel senso cioè questa è una cosa che rilevo ma non c'ho una soluzione non penso che riusciremo ad uscire con le soluzioni e tutti i problemi però diciamo è ovvio che ci dobbiamo muovere in un quadro di responsabilità in cui abbiamo una gerarchia non solo di fonti ma anche di soggetti competenti sia sul procedimento che sui controlli quindi diciamo che quello che come settore privato auspichiamo nella creazione di una rete è quella che ci possa essere una rete di competenze anche sul lato della consulenza professionale nel senso che fermo restando che diciamo poi ciascun territorio e quindi ciascuna arpa ha la gestione e la responsabilità delle decisioni che prende su quel procedimento la rete di SNPA è una prospettiva di qualificazione generale del processo quindi diciamo come immaginare ecco un doppio un doppio livello ovviamente Federico aspetta c'è prima il dottor Santilli e quindi pronta la telecamera perché ovviamente cioè sotto profilo migliore allora è difficile perché sono due buon pomeriggio a tutti io sono Nazareno Santilli sono dell'ISPRA il mio cartellino è stato prestato da alcuni anni al Ministro dell'Ambiente come molti forse sanno e ho avuto la svettura di presiedere molte conferenze di servizi che riguardavano procedimenti inerenti SIN allora il tema è di quelli da far tremarle bene comincio dalle ultime osservazioni fatte sulle conferenze dei servizi è capitato capita molto spesso che emergano conflitti ma non solo tra i proponenti e gli enti di controllo ma anche per esempio tra gli enti territoriali e i proponenti c'è bisogno di una competenza ma c'è bisogno di una competenza anche nella gestione dei conflitti cioè la gestione del conflitto in una conferenza dei servizi non è una cosa che si improvvisa perché il presidente di una conferenza dei servizi ha proprio questo compito cioè cercare di portare a casa il risultato della conferenza dei servizi che è la conclusione del procedimento se quando noi parliamo di procedimenti intendiamo il procedimento amministrativo cercando di trovare una soluzione che sia conforme alla norma perché ce lo dice la legge non è tanto la paura del PM ma è semplicemente perché la conferenza dei servizi è lo strumento che l'autorità competente utilizza per formalizzare la sua decisione di concerto con gli altri soggetti detto ciò quindi la gestione del conflitto è importante per evitare che la conferenza dei servizi si trasformi in una partita in una round di box ma diventa invece qualcosa per arrivare a una soluzione a volte in conferenza dei servizi purtroppo bisogna anche dire che si arriva con dei documenti che sono a volte non completi non dignitosi ci è capitato faccio adesso un aneddoto un caso in cui siamo andati ad esaminare un progetto operativo di bonifica che non era firmato neanche dal progettista che era presente e a nostra domanda ci ha risposto ma io non l'ho firmato perché non sapevo cosa ne pensavate se poi lo bocciavate come facevo a firmarlo capite che ci vuole anche come posso dire una cortesia un galateo istituzionale da parte dell'autorità competente e da parte dei proponenti detto ciò cosa si può fare per ridurre gli elementi di conflitto ci sono delle cose che si possono fare a normativa vigente e ci sono delle cose che portano che implicano delle modifiche della normativa nelle mie esperienze precedenti prima di occuparmi di politiche mi sono occupato per tanti anni di AIA lì nell'AIA noi abbiamo una direttiva europea di copertura cosa che come abbiamo visto stamattina non ci abbiamo come sappiamo benissimo in quel caso lo strumento che si è adottato in sede europea per ridurre questo livello di conflitti è immaginare la redazione di lì si chiamano BREF quindi Best Available Techniques Reference Documents ma sostanzialmente delle linee guida che vengono redatte con la presenza di tutti gli stakeholders compreso quindi le aziende le associazioni di categoria e così via l'assenza di un meccanismo del genere nell'ambito del mondo delle bonifiche rende inevitabilmente problematico in ogni caso il confronto supponiamo che noi avessimo una copertura normativa che istituisse a livello nazionale la possibilità di fare dei gruppi tecnici distretti per cui la linea guida sull'analisi di rischio non fosse solo dell'SNPA ma fosse del sistema complesso con la presenza degli stakeholders noi avremmo alla fine un livello di discussione di condivisione di questo risultato che limiterebbe molti di questi problemi allo stato attuale non c'è questa copertura normativa e non si può fare in assenza di una copertura normativa quindi questo per esempio dal mio punto di vista potrebbe essere un elemento di riduzione dei conflitti ma che necessita di una modifica della norma altro esempio sempre mutuato dall'AIA nell'AIA esiste il coordinamento nazionale IPPC al quale partecipo anch'io e qui porto gli elementi del mondo bonifica all'interno dell'IPPC dell'AIA perché come sapete molti dei SIN di interesse nazionale vedono la presenza di impianti che ricadono nell'ambio di cogenza dell'AIA ecco non esiste un coordinamento nazionale bonifica cioè un coordinamento nel quale tutte le autorità competenti e gli enti di controllo si possano confrontare e trovare degli elementi comuni di comportamento dal punto di vista sia dei procedimenti amministrativi ma se noi andiamo a pensare alla conclusione del procedimento come procedimento di bonifica quindi all'effettiva esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza diventa ancora più importante pensate tutto il problema della certificazione dell'avvenuto bonifica sappiamo bene tutte le problematiche che ci sono a livello nazionale quindi questo sono un paio di elementi che volevo dare grazie grazie mille ottimo grazie un contributo veramente prezioso qualcun altro? Federico scusa si ci avevo giusto ti avevo tarpato prima intanto avvicinatevi che così ci portiamo avanti si metta in prima fila sono Federico Cardera della Mares quindi parte consulenza volevo fare una breve riflessione sul secondo punto ovvero su come rendere anche tu fuori metodo le valutazioni ovvero sia diciamo anche dalla mia esperienza di studi io sono biologo coniugato con l'applicazione dell'analisi di rischio ho visto quanto potrebbe essere veramente utile stabilire un protocollo operativo per valutare l'applicabilità o meno della biodegradazione dei contaminanti effettivamente presenti in quel determinato sito e parlo diciamo di anche studi che stiamo facendo con la mia azienda e non soltanto semplicemente di unità formati colonia o di semplice monitoraggio dei parametri chimico-fisici che normalmente vengono fatti quello sicuramente è un buon punto di partenza la presenza del percento di ossigeno che può prevedere un potenziale teorico di una biodegradazione aerobica chiaramente in presenza di contaminanti biodegradabili quali BITEX o anche un po' più ricacciositanti come MTBE o ETBE però questo non basta diciamo ormai per fortuna diciamo l'avanzamento anche delle tecniche biotecnologiche ci consente di ottenere risultati in tempi rapidi a costi ragionevoli che a un tempo erano assolutamente impensabili se non in laboratori avanzatissimi e con costi esorbitanti penso semplicemente a un'analisi del metagenoma presente nel sottosuolo che ci può dire qual è la composizione delle comunità batteriche presenti e quindi andare a vedere se sono presenti batteri tipo pseudomonas o variovorax o altri che sono in grado di degradare quindi specifiche tipologie di contaminanti e questo consentirebbe quindi di avere dei dati anche scientificamente inoppugnabili che in quelle determinate condizioni sito specifiche noi abbiamo un potenziale biodegradativo per quei contaminanti che ci può far stimare un raggiungimento per esempio dei target di bonifica in tot anni se non facciamo nessun intervento oppure magari ci dice guardate i batteri ci stanno quelli idoni vanno bene però manca ossigeno manca l'azoto manca quel nutriente allora si potrebbe pensare di fare una biostimolation quindi con l'aggiunta di quei determinanti fattori limitanti che possono ovviare al potenziale biodegradativo questo inserito anche nell'ambito dell'analisi di rischio sarebbe anche a livello diciamo di linea molto importante perché perché andando in quest'ottica si va a intervenire su un approccio sostenibile anche alle bonifiche perché io vado a minimizzare comunque sia i costi i movimenti di terra e di utilizzo di energia per raggiungere comunque dei target che siano chiaramente sostenibili per la salute umana per la salvaguardia dell'ambiente quindi questo secondo me potrebbe essere comunque un punto importante da sviluppare in questo modo grazie ottimo vai allora rispetto a quanto è stato detto anche a quanto è stato detto fino ad oggi uno dei problemi grossi in inglese che ci tiriamo intorno è l'analisi di rischio per cui allora che cosa dobbiamo fare allora l'analisi di rischio non può essere così modellizzata la mia una vita perché va scissa va scissa in più step perché è un percorso molto molto complesso c'è tutta la parte ambientale e c'è tutta quella sanitaria per come viene sviluppata oggi l'analisi di rischio restituisce lo sappiamo una concentrazione solida di rischio rispetto alla quale si fanno ci sono diciamo tutta una serie di procedure che molto spesso anche se si va in bonifica non rispondono e quindi non si riesce a chi deve infirmare l'avvenuta bonifica messero concesso che ci si riesca ad arrivare non lo fa però l'analisi di rischio è uno strumento abbastanza importante ma bisogna saperlo utilizzare nel senso non tanto costruire delle conoscenze specifiche che vanno a valutare effettivamente qual è il numeretto il valore il dato tossicologico il dato qual è la tipologia di suolo che questo lo facciamo ormai lo facciamo tutti non è un problema bisogna fare una valutazione valutazione prima quella ambientale che poi è il discorso che facevamo nel modello concettuale e di quello che sta uscendo adesso tutti gli studi che sono stati presentati alcuni li condivido oggi un po' meno però questo è tutto da valutare gli studi o comunque le modellizzazioni del trasporto dei contaminanti di come i contaminanti si presentano nel suolo l'analisi di rischio per come è sviluppata è una fotografia del momento è qualcosa che si presume ma è tutto standardizzato per carità la procedura è riconosciuta a livello internazionale non si discute ma fa utilizzato in modo diverso allora io capisco che forse sarò impopolare però secondo me se vogliamo veramente parlare di valutazione del rischio e gestione del rischio dobbiamo scendere le problematiche e poi eventualmente utilizzare anche la procedura di analisi di rischio ma dico anche sia in modalità diretta che in modalità inversa l'analisi di rischio ha tante potenzialità ma va collocata nel posto giusto al momento giusto per cui secondo me e questo è quello che sosterrò sempre è che se vogliamo veramente rispondere al discorso analisi di rischio rischio sanitario e ambientale vanno valutati separatamente tutti e due i rischi perché di sanitario voi vi dovete dire che cosa c'è in questa analisi di rischio c'è soltanto un valore tossicologico che noi siamo stati costretti a definire per quanto riguarda la valutazione del rischio va valutata la valutazione dell'esposizione della popolazione la valutazione dell'esposizione della popolazione non può essere legata dipende dai percorsi dipende da come si è esposti quali sono secondo delle caratteristiche chimico-fisiche della sostanza quali sono le vie di esposizione non si possono attivare tutti i percorsi perché ci serve una CSR non possiamo definire i cancerogeni tutti i cancerogeni con 10 alla meno 6 perché comunque ci serve un numero e deve essere cauterativo io dico sempre in questo contesto e poi mi taccio perché se no non finisco più perché questo è un discorso abbastanza complesso io dico sempre la norma ci dice benissimo applichiamo la norma ma andiamo poi a capire veramente quei valori che cosa dicono la norma è applicata gestiamola come la gestiamo? cerchiamo di essere ragionevoli buonsenso conoscenza scientifica approccio adeguato collaborazione obiettivo se non affrontiamo questo fermo restando che lavoreremo a fianco della revisione io proporrei domani anche non so chi c'è a SICOM porterò questo come conclusioni io propongo rivedere i valori tambellari perché non sono dei valori che sono ma poi parliamo di più di 20 anni fa ma sono stati rivisti ormai non sono stati rivisti sono stati presi in cura da 471 ma non solo questi valori risultano pericolosi anche perché sono stati presi per altre normative e quindi diventa difficile gestire anche altre situazioni quindi bisogna rivedere i valori della qualità di suono è necessario che l'analisi di rischio non sia così legata è una procedura che può dare tante risposte ma non può essere condotta solo in modalità inversa e solo per andare a determinare l'accesso in virtù di questo bisogna tener conto di tutte le possibili conoscenze scientifiche quindi monioraggi modelli tutto ciò che ha la possibilità di fare uno studio approfondito di quello che è la situazione ambientale per poi andare a definire quella sanitaria su quella sanitaria bisogna rivedere i nuovi concetti perché se si va a valutazione ed esposizione per come ci dice il risk assessment dobbiamo andare a determinare effettivamente se c'è un problema sanitario il che significa quali sono i percorsi di esposizione che mettono a rischio la salute umana e si aprono e si discute e si valuta solo i percorsi c'è un problema grosso che qui vi dico ma non so poi dopo come si svilupperà sul potenziale cancerogeno la comunità scientifica dice che non tutti i cancerogeni sono cancerogeni con effetto cancerogeno sono soltanto beni di categoria 1 e se andiamo a vedere nella lista delle bonifiche sono tre gli altri sono tutti a livello solida che significa ma se noi non riusciamo a fare dei ragionamenti e non abbiamo quella libertà di fare questi ragionamenti perché la norma ci lega non possiamo esprimere la parte sanitaria io faccio tutto questo tutto il discorso per poi arrivare alla fine che è la valutazione sanitaria che è quella che poi genera la CSR un approccio meglio descritto nella norma sui suoli agricoli rispetto alla norma precedente anche perché diciamo di più recente sì ma infatti non a caso scusate ho fatto riferimento alla VIS alla relazione impatto sanitario e sulle aree agricole ma perché perché queste essendo diciamo dei regolamenti che sono usciti oggi nel 2019 dove è già piena coscienza del problema ambiente e salute dell'integrazione delle due problematiche è chiaro che lo sviluppo è permesso di approcci di altro genere c'è il signore chi vuole fare le domande intanto venga avanti buon pomeriggio a tutti io sono Augusto De Santis faccio parte sono diciamo faccio parte di coloro che subiscono l'analisi di rischio cioè sono cittadini che qui il compitato di pietra mi viene da dire forse oggi li sentite in questa mattinata non siamo stati sentiti e in questi anni anche mi viene da dire io sono Augusto De Santis del foro italiano dei movimenti per l'acqua parlo anche per le magliette bianche che la rete di associazioni comitati cittadini anche semplici che vivono di cittadini che vivono nei siti nazionali di bonifica nei siti regionali di bonifica la stiamo costituendo in questi mesi abbiamo già fatto delle iniziative pubbliche e veniamo però tutti quanti coloro che fanno parte di questa rete da lunghissimi diciamo e quotidiani conflitti con proponenti con anche enti locali a volte conflitti a volte meno forse rischierò di essere ancora più impopolare di chi mi ha preceduto soprattutto tra i consumenti ma noi nel nostro documento della magliette bianca alcuno dei primi posti è l'abolizione dell'analisi di rischio perché sinceramente ce lo possiamo diserare non esce lei da qua non esce dalla stanza no no è pubblica no no è pubblica no è pubblico chi applaudirà e chi non perché era nel senso che sono stata più solita l'approccio no noi ciò possiamo permettere diciamo così nel senso che voglio uno strumento è uno strumento usato e qui mi dispiace sono assolutamente in disaccordo con chi sta moderando diciamo così nel senso che l'obiettivo vostro di Asso Peronifera è di non fare le bonifiche tendenzialmente perché dovete fare profitto no è una questione io sono per i liberi ci sono gli economisti liberisti che dicono che le società non devono fare l'azione sociale devono fare profitto perché è il loro obiettivo poi nel conflitto sono uscite le leggi che obbligano Asso Unione Petrolifera a dover fare le bonifiche ma quello è un rapporto di forza prima non si faceva neanche cioè non c'era neanche il problema di fare le bonifiche è venuto fuori da un sano conflitto conflitto nella società con ruoli differenti noi vogliamo abolire Unione Petrolifera loro fanno il loro mestiere come i cittadini che subiscono molto spesso le conseguenze degli inquinanti fanno il loro e si cercano di difendere in questo conflitto in mezzo ci sono gli enti pubblici che molto spesso non funzionano non voglio fare un intervento troppo largo perché Aspetti i consulenti l'ha preso i convittenti l'ha preso gli enti di controllo che ci manca? Finisco ma guarda noi partecipiamo tutti i giorni con i servizi se pensassimo che non sono utili non ci andremmo voglio dire no ma il conflitto è un'altra cosa non è mettersi d'accordo così è fare emergere i problemi e con un sistema relazionale di rapporti di forza si arriva a un compromesso più o meno avanzato diciamo così per quello toglie il conflitto è un'idea a nostro avviso molto sbagliata si deve fare conflitto ovviamente con le forme che la democrazia cita tornando agli strumenti è uno strumento bellissimo con tutti i problemi del riduzionismo che io uso modelli nel mio campo in un altro campo non uso modelli li pubblichiamo a livello scientifico anche internazionale e così via ma conosciamo tutti i limiti di questi modelli se poi questi modelli però servono a dover capire se una persona può sviluppare il cancro o meno forse bisogna stare un po' attenti diciamo così e molto spesso gli strumenti rischiano ad essere anche come si dice il meglio del bene perché noi abbiamo di fronte una situazione in cui le bonifiche possiamo dirlo in Italia sono fallite se dovessimo prendere i dati non è i dati dei SIN cioè veramente andiamo tutti a casa in un'idea che discutiamo allora dobbiamo capire come questi strumenti possono essere utilizzati e se devono essere utilizzati qui perché possiamo raffinare al dettaglio però poi le gruppe in campo sono due persone all'Istituto Superiore di Sanità come ho sentito adesso stiamo a scusate il termine a Pazzia unione per l'orifera in mezzo ci può mettere invece 200 consulenti vogliamo parlare dei clienti locali che io vengo dall'Abruzzo che devono a cui sono delegati dalla regione i procedimenti di bonifica e ci abbiamo i comuni con i geometri che devono avere di fronte Spogit per dirne una è chiaro che c'è una simmetria diciamo poi nei fatti diciamo così dei rapporti di forza che poi si vedono tutti i giorni perché poi se non c'è uno che capisce bene l'analisi di rischio in quel comune è poi inutile che la facciamo o meglio poi viene fuori quello che vuole sostanzialmente il proponente ora in questa situazione comunque noi oggi diamo la nostra disponibilità perché questo era poi noi abbiamo cercato anche di essere presenti in più persone e poi purtroppo era chiusa diciamo la iscrizione quindi non siamo presentati in più persone diamo la disponibilità a Istra a avviare questo confronto anche sulle linee guida perché poi sulle linee guida vado un attimo nel dettaglio allora intanto è singolare che nelle linee guida per esempio del solgas ovviamente ci sono dei termini per alcune situazioni da approfondire che non rispettano poi gli obiettivi come si dice burocratici cioè la tempistica degli alimpimenti che i proponenti devono fare perché si dice che il solgas va monitorato per fare un'analisi rischio fatta bene per due anni come abbiamo letto poi se uno dice che c'è un 52 dice un'altra cosa quindi forse dovremmo un attimo mettere l'accordo però queste sono cose che si vedono diciamo così un altro approccio che a noi non ci convince e il fatto della mancanza dell'azione dell'effetto cumulo e dell'effetto sinergico perché c'è una citazione a mio avviso scorretta dell'organizzazione mondiale della sanità non a mio avviso passa a leggere quello che il capitolo 9 se ricordo il paragrafo 9 del testo dell'organizzazione mondiale della sanità che dice che non ci sono tanti dati ma dove ci possono essere l'approccio dell'effetto cumulo deve essere assolutamente utilizzato lo dice l'organizzazione mondiale della sanità quindi forse su quello uno sforzo capiamo la difficoltà che vuol dire molti dati non ci sono molti più su però qualche cosa ci sta insomma sui cancerogeni o su infatti l'organizzazione mondiale della sanità dice che per quelle sostanze che hanno gli effetti più o meno simili sulla salute ovviamente l'effetto cumulo forse dovrebbe essere applicato quindi ci aspettiamo che nella revisione della mia vita questo aspetto venga molto sviluppato no no c'è un passaggio molto chiaro comunque adesso non è un intervento lo sarà un intervento poi scriveremo un documento un documento lo sottoporremo al tavolo di lavoro se diremo studiaggi ovviamente ci diranno questo non si fa altrimenti speriamo che sia insupplementato ovviamente come diceva Santilli ci sono delle cose che vanno cambiate da un punto di vista normativo fra parentesi anche i valori soldi del gas è singolare che vengono fissati da una linea guida dell'ISPRA piuttosto poi sul suolo e acque invece abbiamo invece tabellate quelle tabelle che rimangono lì da vent'anni perché la legge e ci vuole il Parlamento per cambiare quei limiti quindi su questi aspetti quando si propongono anche la revisione dei limiti ecco io auspicherei che noi auspichiamo che si faccia quel procedimento pubblico come fanno altri stati in cui si mette a una review pubblica beh l'ha detto Giuseppe stamattina questi nuovi valori insomma queste proposte di modifica che ovviamente per quanto mi riguarda devono essere più semplici da un punto di vista normativo cioè nel 1952 a mio avviso vorrebbe essere messa una pausola diciamo così per cambiare in una maniera trasparente pubblica lineare quei parametri perché non è possibile che si escono nuove pubblicazioni scientifiche e dobbiamo rimanere a 15 anni fa perché fare un passaggio in Parlamento ci vogliono un anno se dovrebbe quindi sono 5-6 anni che ci proviamo a cambiare gli allegati quindi va bene se noi andiamo tutti a casa scusate ho detto le buone riconfunzioni il Parlamento non decifere e quant'altro le persone all'istituto superiore di sanità sulla produttività non l'ho detto niente anche se siete da ammirare no però obiettivamente uno stato sulle infrastrutture adesso c'è un'unica persona che si chiama Migliorino che sta facendo tutta l'Italia uno stato di 60 migliori di persone diciamo abbiamo dei problemi in Houston abbiamo dei problemi obiettivamente al Ministero dell'Ambiente c'è un problema immenso noi stiamo dicendo a dire che forse i siti nazionali di Bonifia dobbiamo togliere la vista dell'Ambiente quindi ci sono molte perché non funziona proprio non funziona proprio obiettivamente in Ispia c'è l'antivi che fa risposta non funziona quindi obiettivamente qualcosa ci dobbiamo inventare per far uscire dal punto esatto del Bonifia che torno alla idea prima strumento bellissimo l'analisi di rischio forse però se in una riforma del Cerno 52 viene messa come un ulteriore ma non come un passaggio principale sostanzialmente perché poi diventa ripeto in un modo per ranziere per cercare di circunnavigare le CSC sostanzialmente questa è nella realtà dei fatti quotidiana e quindi nel Cerno 52 forse l'analisi di rischio dovrebbe essere messa come a supporto ma anche della certificazione di avviso togliere quel passaggio in maniera un prodotto tant'anni diciamo così però sicuramente ridurlo perché altrimenti si continua a fare conferenti di servizio che dureranno dieci anni come stiamo vedendo alcune conferenti di servizio che durano al Ministero Comunque dal nostro punto di vista massima apertura al confronto al conflitto al conflitto dialogante diciamo così e poi noi facciamo conflitto guardate molti di voi hanno le menzioni avete le menzioni qualcuno non ce l'abbiamo io scusi un contenimento dei tempi di intervento sì però su questo io ho parlato prima prima del convegno diciamo così abbiamo fatto notare e questo diciamo a rischio non certo che in un convegno in cui si parla di rischio dove mancano i soggetti diciamo protagonisti nel senso che lo vino sulla loro pelle io ho preso mi sono bevuto per 25 anni terravoli carbonio e santi Dio forse in un convegno sulle bonifiche uno spazio importante dovrebbe essere e forse un'altra che ne ho dimenticato mi scusi e mi taccio proprio l'aspetto di partecipazione e trasparenza perché è vero anche che molti comitati non hanno le capacità la voglia di studiare bene le questioni ma è anche vero che noi abbiamo un enorme ritardo nella trasparenza e nelle modalità partecipative che non sono una cosa lo mettiamo sul sito quelle soprattutto proattive cioè la partecipazione non è andare a prendere un cittadino dall'orecchio casa a casa però ci sono forme di partecipazione che non si attivano sulle bonifiche e invece devono essere attivate in maniera proattiva perché i cittadini poi quando vogliono fare sono protagonisti anche di voglienti locali ultimamente l'ultima cosa che abbiamo fatto il 22-23 dicembre abbiamo fatto le magliette bianche in 23 siti nazionali di bonifica il Papa ci ha salutato dall'Angelus che insomma credo che sia un soggetto sociale importante credo che gli enti pubblici e Ispno in particolare e il Ministero dell'Ambiente in particolare debba sviluppare dei percorsi non delle contaminazioni ma dei percorsi di partecipazione dove faccia emergere il protagonismo dei cittadini noi vogliamo essere proponisse grazie la ringrazio per l'intervento aspetta no scusa volevo solo in effetti questo è un erro scoperto secondo me del nostro sistema nel senso che noi non siamo riusciti fino adesso se non nelle sedi istituzionali tipo conferenze servizi ad avere un'interlocuzione con i cittadini e questo c'è da ognuno riconosce i propri limiti in effetti è così nel senso se l'unico punto in cui noi ci confrontiamo i cittadini sono le conferenze servizi noi abbiamo perso un partenza perché quello è il luogo in cui la conflittualità è massima ma soprattutto non si riesce poi arrivare al punto né a confrontarsi perché ci si confronta su cose specifiche e questa non è in effetti è un invito che noi accogliamo nel senso che ma ne abbiamo parlato spesso anche con Antonella cioè in questi tavoli che noi facciamo ma in questo senso avverto anche la mancanza di restrizioni ambientaliste nel senso che noi non riusciamo a coinvolgerle se non in questi dibattiti pubblici in cui poi qualcuno arriva che dice la sua cioè non riusciamo mai a coinvolgere la parte un po' più tecnica diciamo chiamiamola procedurale adesso non so come declinarla meglio però la sostanza al di là del battibecco e della diciamo dell'assunzione di formule impegnative poi nelle cose di tutti i giorni queste cose ci sfuggono un po' nel senso che riusciamo più facilmente ovviamente questo è un limite io penso sia un limite poi questa è una mia posizione personalissima più ovviamente interloquire con anche per questioni probabilmente istituzionali con confindustria petrolifera IS cioè diciamo con i soggetti che più frequentemente frequentiamo per tonare e non riusciamo invece a e questo secondo me è una cosa della quale parliamo spesso e non riusciamo a chiudere però aspetta che mi sa che ci stanno perdonati se ho se ho se posso aggiungere solo una cosa chiaramente a nome del gruppo di lavoro noi aspettiamo anche le proposte che ci arrivano tecniche perché questo è una forse uno dei primi casi almeno questi anni come dice Fabio è stato difficile coinvolgere anche a livello tecnico le magari associazioni o comunque le associazioni ambientalistiche che avessero delle proposte tecniche quindi non a livello come dire politico giuridico normativo ma proprio tecnico quindi se arrivano delle proposte tecniche analogamente a quelle pervenute da parte del mondo diciamo dell'industria o delle società di consulenza benvengano anche quelle dell'associazionismo cioè noi vogliamo essere il più aperti possibili a tutte le stanze chiaramente poi dobbiamo valutare tecnicamente tutte le stanze e questo è l'onere a proposito di Spider-Man a un grande potere corrispondono grandi responsabilità questo purtroppo è l'onere di questo gruppo di lavoro grazie sì intanto che Francesca si presenta e posso dire una cosa cioè a livello di secondo me anche grandi passi avanti sono stati fatti sul tema della comunicazione ambientale e qui Ispra SNPA secondo me ha fatto un bel passo nel senso che su tematiche complesse come quello dei siti contaminati dove abbiamo visto sono argomenti molto tecnici è anche importante riuscire a comunicare a tanti livelli a livello di affidabilità responsabilità del Stato attività di monitoraggio attività fatte sul territorio io parlo per la mia esperienza come siti industriali riusciamo a fare più attività sul territorio perché è nel territorio che uno riesce con iniziative di condivisione di formazione comune nelle scuole in attività in cui si aprono i siti e si fanno visitare si dice la percezione del rischio in realtà è gestita così si riesce a essere un pochino più concreto sul tema delle bonifiche abbiamo sempre fatto tutti un po' fatica e quindi sicuramente potremo fare anche dei grossi passi avanti ambito presenza comunicazione partecipazione su temi così complessi anche perché quello che ciascuno di noi deve fare non è per diciamo iniziativa privata ma è perché sono previste delle norme con le sanzioni anche molto pesanti quindi quello che abbiamo come riferimento è un quadro regolatissimo il tema delle bonifiche è una delle discipline in cui non c'è iniziativa è tutto amministrato quindi a maggior ragione occorre fare uno sforzo comune anche di apertura all'esterno su queste tematiche anche per vedere se sono raggiunti dei risultati e dove sono gli ambiti di miglioramento grazie a te Francesca sono Francesca Motta di Icon quindi consulente ambientale che si occupa di analisi di rischio da vent'anni pensavo a questi tre quesiti e io credo fortemente che la necessità di una piena frizione una riqualificazione sostenibile delle aree possa venire solo ed esclusivamente con l'utilizzo di un'analisi di rischio mi spiace andare dalla parte esattamente opposta da quella di prima ma siamo nel 2020 ci sono delle risorse economiche ambientali che vanno valutate in un'ottica di sostenibilità e questo penso che sia importante anche come pilastro di una probabilmente di una revisione dei criteri metodologici come un nuovo criterio fondante nel 2020 cioè l'analisi di rischio è uno strumento che viene utilizzato in un'ottica sostenibile della gestione valutazione dei rischi e dell'applicazione delle bonifiche questo è il mio pensiero però penso sia necessario e non sia raggiungibile l'obiettivo della sostenibilità con dei limiti tabellari che la norma consente che i proponenti per i quali io lavoro delle volte applicano perché effettivamente non vale la pena investire e qui si arriva alla domanda come ridurre gli elementi di conflitto nella mia esperienza gli elementi di conflitto tra proponenti e denti si riducono maggiore è la conoscenza del sito ma la mia provocazione è sempre necessaria e lì poi quando c'è il conflitto perché se magari un sito è semplice non è complesso con assunzioni conservative si riesce veramente a gestire e magari il proponente se arriva a un progetto di buoni faccio un esempio un punto vendita carburanti un progetto unico la norma consente di andare via più velocemente analisi di rischio c'è rischio bonifica eh no però manca un FOC e lì scatta il conflitto diciamocelo è spesso è il caso quindi ridurre il conflitto nei casi complessi chiaramente presentando da parte dei proponenti un'adeguata caratterizzazione con un modello concettuale penso che sia vincente l'abbiamo provato tutti dalla sua nostra pelle sia come committenti proponenti clienti di controllo però penso che anche nell'ottica appunto di uno sviluppo di una revisione tenere anche in conto del fatto che non è sempre necessario per arrivare a una bonifica l'analisi di rischio si può fare dopo ci sono queste CSR è vero le CSR sono scritte nella norma fai l'intervento magari non le ragioni mi rifai l'analisi di rischio mi cerchi il parametro che non era presente e come prescrizione a fine dell'intervento rifai l'analisi che la norma lo consente se non sbaglio via si va si bonifica e magari prima di presentare quattro volte l'analisi di rischio un esempio seconda domanda come rendere più realistiche le valutazioni e tante volte abbiamo sentito oggi parametri sito specifici modelli più complessi una riflessione appunto su quello che si è detto oggi a caldo dobbiamo sempre farlo possiamo invece introdurre le possibilità di introdurre dati di letteratura già pubblicati già utilizzati da anni vale la pena magari pensare a una revisione dei criteri metodologici appunto si diceva oggi non parametro per parametro ma con macro criteri appunto se io ho pubblicazioni dal 95 al 2019 che mi dicono che il reddito di biodegradazione dei benzene è X in un range prendo il peggiore non ho bisogno di andare a fare la misura sul mio sito questi sono i miei punti di riflessione grazie grazie Francesca c'era Renato e poi il signore qui in prima fila come si chiama? Maurizio Guerra scusi Renato dove vai? un'anonimo di una fila devo dire che Francesca ha tolto molte delle mie osservazioni nel senso che le sposo perfettamente a me come riflessione mi dispiace che alla fine l'analisi di rischio di questo perché io non lo conosco perché sta nel lavoro a voi di Susina avrebbe pensato che sto frastornando questo signore in prima fila l'analisi rischio responsabile di avvelenare il pianeta l'analisi rischio responsabile di non fare le politiche Renato mi raccomando non esagerare io dico quello che mi pare posso dire sono stato moderato stamattina ora dimmi adesso adesso non esagerare non ti ho detto censuriamo io non sto esagerando sto detto che l'analisi rischio io la difendo ma come dire la difendo in maniera oggettiva nel senso che io da domani posso occuparmi di tutt'altro nella mia vita e probabilmente lo farò ma il tema è solo questo cioè come mai mi sono chiesto mi ha un po' preoccupato l'intervento del comitato dei cittadini perché l'analisi rischio è la responsabile di tutto perché poi alla fine in realtà l'analisi rischio è uno strumento che consente se usato opportunamente di valutare nella sua interezza nella sua completezza tutti i percorsi poi si possono attivare o non attivare però io non riesco a capire come va uno strumento che è di per sé non capillativo di più è quello che venga invece percepito dalla cittadinanza come lo strumento che consente a chi non vuole bonificare di non bonificare questo è veramente un messaggio tu me lo spieghi no ragazzi mi raccomando se qui si vuole fare un discorso basato su basi scientifiche si fa se si vuole fare ambientalismo da quattro soldi io non ci sto questa è la mia porta io esco scusate io esco questo deve essere un consenso tecnico dove si deve partire da un presupposto che l'analisi di rischio si utilizza in tutto il mondo che dico in tutto il mondo nei paesi avanzati e a questo punto quindi mi viene il dubbio che il nostro paese voglia rimanere in questa categoria come strumento di valutazione e gestione dei rischi nei siti contaminati può essere STM può essere approccio olandese può essere quello che volete ma un approccio di risk base è un approccio che dobbiamo dare per scontato cioè quindi questo deve essere il punto di partenza perché sennò è inutile parlare di convegno sull'analisi di rischio se una parte di noi ha il retro pensiero che in realtà la colpa sia nell'analisi di rischio cioè che lo strumento non sia lo strumento idoneo per gestire un sito contaminato perché se questo è il retro pensiero io non penso che quasi nessuno ce l'abbia se questo è il retro pensiero allora è chiaro che dobbiamo ritirarci quindi partiamo tra questa cosa quindi depuriamoci da questa idea siamo tutti d'accordo che l'analisi di rischio sia lo strumento per una serie di motivi è chiaro che a tutti piacerebbe modificare a zero pure a me ma siamo coscienti che non ci possiamo riuscire per una serie di motivi e che quindi invece della luna ci dobbiamo accontentare di arrivare ad un satellite un pochino più vicino e l'analisi di rischio è uno strumento che ragionevolmente ci consente di fare questo tema numero uno quindi su questo questa è la mia prima osservazione seconda a me dispiace che adesso non vogliamo essere offensivo nel comitato dei cittadini ma evidentemente c'è un problema di trasmissione di informazione nel senso che evidentemente l'informazione che viene trasmessa a livello di comunità di cittadinanza non è quella corretta perché ci saranno pure delle realtà dove qualcuno è riuscito a far passare le cose come voleva lui ma questa è l'eccezione che posso assicurare nel senso che la mia esperienza è che in realtà vi posso dire far bonificare ad una CSR è molto difficile perché gli enti sono sempre nella giustezza del contraddittorio molto fermi in tutte le assunzioni in tutte le ipotesi che vengono fatte e quindi il conflitto è un conflitto vero e quindi alla fine questo vuol dire che se si arriva ad un obiettivo di bonifica approvato è stato molto convalidato come ridurre il conflitto la mia piccola opinione è questa si diceva prima i SIR sono meglio dei SIN ma io questo non penso forse a livello regionale è più facile il contraddittorio preventivo nel senso che la realtà locale la maggiore facilità di conoscenza consente probabilmente di innescare un discorso di approvazione del progetto prima di iniziare la fase ufficiale quindi l'analisi di rischio si può concordare si può presentare quindi si discute si evita questo rimpallo di una versione due versioni tre versioni quattro versioni che portano alla fine ad allungare il procedimento quindi è chiaro che il ministro ha più difficoltà a farlo di un comune è ovvio però magari se si riuscisse ad aumentare ad incrementare questa possibilità secondo me i livelli di conflitto diminuerebbero e poi molte scusate la dico tutta poi mi taccio ci sono certe volte ci siamo pure come abbiamo avuto dei pareri discordanti in certi progetti quindi non è nulla da nascondere ci sono effettivamente certe interpretazioni perché poi prima si parlava facciamo delle nuove linee guida più chiare ma poi c'è un grosso tema che è quello dell'interpretazione perché tu per quanto la vuoi scrivere bene e la vuoi fare precisa ci sarà sempre il caso che non è considerato e lì nell'interpretazione probabilmente immagino che anche su quello avere un tavolo di confronto dove si cerca di trovare un punto di diciamo di mediazione potrebbe essere anche questo un momento utile per evitare che io ti mando una cosa e tu me la riman di dietro sempre per lo stesso motivo ultima cosa le valutazioni come rendere più realistiche io su questa cosa o o sapete bene non sono d'accordo io dico e e e cioè modelli complessi e indagini mirati cioè le due cose l'una non esclude l'altra secondo me in questo senso quindi va benissimo sicurati io sono il primo a favorire le indagini ma ricordiamoci sempre una cosa che è molto importante avere delle indagini che ti diano indicazioni chiare sul fatto che quella roba che trovi in aria deriva da sotto e che ti consenta soprattutto di dire se io trovo tot in aria cosa devo fare in maniera tale che un domani non lo trovi più e siccome poi l'obiettivo di il trattamento lo dovrò fare sulla matrice molto probabilmente bisogna sempre avere in mente che qualunque cosa ci inventiamo o pensiamo di fare nel futuro dovremmo sempre mantenere questo link tra concentrazione nel recettore e concentrazioni nelle matrici contaminate sull'ultima cosa sono perfettamente d'accordo con Francesca sul fatto della riqualificazione l'analisi di rischio è l'unico strumento che abbiamo se no veramente oggi che sopra ci sia un parco giochi o un o niente o il deserto se non avesse un'analisi di rischio non potremmo discriminare quindi la scelta dell'opzione di riqualificazione necessita di uno strumento di gestione del rischio e tra l'altro uno strumento che non può essere in quel caso di misura perché è futuribile molte volte quindi devo avere uno strumento previsionale che mi consente di prevedere poi potrò fare delle misure di monitoraggio ovviamente però se devo progettare devo prevedere grazie posso rispondere un attimo perché non vorrei che poi ci siano state delle confusioni per quanto che riguarda e l'ho premesso l'analisi di rischio è uno strumento fondamentale perché aiuta alle decisioni ma deve essere utilizzata in modo molto fruibile nel senso quello che io metto in discussione è come si usa oggi cioè nel senso che tu vai a utilizzare l'analisi di rischio per predire la concentrazione soglia di rischio è questo che è troppo vincolante l'analisi di rischio ha grosse potenzialità io condivido Renato tutto quello che tu hai detto e per certi aspetti sottolinea anche quello che precedentemente avevo sottolineato il fatto di andare a fare delle valutazioni a monte che siano il più realistiche possibili per poi andare a capire come gestire le situazioni anche quello che io su cui faccio una recriminazione un punto l'attenzione è la differenza tra un'analisi di rischio condotta è la modalità diretta e quella condotta è modalità inversa è lì quello che io spesso contesto perché cosa dico se tu parti da una concentrazione di accettabilità che è quella definita è quella e va in modalità inversa tu troverai una concentrazione soglia di rischio che è tarata su quel valore iniziale che è l'accettabilità del rischio e poi sappiamo tutti che si fanno i calcoli si aggiustano va bene però è lì il problema se tu invece fai una procedura in modalità diretta tu riesci a capire rispetto a quello che è il limite accettabile quanto sei e questo ce lo siamo sempre detto io questo però ho sempre detto quanto sei vicino o lontano all'accettabilità del rischio e questo ti permette pure di gestire o di andare ad ampliare le tue conoscenze per poter poi capire come muoverti quello che io recrimino è questo l'analisi di rischio così rigida in modalità inversa per cercare un numero che le sostituisce un altro abbiamo visto che non funziona ma non è l'analisi di rischio o la procedura STM o che metto in discussione è tutto quello che serve e come la usi per poter poi intervenire è solo questo e su questo secondo me c'è molto da lungare non so se concordi ma io così perché ci abbiamo anche un problema di valore tossicologico però ce l'abbiamo anche votata nella diretta sì sono d'accordo ma lì lo possiamo valutare in modo diverso per un semplice motivo perché tu apri solo il percorso per cui quella sostanza effettivamente ti dà problemi non devi aprire dei percorsi perché se no non c'hai una CSR non so se ti ci ho spiegato e lì è il nodo dell'analisi di rischio quello che io ho sempre contestato tu lo sai che a tra di noi c'è stato sempre questo conflitto c'è stato sempre questa relazione basta allora Maurizio scusa c'è acceso? si si è acceso chi vuole mantenere la notte in rischio ragazzi possiamo andare perché l'ho fatta in modo intelligente ma anche chi la vuole conservare allora no oddio a certo punto stamattina mi sembravi vedere lo spettacolo e direi chi ce l'ha più complesso il modello nel senso che appunto mi invitarai più a modello si parla di modelli no no per questo punto ho visto delle equazioni di secondo di due righe di due righe effettivamente secondo me un grosso problema al cui dobbiamo discutere l'analisi di rischio sono i tempi perché perché io credo che dice le Sanchez ma ci ripeto cioè se l'analisi di rischio diventa un incontro di bottiglia che già il procedimento di per sé è non è e tu ci metti quest'analisi in modalità inversa e qui sono molto d'accordo con me perché noi siamo cascati o perlomeno io faccio ammenda e più di una volta nella provocazione dell'azienda chiedo scusa ma lo vedo non mi fa la sua di dire parte parte il procedimento parte la CSR e noi enti di controllo ISPRA si ma CSR 12 noi 10 noi 11 o 10,5 o 10,5 stiamo a parlare del meno che niente in questo senso come diceva era questo che intendevo si di un'ora è perfettamente centrato per cui sono i tempi i tempi sono veramente devastanti e allora ce la giriamo una nettonation in questo punto perché già il procedimento di suo è lento in più ci mettiamo a discutere a balleggiarci quest'analisi di rischio noi siamo alla revisione 6 in qualche sito in Italia per poi discutere che invece che 50 era 30 non faccio altri commenti quindi sicuramente sono i tempi e poi un'altra cosa mettiamo su questo punto questa amparata poi i numeri tutto lascia il tempo che trovo poi un'altra cosa la conclusione dell'analisi di rischio beh d'accordo allora io ho 4.000 milligrammi 4.000 di mercurio sotto terra ho due possibilità ho un bel strato di argilla quindi non ho nessun percorso attivo alla sua superficie quindi sostanzialmente la norma mi dice la posso lasciare lì a me come cittadino come so è un po' merode francamente perché è vero la norma dice guarda no ha dato un rischio quindi non c'è ma poi se io vado ad applicare ci butto 3-4 anni di utilizzo diciamo applico i modelli faccio le indagini mirate quello che è dico effettivamente no c'è questo rischio e la risposta dell'azienda che lo può fare peraltro quindi voglio dire ci perdo una bella recetta di cemento intorno e ho salvato diciamo ho messo formalmente il sito in sicurezza e allora diciamo che ho perso 5-6-7 anni l'ho fatto una persona di cemento che forse insomma potete farlo anche prima senza andare in un procedimento molto così lungo questo è chiaro secondo i casi estremi poi sono molti casi un'analisi di rischio e al suo perché assolutamente viene fatta in tempi più o meno diciamo decenti umani e certo sulle indagini mirate questo lo sappiamo e Antonella voi questo mi ha parlato tante volte il problema sono i tempi perché non dimentichiamoci che noi qui non stiamo all'università o sulla università noi abbiamo le risposte tra risposte in tempi concreti umani insomma per cui effettivamente dire di fare un monitoraggio di uno o due anni è caspita sì è vero che dopo tu avrai il modello più complesso dell'altro la risposta più accurata di quell'altro però il tempo conta in questo tipo di percorsi che stiamo facendo quindi io sottolineerei questo fatto forse il limite proprio della criticità di analisi di rischio e nel complesso diciamo questo procedimento è proprio il tempo il fattore tempo un'altra cosa un po' di quindicaccio sono le condizioni di ingaggio quando iniziare l'analisi di rischio perché perché io dico questo ho già parlato un pochino anche informalmente con il ministero una rogne non fa primavera quindi un superamento non fa un sito potenzialmente contaminato quindi su questo andiamo di parlarne secondo me anche perché la normativa sostanzialmente dice questo dice che quando c'è il superamento non una sola osservazione ma un solo parametro e quindi qua lo scenario si apre diciamo abbastanza ampio il problema è che nella legato 2 il pezzo relativo proprio alla studio della variabilità è lo studio della cosa si intende per concentrazione del contaminante in un sito è estremamente confuso diciamo francamente sono 5-6 righe in cui è scritto in sanscrito antico quindi effettivamente però diciamo sembra di capire che effettivamente anche durante la valutazione di un piano di caratterizzazione effettivamente c'è questa possibilità di considerare di portare a confronto con la CSC non già i singoli superamenti ma una concentrazione rappresentativa in qualche modo come si fa per il resto anche quando si tratta di rischio in confronto concentrazione a noi sta molto a cuore due parole sui tempi posso dirlo questo è un tema abbastanza c'è un studio di commerci può lavorare abbastanza grazie grazie mille Maurizio approfitto per ribadire che il tema tempi è un tema che diciamo come settore industriale abbiamo sempre seguito molto da vicino prima di tutto perché noi adesso qui parliamo di analisi di rischio e sono emerse sicuramente criticità nelle situazioni molto complesse però la storia insegna che non tutti i siti sono uguali non tutte le situazioni di contaminazione sono uguali e soprattutto la grossa differenza sono le contaminazioni storiche e le contaminazioni nuove piuttosto che se è un sito in esercizio piuttosto che dismesso quindi già all'interno delle casistiche a cui va applicata l'analisi di rischio abbiamo delle differenze fattore tempo che in qualche modo abbiamo anche valutato diversamente per i siti di piccole dimensioni il fatto sta che nella norma è l'unica casistica anche un po' nella rete carburanti dove è previsto il famoso doppio binario piuttosto che analisi di rischio assoluta perché qual è il concetto che se la situazione è limitata ovviamente tante volte come diceva anche Francesca Motta è meglio intervenire piuttosto che andare a una capillarizzazione delle attività anche perché un altro aspetto che diciamo noi oggi facciamo un focus sull'analisi di rischio è il tema della riqualificazione cioè cosa faccio del sito perché l'obiettivo anche nell'ottica di sviluppare un'economia circolare a 360 gradi è quello di favorire la rindustrializzazione quindi lo sviluppo di brownfield restituendoli alla collettività quindi il fattore tempo è utile non soltanto perché io così ho più processi conclusi ma perché riesco anche ad attrarre investitori perché magari io ho l'onere della bonifica perché sono responsabile della contaminazione ma è importante soprattutto far qualcosa su quel sito quindi il tema tempo è un elemento che manterrei sempre centrale in valutazioni tecniche dove tante volte siccome l'obiettivo è molto sgranato rischia di perdere l'aspetto anche di riqualificazione e riutilizzo del sito Igor poi dopo c'è però diciamo il secondo giro se non c'è lui c'è anche il suo cugino con Flavio allora io dico parlo solo del primo punto mi attengo al conflitto no al programma ah caldo vabbè abbiamo un po' rotto le righe ormai è andato a programma anche perché sono state cose molto interessanti io volevo puntare la questione su un aspetto che forse ricomprende un po' tutto e che riguarda i mondi delle bonifiche in Italia oggi anche oggi si è parlato molto a livello diciamo tecnico a livello della proposta anche a livello di ad esempio dei cittadini che hanno partecipato prima posto che siamo tutti cittadini comunque sempre anche noi e nelle bonifiche ci sono due ottiche che esistono sono assolutamente obbligenti ma che di fatto non sono esplicitate nel senso prima si è parlato di SIN la differenza tra SIN e SIR ok bene ci sono i SIN in Italia ci sono i SIN i SIR e poi ci sono gli altri diverse decine di migliaia di procedimenti che sono quelli del territorio che ogni regione li ha chiamati da noi non si chiamano così no il nudo è bello perché è diversificato e purtroppo anche a livello centrale si fa a livello centrale sia il ministero sia gli istituti che stanno facendo uno sforzo suvrumano per gestire quello che hanno alla mano cioè principalmente i SIR ovviamente non riescono a occuparsi delle decine di migliaia perché sono decine di migliaia i procedimenti attivi sul territorio di competenza locale che sono i punti vendita sono singolarità cittadine le attività commerciali gli incidenti stradali conoscendo quasi tutti i presenti quindi sappiamo di cosa stiamo parlando allora le problematiche che ci sono a livello di un SIN e in parte anche a livello di un SIR sono completamente diverse dalle problematiche che ci sono su tutti gli altri siti del territorio e attenzione perché i siti del territorio ripeto è chiaro che chi è a livello centrale riesce a occuparsi fino a dove riesce se noi sommiamo le superfici di tutti i siti le decine di migliaia di siti dei procedimenti locali di Stintinità e sono molto di più di SIN per esempio se noi calcoliamo il giro d'affari nel settore di mercato delle decine di migliaia di siti sul territorio e molto di più dei budget che sono compresi nei siti che sembrano stratosferici molto di più e vogliamo di di un'arte centinaia e vogliare di un'arte tecnico al proglie a Romagna purtroppo però la differenza fra queste due modalità di operare una bonifica non viene percepita da chi poi fa fatica ma giustamente da chi poi fa le disposizioni a livello centrale allora insinano una categoria di problemi incredibili che giustamente le norme si cerca di strutturare le linee per risolvere quei problemi lì che però le cui norme di disposizione o dispositivi che siano letteralmente non vanno bene per le decine di migliaia di siti che sono sul territorio da noi in Emilia Romagna posso dirlo le bonifiche si fanno bene grazie i siti cominciano e dopo un po' finiscono anche bonifichiamo non abbiamo grossi problemi sulla questione della conflittualità io parlo io questo non va sì sì allora in Emilia Romagna abbiamo questa come alpare abbiamo qualcosa di più prendo questo abbiamo la particolarità di essere l'agenzia ambientale lo sapete così tutti ma avere anche la responsabilità dei procedimenti quindi ad esempio sono responsabile dei procedimenti sono spesso presidente della conferenza e sono anche l'agenzia ambientale chiaramente con i miei colleghi del territorio allora per farla breve io sul mio tavolo conferenziale non esiste che arrivi un'analisi di rischio senza che io presentata formalmente sul cui convo con la conferenza dei servizi senza che io sappia preventivamente già che cosa sta arrivando quindi viene tra virgolette concordata il termine corretto non è concordata ma chi deve fare le cose e noi responsabili del procedimento dobbiamo ricordarci che almeno noi non siamo l'autorità giudiziaria il nostro lavoro come tutti i responsabili del procedimento è quello di aiutare il cittadino a fare quello che deve fare seguendo la norma ok quindi sul mio tavolo non arriva mai un'analisi di rischio senza che ci siamo già tutti messi d'accordo ma tutti su che cosa arriva sul tavolo quindi la questione delle tempistiche che diceva Maurizio prima fondamentale è chiaro che questo a livello ministeriale è impossibile è impossibile perché c'è una macchinosità della struttura istanza anzi presentazione del progetto perché i procedimenti di bonifica non sono istanza sono procedure in ufficio e questa la dice insomma ha delle conseguenze che spesso non vengono prese in considerazione ma lasciamo perdere chi lo sa lo fa a livello di SIN il meccanismo istanza istituzione della conferenza convocazione valutazione approvozione è un meccanismo incredibile che fa perdere tantissimo tempo solo il meccanismo ok solo il meccanismo quindi ci sono sul territorio decine di migliaia di procedimenti di bonifica che vanno avanti con delle modalità gestibili a oggi ok vendo diverse facce di progettisti soggetti che trovo nel tavolo delle mie conferenze e credo che possano confermarlo dove abbiamo un procedimento di bonifica ci vediamo con tutti gli interessati molto spesso anche con i cittadini non vedo più il collega cittadino sta sotto il monito spesso anche come? anche le cittadine ma io sono esposto ok certo certo anche io sono stato esposto per un periodo siamo sulla stessa ma probabilmente perché sapevo bene come funzionava quindi non è mai stato un problema ma spesso anche con i cittadini ci troviamo valutiamo e andiamo avanti allora il problema principale di quella conflittualità è che a livello sovraordinato istituzionale il meccanismo non consente questo atteggiamento nei SIN è impossibile fare questa cosa nei SIR è un po' più facile c'è chi riesce a farlo c'è chi no sul territorio volevo si fa sempre allora dobbiamo fare attenzione a evocare cambiamenti della situazione perché niente funziona ci sono delle criticità sicuramente di SIN e in altre situazioni che vanno risolte un po' anche sul territorio ma non è che oggi le bonifiche non si fanno scusate le domande là che ne gestisce anche di toste ma ne apriamo e ci mettiamo insieme in Germania e in Lombardia ne apriamo ogni anno decine e decine ne chiudiamo ogni anno decine e decine con risultati assolutamente apprezzabili di risanamento di tutela dei cittadini di tutela della salute quindi le cose si fanno allora sarebbe bene e lo dico perché ripeto anche a livello centrale anche a livello politico questa percezione non c'è tanto allora le bonifiche non funzionano aspetta quali bonifiche che poi non funzionano ci sono dei problemi ma non di chi fa le cose che è gente assolutamente esperta e capace anche super esperta e super capace è una questione di meccanismo molto spesso l'analisi di rischio è uno strumento come tutti gli strumenti il problema non è nello strumento ma è come viene usato scusate quindi lo strumento può essere perfezionato e siamo d'accordo sul territorio è anche più facile prendere le decisioni chi è che diceva prima il decisore è in difficoltà ecco sui miei tavoli sono io il decisore sono lì c'è quello che mi presenta il problema c'è quello che ha l'osservazione ci mettiamo insieme e alla fine bisogna trovare una soluzione che vada bene per tutti lui deve chiudere quindi io farei questa differenza tra quello che funziona e quello che non funziona ma due mondi separati nello scenario delle politiche istituzionali c'è poi SIN e un po' SIR e le decine di migliaia sul territorio quindi evocare o invocare cambiamenti in funzione di cose bisogna anche inquadrarle in che contesto stiamo parlando basta grazie appoggia appoggia ecco posso fare un secondo intervento scusatemi a buro va tranquillo ci mancherebbe casa 2 perché le cose che sono state dette mi hanno fatto sentire veramente vecchio perché il primo corso di analisi di rischio avevo fatto nel 97 appena è uscito il ronchi poi nel 99 è arrivato il 471 che citava l'analisi di rischio come una possibilità da utilizzare laddove le migliori tecniche disponibili a costi sostenibili non dessero i risultati tutti sapevamo che non esistevano tecniche disponibili a costi sostenibili per tutte le boniche era un ragionamento semplice mutuato dagli Stati Uniti da chi stava affrontando problemi grandi qual è stato il tema che diciamo ci ha fatto desistere faccio un breve aneddoto è il tema del compromesso perché per riuscire a procedere secondo il 471 bisognava essere in grado di gestire un compromesso cioè quello di decidere che cos'era sostenibile cosa non era sostenibile che cos'era spendibile cosa no cos'era tutelante cosa no pochi avevano la competenza quello che dicevamo prima non c'era ci siamo spaventati tutti quanti e la politica è riuscita sotto spinte più o meno secondo me lungimiranti a fare questo giro questa curva stretta di trasformare uno strumento che era quello dell'analisi di rischio diretta per la gestione del rischio in uno strumento per la definizione dei limiti di bonifica 2006 mi ricordo le riunioni nel mio ufficio si diceva esattamente questo finirà che diventeremo delle macchinette delle slot machine per tirare fuori i numeri perché non verrà gestita l'analisi di rischio per capire quali sono i problemi il primo scopo dell'analisi di rischio è quello di capire qual è il problema e definire sulla base dei percorsi quali sono i problemi non è che non si possa fare neanche adesso però per farlo adesso ci vuole una lungimiranza e un'autonomia che è quella di Igor ma purtroppo non ce n'è a sufficienza di Igor lo cloniamo per poter gestire questo aspetto in maniera trasparente possiamo tagliarla ultima cosa che voglio dire è che io da sempre discuto dell'analisi di rischio come il campo diciamo il campo di gioco del compromesso l'analisi di rischio è lo strumento che è stato dato in mano alle parti sociali per dirimere il compromesso tra industria e ambiente è questo il tema per gestire un compromesso ci vogliono le spalle larghe ci vogliono le competenze ci vogliono l'autonomia negli ultimi anni l'unica persona che sono riuscito a intercettare che mi ha fatto questo ragionamento prima che glielo facessi io sapete chi è stato? il colonnello dei carabinieri del del commissariato per le comuni maggiore il maggiore come si chiama? il generale il fabotto il fabotto è maggiore non sbagli i gradi non sbagliate i gradi se no accorgiamo le persone che cosa mi dice questo? uno che fortunatamente abbiamo anche nell'arma qualcuno che ha capito esattamente di cosa stiamo parlando sfortunatamente è l'unica persona che incontro che mi fa questo ragionamento altamente culturale e tecnico e invece io me lo aspetterei in un sacco di altri consessi questo mi fa pensare che forse oggi purtroppo l'autonomia per prendere per fare un compromesso ce l'hanno i carabinieri o ce l'hanno i magistrati e questo purtroppo è un discorso politico abbiamo lasciato che gli unici ad essere autonomi a prendere decisioni sull'ambiente lo sviluppo la compatibilità fossero diciamo non i tecnici e neanche gli amministratori di questo ci dobbiamo solo rammaricare se ne siamo consapevoli abbiamo già fatto un passo avanti grazie anti-intervento la collega poi grazie si ormai siamo andati col microfono scarico quindi grazie sono Gabriella Pogliano studio Planeta quindi consulente allora il mio intervento più o meno è una proposta diciamo operativa e si ricollega all'interzo quesito cioè valutare come l'analisi del rischio può essere uno strumento per rendere possibile la fruizione della qualificazione sostenibile delle aree uno dei grossi problemi che si hanno specialmente in aree urbane su siti che assolutamente non hanno problematiche ambientali rilevanti ma sono entrati in procedura di bonifica perché sono stati riscontrati dei superamenti dei limiti dell'Ari e la gestione del terreno di riporto sorrido perché vedo insomma ecco questo è un problema veramente difficile e di difficile gestione perché da una parte come consulenti ci vediamo anche dalle amministrazioni comunali delle richieste di rendere il più possibile la qualificazione compatibile dal punto di vista ambientale quindi garantire le varianze idrauliche aumentare le aree permeabili sappiamo benissimo come le reti ormai di gestione delle altre meteorie che siano ormai assolutamente adeguate rispetto alle situazioni in aria urbane e poi non riusciamo a gestire delle problematiche assolutamente irrilevanti come riporti che hanno spessori ridicoli falde molto profonde e spesso superamente in test di gestione di sostanze che non sono neanche presenti in terreno in concentrazioni superiori alle CSC noi abbiamo fatto diversi tentativi di gestire queste situazioni con analisi rischio quindi applicare analisi rischio al terreno di riporto sfruttando anche il fatto che ormai il software rischio per dire le versioni più aggiornate possono anche simulare la riciclazione dall'eluvato ci siamo scontrati quegli enti di controllo perché dal punto di vista tecnico hanno condiviso la nostra impostazione ma poi dal punto di vista diciamo del punto legislativo assolutamente non si riesce a fare quindi la mia rona proposta operativa per visto che si sta cercando di valutare anche le linee guida sull'analisi di rischio di allargare che cosa che comunque comporterebbe anche delle modifiche a livello legislativo la possibilità di gestire questa problematica perché effettivamente forse la problematica è questo momento più difficile da gestire in aria urbana grazie scusa materiali di riporto o terreni di riporto no perché allora stiamo parlando di terreni di riporto con una percentuale antropica spesso inferiore al 20% quindi assimilabili dal punto di vista tessiturale cronometrico un terreno a tutti gli effetti sono applicate di PR 120 ciò non toglie che spesso siano anche essi non conformi a testa di gestione in effetti c'è una zona grigia di distinzione tra loro e l'altro perché tu un terreno di riporto mauri scusa Maurizio vieni vieni tra i tanti gruppi di lavoro smpa c'è stato anche quello recente il terre e rocce la scavola si è preso anche in considerazione questo aspetto la domanda era proprio per capire cercate di capire se c'è una zona grigia diciamo di interpretazione che possa aiutare risolvere perché chiaramente allora se parliamo di materiale di riporto così come definiti nella norma le arpa hanno ragione tecnicamente ci sta quello che dici però poi alla fine la norma è informata la puntigliosità sta nella differenza tra terreni di riporto perché il geologo il terreno di riporto generalmente lo riconosce in campo perché ci trova la lattina di birra e il tappo di sura c'è degli elementi all'optoni ok che però di per sé non avevano magari sicuramente se sono in percentuali molto limitate la funzionalità di fare un riempimento ok quindi sostanzialmente quello lì è un terreno naturale in cui occasionalmente c'è del materiale antronico molto come dire in bassa si esporta proprio occasionale no a quel caso lì uno potrebbe diciamo valutata specificamente la situazione c'è il terreno di riporto in cui occasionalmente c'è la lattina di birra tappo di sura quello che è e in questo caso quindi è assimilabile al terreno naturale all'ottono diciamo e quindi si vorrebbe fare l'analisi di rischio nel senso anche perché dal punto di vista testitulare nel momento stesso in cui effettivamente ora viene data la decetta di materiale di riporto senza la normativa è effettivamente la norma lì che frega diciamo il peccato originale sta nella caratterizzazione nel senso che nel momento in cui uno lo caratterizza con test di cessione e casualmente non è conforme a volte persino per le mie per metà non è una caratterizzazione scusami no è un passo prima è nel riconoscimento in campo di dire è materiale di riporto o terreno di riporto perché se è materiale di riporto è un default cioè il comma 2 dell'articolo 3 del decreto di riporto di riporto di riporto di riporto ti impone di fare l'altre di gestione capito è un fatto proprio peccanico normativo quindi il discrimine quello che ti può aiutare che ti può aiutare è andare a dire se effettivamente è un materiale di riporto o terreno di riporto con la latina occasionale tanto che stiamo parlando di terreni di riporto storici che hanno 30, 40, 50 anni va bene certo però se sono metà sono 40, 100 di riporto va bene allora ottimizziamo gli ultimi minuti preziosi visto che si è aperto il vaso di palidora dei materiali di riporto che è un vaso di palidora intanto per i materiali di riporto assimilabili a terreni quindi quelli conformi al test di cessione famoso intanto stiamo pensando anche di provare a rivedere il tipo di test di cessione poi se il legislatore lo volesse anche includere nella norma noi a livello tecnico ci stiamo pensando seriamente e una delle attività fatte per parlare di test di l'isciviazione non abbiamo chiamato test di cessione l'abbiamo chiamato test di l'isciviazione che è una cosa un po' diversa però anche quello va standardizzato e va soprattutto condiviso cioè l'obiettivo quando si parla di indagini è un po' fare quello che è stato fatto per i casi cioè che venga a fare una linea guida come la 16 che poi ti dà le metodiche analitiche di tutto quello che devi fare per la valutazione quindi non è solo dire fai questo fai il MADEP come lo fai il MADEP fai il KD come lo fai il KD quindi non è una cosa semplice da fare per i materiali di riporto come diceva Maurizio c'è un problema in più a proposito di CSR perché se quello non è un terreno solo terreno qual è la porosità di un materiale di riporto? qual è la granulometria di un materiale di riporto? qual è il contenuto volumetrico di aria? perché di acqua magari si ma di aria quindi come gli applico un modello analitico livello 2 a una cosa che è terreno misto a in percentuali che posso aria neanche a 50-50 se è terreno misto per esempio a qualcosa che si in terreno penso alla scoria ancora ancora se è terreno misto alla qualunque dal pezzetto di calcestruzzo piuttosto che il mattone piuttosto il tappo di zucchero quindi capite bene che come diceva giustamente Renato va bene anche chi ha l'equazione più lunga ma ci sono delle casistiche che a nostro giudizio un modello non potrà mai descrivere e i materiali di riporto sono una di esse e purtroppo dico purtroppo perché la norma mette dei limiti sui materiali di riporto ma purtroppo gli applica anche l'analisi di rischio così come definita dalla parte quarta di toro quinto e credetemi credeteci nel gruppo di lavoro il primo giorno che ci siamo seduti come la mettiamo con i materiali di riporto conformi è stato il primo argomento testimoni i miei colleghi che sono qui quindi capite bene che la parte come dire questo argomento è uno ad esempio degli argomenti su cui il manuale dovrà avere un capitolo specifico cioè analisi di rischio applicata ai materiali di riporto non ai terreni ai materiali di riporto che avrà probabilmente una connotazione peculiare specifica per i materiali di riporto quindi per rispondere brevemente volevo fare a questo punto un commento personale quindi non a nome del gruppo di lavoro ma personale relativamente alle tre domande quindi vi dico anche la mia opinione personale che è personale e del perché sono lì gli elementi di conflitto chiaramente si riducono giustamente laddove c'è un confronto tecnico preliminare ma vi posso assicurare che personalmente mi sono testimoni colleghi del ministero ho fatto n riunioni tecniche anzi n più 1 e non sempre questo risponde a Igor almeno nei SIN il confronto tecnico nonostante la disponibilità di noi tutti ha determinato poi un esito positivo molto spesso cioè diciamo un 50-50 e ribadisco questo a nome di SNPA che quando si cerca di rendere troppo complessa la valutazione questo implica un onere sia a carico di chi fa lo studio ha un grande potere corrispondono grandi responsabilità sia a chi lo valuta e soprattutto a chi lo valuta tocca l'onere di validare tutto quello che viene messo in input all'analisi di rischio e quindi ribadisco il sistema o comunque gli enti di controllo non sono in grado di verificare tutto e quindi bisogna trovare un compromesso tra ciò il meglio e il nemico del bene tra ciò che sarebbe bello fare sarebbe bello come dire modellizzare anche in maniera complessa e ciò che è fattibile secondo noi complicare troppo vuol dire anche avere un'incertezza perché pensate ogni parametro aggiuntivo che deve essere verificato dall'ente di controllo appunto abbiamo l'incertezza di misura l'incertezza di campionamento eccetera 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 si consente di gestire le situazioni ma impone dei vincoli cioè faccio l'esempio è sempre classico la CSC ha come vincolo solo la destinazione d'uso punto cioè lì sopra quando c'è scritto residenziale ci vuole quello che ti pare se fai anche un'analisi di rischio residenziale con tutte le cautele del caso metti dei vincoli se faccio un edificio qui piuttosto che lì mi cambia la situazione e chiaramente e mi metto nei panni di chi deve decidere bisogna anche qui bilanciare i vincoli che si mettono con il risultato perché altrimenti si facciamo uno studio flessibile magari focalizziamo la bonifica laddove è necessario ma poi abbiamo un sito che non può essere riqualificato perché poi se domani mattina decide che sposto l'edificio di 30 metri devo rifare tutto da capo questo non è come dire non è come al solito per smontare chi mi conosce lo sa che cerco di difendere lo strumento da anni ma come dire dobbiamo cercare anche degli elementi di generalità nello studio degli elementi imprescindibili che lo rendano il più possibile adattabile a tutte le stagioni un po' come il pret-à-porter grazie grazie allora l'ultimo intervento prima di passare la parola per le conclusioni al dottor franco zinoni direttore tecnico di acqua guido presenti buongiorno a tutti sono guido bonfedi di any rewind ma un giusto una considerazione perché volente o non volente ormai sono vent'anni di conferenze di servizi in giro per l'italia venendo appunto dai sin ai sirai a quelli che sono le situazioni più locali e la cosa che vedo è che comunque c'è stato anche negli ultimi anni un cambiamento anche radicale nel rapporto con gli enti cioè il confronto che stiamo infatti non riesco neanche a dire il conflitto per me è un confronto quello che deve essere e il confronto secondo me è lo strumento veramente per riuscire a trovare quei sistemi e quelle modalità per andare in azione di riqualificare i siti perché purtroppo viviamo in un paese che è stretto e lungo con pochi terreni viaggini quindi quelli che abbiamo a Brownfield dobbiamo in qualche modo tentare di gestirli e poi una cosa un'osservazione che mi sento dire non bonificare costa nel senso che mi dico un'esperienza il non bonificare per lui dico per Montalini costa circa 100 milioni euro all'anno quindi non è vero che non bonificare le aziende hanno la tendenza non vogliono bonificare perché non bonificare ha un costo un costo tangibile è un costo economico è un costo in termini di impatto e quindi il mantenere degli strumenti scusate allora appoggio e lascio l'acceso che così parli meglio eccoci mi sentite? sì il mantenere comunque correttamente degli strumenti a salvaguarda di quelli che è il territorio e le persone ha un costo ed è un costo importante per cui i tempi diventano fondamentali tutto quello che riusciamo a fare per accelerare appunto le tempistiche di approvazione di andare e chiudere i procedimenti di bonifica sicuramente ci aiuta quindi questo lo possiamo fare solamente insieme e devo dire che anche in questa strada ci sono un buona parte dei soggetti che possono lavorare in questa direzione perché siamo assolutamente tutti i soggetti principali grazie grazie inviterei allora il dottor Zinoni per le conclusioni mi lascio la serie lo mettiamo qua certo l'abbiamo messo in mezzo grazie grazie dell'invito ringrazio Ispra i colleghi per la giornata estremamente interessante sia la mattina e forse ancora di più il pomeriggio per le riflessioni che sono state fatte allora innanzitutto noi forse passiamo un po' troppo spesso dal termine conflitto a condivisione sono due termini che non mi piacciono più di tanto direi che preferisco come è stato appena ricordato ora il termine confronto secondo me il termine confronto è un termine corretto che noi dobbiamo utilizzare sempre di più sia con i proponenti con i gestori sia con i cittadini soprattutto quando i cittadini sono preparati e vogliono dare il loro contributo sugli aspetti tecnici e condivido perfettamente la riflessione che ha fatto prima Fabio su questo aspetto avete visto benissimo l'ambiente nel quale poi noi ci troviamo a operare come ARPA soprattutto noi che come ricordava prima Igor da qualche anno abbiamo anche siamo anche autorità competente abbiamo l'onere della gestione delle conferenze di servizi conferenze di servizi oggi è stato ricordato che spesso portano conflitti ralentamento di tempi eccetera conferenze di servizi noi la stiamo utilizzando come uno strumento per accorciare i tempi per arrivare velocemente alla chiusura dei procedimenti il problema è che dipende da come arrivi la conferenza di servizi Igor ha utilizzato un termine sostanzialmente forse improprio prima direi che quando arriviamo bisogna arrivare alle conferenze di servizi non concordando ovviamente il risultato ma quello che si concorda è che cosa si porta alla conferenza di servizi aver già visto il materiale che arriva alla conferenza di servizi allora in quel caso si prende atto di tutto e in conferenza di servizi si trovano le soluzioni ragionevoli perché poi alla fine dobbiamo anche capire che non sempre è difficile convincere gli altri che la scelta è l'unica possibile o che comunque la scelta che noi facciamo sostanzialmente è rispettosa di quello che può essere il pensiero dell'altro dobbiamo tener conto del pensiero delle parti ma poi la scelta è una scelta che deve tenere conto soprattutto della norma delle possibili le opzioni che sono sul tavolo di che cosa è necessario fare per risolvere i problemi quindi questo è il ruolo che noi giochiamo in conferenza di servizi che giochiamo quando facciamo un parere per fare questo direi che sono estremamente importanti anche giornate come questa che credo che venga dall'esperienza dei tavoli di Remtec dalla giornata che c'è stata a novembre sui campi elettromagnetici anche in quel caso è stato un confronto molto proficuo io oggi l'ho trovato una giornata estremamente interessante non do il mio contributo tecnico perché i tecnici che hanno parlato io sono passato i modellisti in altro settore qualche riflessione provate di fare ma un'altra volta però direi che è estremamente estremamente interessante questa giornata e direi che personalmente come probabilmente molti dei presenti oggi mi porto a casa un'esperienza che senz'altro ho già pensato qualche cosa posso fare già nei prossimi giorni per cercare di migliorare il nostro approccio al tema che riguarda i siti contaminati bonifichi analisi di rischio quindi ringrazio anche tutti i partecipanti per essere qui oggi e per aver condivisto queste esperienze insieme a noi grazie a tutti grazie grazie posso aggiungere una cosa? aggiungi aggiungi mi dà permesso no aggiungi ma che dà permesso questa esperienza lascia ridere fermi sto rimettendo anche il flattereclima Igor ha messo l'accento sulle varie situazioni SIN SIR e tante situazioni locali per cui forse il supporto che potremmo dare anche da quello che oggi ci siamo detti a chi dovrà poi mettere mano a ci hanno detto che elaboreranno di nuovo riveleranno e visiteranno la parte quarta iniziando dagli allegati potrebbe anche essere quella di dire le realtà sono tante adesso viene diversificato solo i SIN perché quello è la gestione del ministero ma forse sarebbe il caso anche di cominciare a diversificare o dare degli input non so se poi questo si può fare nell'ambito della norma o con linee licenziare cioè la norma ci deve dare la possibilità di licenziare delle linee guida per suddivisa piccoli perché per esempio è vero che c'è quello sull'istitutore eccetera però ho capito che anche lì ci stanno un sacco di problemi perché c'è una norma allora forse un input che bisognerebbe dare adesso a chi dovrà poi rivedere un po' tutto è quello di dire oggi lo sappiamo che le realtà sono tante sono complesse perché noi qui adesso non abbiamo parlato di aree raste argomento di cui invece domani sì Taranto non è più il SIN di Taranto non è l'ILVA di Taranto ma è l'area vasta di Taranto che vede 3-4 aree abbastanza importanti con tutte le problematiche che ci sono e ci siamo dimenticati anche che all'interno dei SIN c'è pure tutto il problema dei sedimenti c'è tutto il problema del nonare ci siamo dimenticati nel senso che non ci sono valori non ci sono riferimenti per cui forse un input potrebbe anche essere questo cominciare a diventare un pochino però non è la norma perché poi ci rigidiamo di nuovo ma dare la possibilità di fare delle linee guida a seconda delle aree delle situazioni perché perché poi pure il fatto se vogliamo stare a discutere lasciamo verde ma anche quando si parla di uso commerciale e industriale che significa commerciale e industriale l'esposizione come la si valuta perché in un'area industriale ben definita e facile diventa complicato in un'area commerciale che significa commerciale quando è commerciale che cosa implica un'esposizione qual è la struttura del commerciale allora forse bisognerebbe iniziare a dare questi input a chi poi dovrà prendere delle decisioni dare la possibilità di fare delle linee guida che entrano poi non che diventano della norma ma che la norma lascia spazio alle linee guida grazie a tutti a questo punto ci si può alzare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti